gentili spedatori di rapallo 2 oggi sono qui per illustrarvi il video che segue lo staff del ghetto composto da davide massone mi ha sfidato in un'impresa davvero epica ovvero di arampicarmi assieme a fabian iotti cameraman di rapallo 2 sul monte situato nella madonna nera io e fabian siamo saliti attraverso rovi levalo levalo levami il rovo abbiamo acceso un falò eccolo qui abbiamo dormito in tenda e molto altro tutto questo qui in questo video al supermercato andiamo a tasto eccoci con i camerati i camerati ma sei in live eh si ma no si si dopo la spesa perché la spesa è importantissima e vabbè non si vede dai io credo non si vede non si vede ciao ciao nicola le vera amicizia l'altro grande fabian che è tenuto però gli energy drink sono più buoni dall'euro speed 65 centesimi ma è la prima volta che entro la parte va bene noi facciamo un giro a reparto produccia allora fabian vieni un attimo cosa ne pensi di questo ma siamo in una situazione non lo so perché patatina direi direi di si sconto direi di si non possiamo perderci eh certo un pacchetto almeno eh certo se è ridotto zi eh lo so lo so mettere la tenda e accendere un fuoco quindi accendino carta per accendere il fuoco oppure si fa eh si cosa facciamo salsicce non lo so salsicce che devo dire marshmallow anche ma dimmi fabian cioè la mia domanda è ma cosa ti ha convinto a venire non avevo un cazzo da fare è verità non avevo niente da fare e poi sembrava anche interessante schiavo carne di ottima qualità sto qui anche a cuocere in campagna ecco guarda questo è comunismo lo capisci anche te che questo è comunismo prodotti comunisti rossi bianchi la vergogna lo facciamo facciamo le bruschette che fai cos'è che si è portato a proposta attrezzatura per metterci la gopro perché la gopro poi cuffie perché poi per l'audio il microfono sacco a pelo sacco a pelo ma senza tendo si piove poi senza tenda e basta si senza niente non c'hai no a mano si è bravo c'è l'acciarino come minecraft ma no non ce l'ho l'accendino lo compriamo con i soldi comunque potremmo a questo punto prendere sempre questo quello è già aperto buono per le cacchette perfetta chi è il tuo ospite preferito di Grimbaud me l'acqua dove acqua nel reparto acqua nel reparto bibite nel nel di là di là vado a prendere io eccole gasosa va beh acqua la gasosa non è acqua la gasosa attenzione ecco qui un esperto taccheggiatore in azione dovevi laurearti quella più economica 60 anni no naturale poi se frizzante se devo cagare nella foresta come faccio al fatto che è sessante si si sguarda è calda guardate hopper brigandà riesci a tenere anche questo non ti voglio scavizzare no non ti voglio dire razzismo faccio finare la carne no ci mettete tutti da lato di palermo Polonia è una città che rovina le anime perché è piena di droga Pallo mi segnala la presenza di rubino all'interno del supermercato Già che ci siete potete anche io Il bel di Gerubino, dov'è? Ma... Dov'è? Un reparto dolci, probabilmente Capo, sei visto l'anima del quindicenne Proce napoletano mafioso Mi prendiamo un altro No, non l'ho visto l'anima del quindicenne Proce napoletano mafioso Tu l'hai visto? Cosa? L'anima... Capo, sei visto l'anima del quindicenne Proce napoletano mafioso? No Un reparto salsicce Eh sì Mi sembra molto interessante Perché ti piacciono? No Bravo Fabian Quante gare Bravo Fabian Adesso ti tengo questa Solo per farti fare una cosa Un saluto Dai dai Qua è troppo sollato Tre pallo guardi il calcio No però lo apprezzo perché Tiene l'Italia unita Lo apprezzo solo per quello Non è vero Non è vero Divide l'Italia Cosa dici perché Vabbè ma quando gioca l'Italia però no Eh ma è l'unica volta Eh l'unica volta in cui sono Infatti a me piace solo quella L'unità Dov'è Rubino? Strano che non è qua Dov'è Rubino? Eh Rubino ma le tuccherate Era qui Bene questo alpistacchio Ma sì a me va Io mangio tutto Tutto anche le sedie Anche le lucertoe No No Perché? Sono Aram Cioè? Vanno contro l'Islam E che tu sei Tu sei banico? No Ma perché? Non lo vedi che è sudamericano Eh no non so Non so le tue origini Però Ah quindi per te sono tutti uguali Sono tutti uguali Complimenti Bravo Bravo Allora secondo l'Islam Le lucertole e pochi altri animali Come gli scorpioni e i serpenti Erano gli unici animali Che quando passava a Maometto Non lo salutavano E quindi era Aram Ah capito vedi Cultura qua Secondo me Aram l'hanno sentito dalla musica di rondo e basta Non vuoi un po' di candeggina? Sì magari per morire Ok Da qua lo so ne pensi dell'eutanasia Però o contro? Pro Ma la fine Ma la fine Scusi se è una nonna Se è madre Tu uccideresti Se è paralizzata Se è paralizzata E lo chiede Cioè la possibilità di dirlo Sì Cioè se lei richiede l'eutanasia Sì E se non lo vuole? Se non lo vuole no E se te lo vuoi? No No Decide lei Ovvio Il lene di vitrine? Cioè io Tranquillo A posto No perché poi lui ti dite A posto A posto A posto Lì ho a casa Coerenza Mi sembra che hai la maglietta De Napoli Eh lo so Sono abbinato Guardate io che maglietta basata Guardate Bevanda dei comunisti Indicazioni Dove venire Sai dove sono le rosse? Sì I pontini c'è via La Giano Sì I pontini Sì Scusa arrivi dal ponte d'autostrada Che sopra c'è il pontio Altissimo Sì Giri a destra E continui la salita Sì Perché mando a posto Su Maps Ok Vedi? Vedi come è tolto Non è utile il casco Ottima spesa Che schifo Rappallo 2 Che merda Che merda Ma come si permette? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Ma sentite Cioè Ma sentite Ma come si permette? Vengono per strada Come si permette? Ma come si permette? Cioè Snipeati Andate già verso Ok andiamo verso le rosse Andiamo Fabian Forza Forza Non senti i brividi Forza Fabian Forza Andiamo Guarda che c'è sempre vento in queste zone Meno male Sempre un cazzo di vento Dai cazzo Carico Carico Uomo Guarda che vorrei montare la GoPro Prima di salire Certamente ne ho comprata una nuova Ci ho messo la memory card E in teoria Tutto il viaggio Tranne la notte Dovrebbe registrarlo E poi lo carico su Rappallo 2 Grazie Vedete? Questo è quello che Doria Doria merda Doria merda Che non hanno più senso Esatto Tu puoi carabocchi La parola del tuo amico è marocchino? Ma va È un brasiliano No non sono marocchino Ma non è Perché sono tutti Mi dicono che sono marocchino Vabbè mica è un'offesa Essere marocchini Io sono rumeno Ecco vedi No 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 Per me non è un'offesa Però Il fatto è che Io mi sono trovato Con dei marocchini Che strada Che mi iniziano a parlare La loro lingua E poi mi chiedo Sei marocchino? Io ovviamente Gli ho fatto una patta Di peccato Mi sento qua E lui Sei marocchino? Io no Non hai neanche i genitori marocchini Non hai neanche un briciolo Del sangue marocchino Tra l'altro Ma neanche Una cellula Cioè neanche una cellula Un elettrone Un elettrone marocchino Viviamo di qui Salutiamo il duce Cioè volevo dire mia nonna No mia nonna non è il duce Non è il duce Ma nel dubbio Un salutino Lo facciamo E ricordate che questi momenti Sono quelli da ricordare Durante il viaggio E l'importante non è la destinazione Ma è quante volte Riesci a inneggiare al duce Occhio Non mi investirai oggi Investito in live Sì è già successo eh C'è già il video Ma sull'altro canale Ehi 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 Forco dio Testa di cazzo Ma sul serio? No Davide Davide Massone Ah ok Ti piacciono queste pubblicità? Madonna Di sapere tutte Guarda Questa donna Guarda Secondo te Perché è sorpresa? Ha vinto Per primo Un card Cosa Dici? Perché secondo te è sorpresa Allora Allora forse posso scoprirlo Mettiti a fianco No No Ho già capito cosa vuoi fare Sì è sorpresa Eccolo qui ragazzi Il parco della droga Qua spacciano Secondo punto qua Spacciano droga Oltre al parco delle fontanine Questo è il secondo parco Dove spacciano di più Eccole Guardia di finanza Le sacre camicie Della Stato I sacri protettori Ma queste non sono le rosse Lo sai Queste sono le marconi E questa è la sborra Qua le marconi Qui ho un po' paura Di accelevare il passo Perché qua ci ammazzano Un po' di degrado In questo posto Comunque vedete Non è una struttura molto Non è che incute molto Molta sicurezza Non è che incuta molta sicurezza Tutto vuoto Allora Adesso faccio Ma si scusami Cazzo Camminiamo per strada Cioè Fate un po' Osteggio In allestimento In allestimento Un ponteggio comunque Ah un ponteggio Ponteggio Che degrado qui Che degrado Che degrado Che degrado No Comunista Autocomunista Che schifo Sputa Sputiamo Su quell'auto Ecco Ecco Birra Accanto a un muro Rispetto per l'ambiente Zero in questo mondo Ormai Cartello comunista Stop Un po' quello che vorrebbe Durbino Alla mia parlata Darci un Novo Uno stop Eccole qui Le scuole Del degrado No sto scherzando E poi mi denunciano Occhio che in questa strada ci stanno i comunisti Eh sì 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 I fascisti stanno nell'entroterra Li picchiamo Appena dividiamo qui Ovvio Ma adesso se ci fermiamo montiamo un attimo in quella gabina Dello scopaggio Nella gabina dello scopaggio Montiamo Mi sta chiamando Dado Ma perché chiama me? Chiamalo te Chiamalo te Richiamalo Sai che l'hanno chiamato in tanti Quindi ah ma mi ha chiamato a me Io non l'ho risposto Sono deficiente Allora un attimo Manifestazione LGBT Tu Oh cazzo Oh cazzo Ragazzi Sì Pronto Ho sputato per sbaglio qui Non volevo sputare Ho sputato qui per sbaglio Guardate Mi vergogno Nel tabacchi Montiamo la GoPro Che cazzo di caldo 29 gradi eh Montiamo la GoPro sul casco E andiamo Adesso la agganciamo Eh come? Sono curioso Un modo c'è Un modo c'è Ah già spero Prima agganciamo questo Così Questa la metto qua Non so se è poco igienico Dovrei avere i pezzi E Come cazzo si fa ad agganciare? Ah così 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 Con questo Con questo Cos'hai pensi di omosessuali? Non posso sputare tutte le volte Dobbiamo legarla È mica dello scotch Ma compriamo del nostro adesivo dal Vabbè Non mi sembra tanto Dal tabacchi Eh tanto dobbiamo prendere anche Compriamo del nostro adesivo va Ma come pensi da religione Sia un branco di folli Dipende se sono fanatici Se sono fanatici Sono dei fogli Ma se non lo sono No Come Come è tutto Basta Ecco Mettilo lì Scusami se te lo fatto tenere Andiamo Abbiamo perso del tempo Vabbè Ah questo qui è un tabacchi Ovviamente pago io Ciao Ciao Allora Avete mica un accendino E dei fogli di carta Sì sì dei fogli qualunque Dei giornali anche può andar bene Vabbè basta un foglio Qualunque cosa Avete mica anche del nostro adesivo Guarda Ha fatto questo così Sì Un migliore Quindi Un po' di cibo Cioè Quello lì Quello lì Va benissimo Quello lì marrone Perfetto Perfetto Basta così Grazie mille Grazie Arrivederci Accende Sì Ma che cazzo Ma è una Miniatura Cioè Un accendino Miniatura Ah il nastro adesivo Ora lo usiamo per Appiccicare La fotocamera Perché paghi Eh Perché sì So che non dovrei Ma tranquilli Perché paghi Pago perché Se no in diretta Non lo so No non è Qua dobbiamo andare No Dopo il ponte Allora andiamo avanti La popolazione si deve aiutare a vicenda Hai ragione Verano italiani però Capite Comunque se Se era magari un negozio Non lo so Di gente che non ama la patria Magari avrei anche provato a non pagare Però si tratta di italiani puri di sangue Classici italiani Ligui E io Pago sempre per un italiano Sempre L'attacchiamo qua Adesso con il nastro adesivo Attacchiamo la fotocamera Al casco Allora L'ho messa nel culo L'ho messa nel culo E adesso andiamo Allora L'accendiamo Anzi attacchiamo questo Spito su che piole Mi sono già applicati Non so come il caso Aprivi Uno scotch Uno scotch Io sono invece al primo anno universitario Allora Al cuore Cioè Fabian Non ti hanno insegnato ad aprire lo scotch La polizia è sotto la mafia Purtroppo non tutti Non tutti Ma vi assicuro che secondo me c'è più mafia al nord che al sud Aspetta Tienimela Tienimela qui Fabian Tienimela per se Prima di più scotch Eh si lo so Lo so Questo non so da un cazzo Lo so un attimo Sì Ho detto Di scotch Non ti ritardo Falsissimo Lince Ben fissata Abbastanza Più o meno L'importante è che non copra l'obiettivo Sì dai Ben fissato Mettiamo ancora un po' E Ecco Comunque ho un cavalletto di riserva nel caso si rompesse Ecco Come ne dite Che questo mi serve Hai un canale su Twitch Me l'hanno bloccati Io ne avevo ben otto di canali Twitch Tutti bloccati Guardate che operaio edile Assumetelo Mani forti Mani giovani Assumete questo operaio Guardate che rifinitura Da artigiano La parola cosa ne pensi del vaccino Eh che il vaccino è buono È una cosa giusta Perché è la cura Il vaccino ha sempre curato le malattie Sempre Quindi è una cosa giusta La gente che non lo vuole fare Sono quelli che Sono pro alle LGBT Queste cose qui Capite Sono i fanatici Ah quindi tu stai dicendo che io sono un fanatico Perché sei pro alle LGBT No Non sono pro alle LGBT Allora non sei un fanatico Perché non faccio Perché non faccio il vaccino Hai appena fermato questo Eh ma io non lo Anch'io non faccio il vaccino Però non per mia volontà Grande Fabio Guardate che Davvero Guardate che rifiniture Allora adesso Perché questa dovrà rimanere in testa Per un sacco di ore Adesso Apriamo Questa qui è la GoPro Ecco Sta già registrando No non sta registrando Allora aspetta Zoom a zero La mettiamo qui Con registrazione Mettiamo dello scotch Aspetta no no Non si chiude perché Ciede dello scotch C'è proprio perché Non è che lo aspetta Ecco Hai provato a togliere bene lo scotch Eh no perché è al contrario L'abbiamo messo al contrario Ah Ma non importa Vediamo dello scotch La richiudiamo con lo scotch Porco giuda Sta ancora Eh che casino Ci tolgono la libertà Se non ti vaccini Questa è mafia No è una cosa giusta Perché La vera libertà Non è essere liberi La vera libertà Quando Si hanno dei valori Porca miseria Mi sa che Guarda che è scarico Come è scarico C'è una tacca Ma Paolo Se conosci E forse mi dai L'idea Del tipo così C'è una tacca Ma che cazzo Ma la colla In effetti Lo sai che Si muoverà un botto Lo sai no Ma no è vero Si all'interno Guarda come si muove Perché la sto scocciando Bravi Stai cambiando da pallo Stai passando Al lato Al lato scuro Mafioso Io la mia libertà Comunisti Bastardi Vai E che cazzo Grazie mille De l'iscrizione Bisogna semplicemente Avere pazienza E romperlo Con gli denti Cazzo Prendo Santo cielo Prendo anche il power bank Avete appena visto La pazienza Di Vapallo 2000 Non dico Scusate Il power bank Aspetta un attimo Ecco Allora Ma no Non solo sapevo Che 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 Stoccando Guardate che apprezzatura Allora Mannaggia Mannaggia il cazzo Ma dov'è USB Dai C'è la puoi fare Il cavo Ecco Ecco Cavo USB Adesso E va Una breccia Mi serve Una breccia Una breccia Per caricare Mi serve La breccia Ecco Ti cerca Grembaud Eh Fammi sbannare Grembaud Cosa ne pensi Di Don Bito Non capisce niente Don Bito Il classico Ok Si vede Il classico Pugliese Che non capisce niente Che E' fanatico Della sua ideologia E malate Non come me Che ho Ideologiche Sani Non posso Non può far Divannare Sbannare Grembaud Che cazzo Sta facendo Fabian Vedo Il mio lavoro L'ho fatto Molto meglio Dovresti far Staccare Come stacco Questo Con i denti Non Vabbè Anche così Però Togliamo un pezzetto E poi Vabbè La forza Bruta La forza Dei veri uomini E quella brutta I romani Però la usano male Attenzione Vedo dei Ma tipo Toglierti Ah No Ma che cazzo Si mette Eh Così E poi Ma più avanti Che senso Più avanti Eeeh Ma cazzo si mette Sto casco Più in così Più avanti Ma dov'è la chiusura Ecco Allora Qui c'è Qui c'è il maschio E qui la femmina Allora Più o meno Così stai Ah Che faccio sto facendo Ok Io ancora più avanti Così Così stai registrando il tetto E come faccio? Fatti passare questo Vieni Vieni Così Beh lo metto io Lo metto io Lo metto io Se non lo metto io E metti te Guarda Intanto Che cazzo Intanto Ah se lo mette lui Eh si Eh si Fa un culo Io come Ah bene Te lo dò No no Mettimelo te Mettimelo te Allora Mettimelo te Così Mettimi la corona Ok così Eh Aspetta Vieni che fai E che hai troppi capelli Intanto È ok Così Però si può anche aggiustare Perché qua Dietro Infatti c'è una No il contrario Un po' sbagliato Vuoi cazzo Aspetta Cavole c'è un tappo Tampone per Lucca Sì ovvio Ho già programmato il tampone Allora Madonna Ma Cerma A parte che Il piano È 2007 Il percorso Non ti sta Allora andiamo Credo che vada bene così Vabbè Credo Allora ecco Così Più avanti Più avanti Così E dove è l'altro Che ne so Oh mettitolo così e basta Ok così e basta Ma si muove? C'è ancora un problema C'è un problema Cioè Questo deve ancora andare più in giù Perché tu stai riprendendo Ah quindi abbiamo messo male questo Eh ah così Fammi vedere Aspettiti di fronte Così si sta registrando a me Sì mi vedi Sì ho ancora un po' alta Quindi dovevamo mettere Niente occhiali L'abbiamo messo male Eh vaffanculo Quindi così Così si è messo bene Perché mi sta registrando a me Andiamo Perché non sa indossare un casco E ha preso un casco E ha preso un casco E ha preso un casco di qualche anno fa E non lo chiudi Perché Vai così Vedi Ma che cavolo Qualche roba Tutto questo Chissà come registra l'audio Qui di lì dentro Speriamo bene Non so indossare un casco Ma perché Ho preso tutto lì Sì Guardaci te Ok Come non vedi niente Non c'è niente Io non ho neanche gli occhiali Cioè senza Senza i miei occhiali Io non sono nessuno Non ho un'anima Non ho una Una dignità Lo capisci Comunque Il gentilistratore a parlo due Ci stiamo dirigendo Ci stiamo dirigendo Dove stiamo andando Fabia Stiamo andando Una mezza campagna Oh no Fare campeggio Campeggio in un bosco In un bosco Vediamo Stiamo andando in un bosco Quindi Nell'ubosco Il fatto che Appena arriviamo là Bisognerà aggiustarlo In che senso aggiustarlo? Perché è troppo indietro Troppo indietro? Eh sì Abbiamo messo La fotocamera indietro Ma baffan brodo Vabbè ma più o meno Si vede il terreno Sì sì Si vede avanti Si vede avanti È giusto Voglio che si veda Avanti Con una struttura Con una struttura un po' strana Che coglione Dove siamo? Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Dove ci troviamo Fabia? Ci troviamo Beh ecco vedete Questo non ha senso Perché questo non vuol dire niente Ecco guarda Non abbasso Non vuol dire un cazzo Ma non sai che l'hanno cancellato? Ma che razza Sì ma ho capito Ma come si cancella? Si ridipinge? Si si ridipinge Ma qualcuno l'ha fatto Questa testa inclinata Dici Cioè una roba assurda Allucinante La teoffa comunque Capito Qualcuno l'ha fatto E poi si è repentito Sì ma è una roba Cioè Però tu a testa parlato Una roba assurda Vabbè Cioè È assurdo Ecco il ponte Quale sarebbe Non so cos'è Ah ecco il ponte Ma io ho capito Stiamo andando Hai capito dov'è? Beh l'importante È che l'hai capito te Ma il fatto che Va bene La cartia del mondinello Dove c'è? Assurda Allora Io non vedo niente senza occhiali Cioè vedo solo lo schermo Almeno usare la vernice colorata Come quella del muro Esatto Alessandro Sennò che senso c'è? Sì 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 Magari fossi su Twitch Sono bannato Bastardi Mi avete fatto bannare Non voi Intendo il cozzallo Di David Rubino Mi ha fatto bannare da Twitch Ma buon per lui Allora Dove andiamo qua? Dove dobbiamo andare? Continua Continua Andando avanti Continua E' attrezzatura buona questa Guarda Con lo scotch Ma pensate Guarda come sono ridotto Vediamo se riesco a rimettermi gli occhiali E' confermata la presenza di Rubino In quello di Luca Attenzione E' confermata? Bene Se vuole essere bannato Peggio per lui Domenica 31 ottobre Rubino verrà bannato Annotatelo sul vostro calendario Domenica 31 ottobre Rubino bannato Se viene Se non viene no Non può venire lunedì? Deve per forza venire da domenica Riprendo tutto il terreno Guarda Guarda che bella quella macchina Questo qui che albero è? Di cos'è? Che albero è? Un albero di nulla Non è un Non fa frutti Ma pensate Qua dovremmo andarci un giorno Anche con un canotto A vedere Qui sotto Guardate quanto è figo Qui sotto dovremmo andarci Guarda qui Tutto il marciume Tutte le canne Guarda Tutto qui hanno buttato Lì non ho capito perché hanno piantato dei vasi A caso Vabbè Guarda che roba Qui c'è pure un pallone Pure un pallone Canne e preservativi usati Esatto Guarda Questo qui è il ponte che ci ha detto No Non è questo Non è questo Ok Dobbiamo andare sopra? Dobbiamo andare ancora sopra? Ok Pensate Attenzione Il sole è andato via Così il power bank Oppure sono io che non vedo C'è il sole? No Ah non c'è il sole No perché ho gli occhiari Quindi Ci sono delle nuvole Ci sono delle nuvole Nuvoloso Merda No dai non annulliamo tutto Però il campeggio con la pioggia è figo Madonna Proprio quando Figo Soprattutto quando non hai la tenda Soprattutto quando hai la tenda Minchia Che casino Allora dove siamo? No Qua c'è Ha detto di dire a destra Quindi? Di qua Dovemo girare nel Sai dove è la destra? È di qui E allora più avanti bisogna andare Che dobbiamo fare? Stiamo di qua Pensa a te Eccola Guarda il cane che rompe le palle Il cane rompe le palle Guarda Scodinzola È allegro È felice che ci siamo Comunque queste zone isolate Non c'è niente Guarda Cose comuniste Rosse Rosse il comunismo Cosa c'è? Non c'è davvero meno segnale no? Come meno È vero Eh Per questo c'ho questa Ah Se non prende Comunque no Ma ha detto Ma ha detto Davide che prende Guardate qui che zone Tutte isolate Tutte montagnose Telefono Tavazzi La sede La scelta del pulito www.pulizietavazzi.it Ma Che farà mai? Pulisce le bocce dei pesci Guarda che belle Le zone di campagna lì Caspita Che figo Se andiamo lì Che figata No Non andiamo lì Come no Come tutto in su Come tutto in su Non andiamo lì No Ma io voglio andare lì Eh Vacci No Ma sai Guarda che belle zone montagnose Che ci sono Dai Qui anche Deve essere bello Peccato che mi sa che proprietà privata Sì Guarda Napoleone No Non è Napoleone? Cos'è? Non credo Il condominio San Martino Ah è San Martino San Martino A cavallo E il bidone nero Perché cos'è? Per i neri? Che c'è? C'è scritto Ah è indifferenziata E quello lì? Non era grigio? Carta Vetro E questa? Eh E quella? L'aspirapolvere Guarda questa qui è buona Questa qui è ancora buona N World Band Questa qui è ancora buona È buona questa L'aspirapolvere è buona Chissà perché l'hanno buttata Vabbè Quella lì è buona Quasi quasi me la porto a casa Al mio ritorno Assieme a questo Guarda Palo buttato per terra Guarda che roba Pazzesco Vabbè Spero che si veda anche nella registrazione Come la vedi qua? Come prima? È come prima la telecamera? Sì sì Perfetto All'altra gitto lo vedono Mamma mia Siamo neanche da un'ora Comunque Il campeggio è appena iniziato Eh già Ancora Abbiamo Abbiamo tanto da fare Tanto Spero che lui porti Powerbank solare Perché ci servirà Per almeno tutto Poi la notte Non penso di farla in diretta Cioè Se mi avanza il tempo Sì Se mi avanza il tempo La farò anche in diretta Però deve Se c'è la batteria La sleeping e streaming In campeggio Però deve esserci L'internet E E poi la torcia ce l'ho Ma pensa te Ecco Siamo alla strada giusta Ha detto 10 minuti Via della Balze Via della Balze Qua ci sono Guarda Qui c'è una baracca Con uno specchietto Di una macchina Ma pensa te Guarda Tutte le canne Con le serpi Il fango Tutto Oi oi Caramba Vamo Seguiamo Fabian Speriamo che ci conduca Nella via giusta Che non sia un babbeo Si è pro La legalizzazione Della cannabis Io sono pro La legalizzazione Di tutte le droghe Perché Così la gente La smette Di cercarle Beh Un bel panorama Di boscaglia Guarda Tutto rotto Guarda Tutti i pezzi rotti Tutti arrugginiti Tutti rotti Assurdo In questa zona Non ci sono mai andato Tra l'altro Non ci sono mai stato La prima volta Che visito questa zona Tu l'hai già visitata? Io mai E com'è? Non ci sono mai stato Tutti i vannati Guarda Guarda lì Guarda lì Tutte baracche Col ferro La ruggine Il tetano Tutte le malattie Ci sono atti di vandalismo In queste zone? No Per ora Graffiti qui Non li abbiamo trovati Per ora Ma probabilmente perché Cioè non ci viene nessuno Ah eccole Guarda Guarda qui Sigarette con La donna Col cancro Guarda Lo faccio anche vedere qua Lo sto facendo vedere Guarda qui Vuoi col cancro Guarda Sigarette col cancro Qui c'è Ecco l'atto di vandalismo L'hai chiamato L'hai chiamato Ed è arrivato Questo cos'è? E questo cos'è? Questo cos'è? E' rotto Non funziona Cazzo è questo? E' per pullare Vai Fabian A te l'onore Vai Cosa? Prova a girare No Non riesci? Non gira Non gira perché Sì che gira vai Grande Fabian Ce la sta facendo Sta facendo girare? Ma vedi E' per tirare su qualcosa Tirare su E poi lo tiravano con questo Ma pensa te Ma è durissimo Perché aveva ginito Ma pensa te Sì? Eh lo so Sonar che è comunista Ma perché i babbei I babbei I babbei Non li puoi convincere A non essere babbei I babbei Stanno con i babbei I sapienti Con i sapienti Guarda lì Tutte le case In costruzione Qua ci saranno stati Un sacco di frane Probabilmente Ma sai che mi sa Che lui ci ha detto Dieci minuti Perché in dieci minuti Esatto Gc Ma poi Se la legalizzano Comunque Il prezzo Comunque l'economia del paese Aumenta Gc Se la legalizzano Infatti io sono contento Che hanno legalizzato la droga No? Hai sentito? Ho capito che l'economia Ma più gente muore Scusa Eh ma muoiono comunque Se uno vuole morire Se uno vuole morire Vuole morire Non c'è bisogno Di non farlo morire Se uno vuole morire Muore Qua c'è la moto Coperta dal telo Rotta o meno Guarda Le cariole Guarda Le statue Qua Qui c'è Un ramuscello Le statue Degli angeli nudi Guarda Le statue Di due angeli nudi Ma assurdo La lussuria La lussuria La lussuria È sempre qui Compre Un pollo 3.000 Oh Dio Mi conoscete Grandissimi Guarda Dei fan Grandi Grandi Ciao Ciao Grande Grande Pure qui sopra Non ci posso credere Pure qui sopra Dei fan Non ci posso credere Sono Angioletti Hai visto? La Pure qui Ah ok Ecco no Però Fabian Ti piace l'Italia? Che cazzo ti domandai? Come posto No no Come posto è bello Per me Fabian è un patriota Eh? Perché ama la sua patria Io amo tutte le case Io amo Tutte le case No no L'Italia è Santo Domingo Buono Vedi? Se tu hai sviluppato un amore per questi due posti Per me sei sia italiano che di Santo Domingo Sì sì Vedete? Che Fabian Quando c'è sempre da ti fare in Italia Vedete? Per me questo vuol dire essere patrioti puri Bravo Fabian Andiamo Bravo Adesso mi pulisco la mano Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando E basta Stai zitto Stai zitto E quanto abbai? E basta Basta Guarda qui Qua sotto Gli racconto una cosa Tu abita Dei miei cugini Ah le tue cugini? Sì per questo che sono venuto Ah Ogni tanto si giocava A calcio Ma ci sono venuto una volta E poi basta Pensa te Coincidenza Guarda qui tutte i basi Tutte robe Guarda Guarda che roba Eccoci Ci siamo quasi arrivati In teoria sì Divieto di transito e passaggio Non puoi passare Di là Non puoi passare ok Andiamo Eccoci Ed una casa bianca Ed è una cosa Buona Vero Assolutamente Buonissima aggiungerei Madonna Buonissima Quindi ci chiamiamo Chi siamo Chi siamo la stanza Qua ci sono dei boschi Quindi Credo Ora glielo dico Fabian Non c'è Mondo senza luce Non c'è Italia senza Non c'è Italia senza Non c'è Italia senza Senza Ah non c'è Italia senza Vabbè no Stavo per dire patto Ma no C'è la pizza Deve fare rima Senza Ah Io non c'è Italia Senza Cazzo Non mi viene D Du Ah senza duce Sì Grande Fabian Grande Fabian No vabbè Oh ma solo cani ci sono Tra l'altro questo è anche piccino Guarda Cani piccini Vedi da qualche Roba Vero italiano Esatto Cosa c'è Saliamo per sta salita Adesso di salire qua? Eh penso di sì Siamo qua vicini Se mai lo chiamiamo un attimo Eh Se non ti fidi Guardate che bella natura Mamma mia E invece no E invece no E invece no Citazione Citazione Invece no Citazione A Zebo 89 Noi siamo davanti alla casa bianca Sì 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 Ah sì Vista Sì Eccoci qui Ok Stiamo per recare Ecco la Cane Abbaia ancora Guarda Cane Abbaia Eccoci qui Stiamo per costare Guarda che roba Guarda come abbaia Siamo saliti Vediamo un po' Dove ci porta Cane Cane che abbaia Non morde Eh sì Vediamo un po' Guarda qui Quante canne Quanta erba Quanta cosa Mia nonna qua Altro questa è la località Del ghietto Dove hanno fatto il video Guarda Lo stagno Lo stagno Guarda lo stagno Qua arriveranno un sacco di rane Ligirini Pure lavanga Ma pensa a te Qui si fa un bel campeggio Guarda Arrugginita E cosa ha detto Guarda che bello Hai visto Tutto lo stagno Tutto il cemento Tutta la roba Qui altro tempo Qui c'è altro tempo Altra nostalgia Nostalgia di quando facevamo le case col fango Quando da piccolo Ti sporcavi E facevi le case col fango Chi è che non ha mai fatto una casa col fango In quei boschi potrebbe essere rubino imboscato Sì a mangiare le ciambelle probabilmente Andiamo Allora Guarda qui Questo è dei materassi Guarda l'hanno rimesso apposta per Fare Vedete questi materassi L'hanno rimesso apposta per fare Tutte le robe Anarchia? No 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 Brutta cosa l'anarchia Pensiero Già I mazziniani Pazzi Hanno sempre fallito L'anarchia? No 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 Niente anarchia Piuttosto Il comunismo Che ha l'anarchia Anche se il comunismo È il peggio di tutti Ma l'anarchia È il fallimento In persona Guarda Guarda queste scale Quanto mi tocca camminare Ciao David Hai visto? Con la scoccia Non riesco a montarlo Non c'avevo tempo Ma sì che si vede Ma sì che si vede Ma sì che si vede Eccoci qui E qui siamo in altro tempo Qua Vada Passate Guarda Guardatemi qua Chiudo Questo cos'è? L'ombrellone L'ombrellone Caluto a terra Ah infatti ho visto il cemento Ho visto tutto Guarda che roba Stai facendo una piscina Eh infatti Vero Vedevo qui Chiama il nostro esivo Con scoccio Mamma mia Pensa a te Guarda dove siamo Guarda là Guarda che bel paesaggio Che si vede Che bel posto Un mini accendino Sì abbiamo preso Accendino Anche la carta Sì sì l'accendino Funziona Ok Un tratto pure Guardate più Un qualche Sì sì Guarda Andiamo E qui c'è la postazione Guarda che schermo Ah madonna Mamma mia Qui Eh qua c'è un computer Se l'accendo Guarda che computer Madonna Beh vi faccio vedere Solo per le lucine Sulla scheravide Altro che Il portatile Questa è una bella 2080 Questo sai che Videodirette ci fai E poi c'è anche La webcam Ecco Io a 20 euro Ho presa Te a quanto Più di 100 Ma Madonna Eh ma le devo comprare un'altra Pensate voi Questa è qua nella stanza Dei bionico Eh sì perché Il bionico Al punto Dei foto Guarda qua Quanta roba Quanta roba Mamma mia Pensa a te Collezionista Guarda Due tette qua Guarda qua Andiamo Questo pezzo Questo pezzettino di Pasca Costa 150 euro Eh 150 euro Addirittura Quella c'ha la collector Di Helsing Ma pensa a te Guarda che roba Eh ne ho dire Eh collezionismo è una cosa bella Io non ce l'ho mai fatto Due mila euro Di foto Mamma mia Pensa a te Guarda che roba La tenda Non ha manga La tenda Dei bionico Proccio Ma dai E poi manga Si che ce li hai manga Qua ci sono Un sacco Di manga Tanta roba Chiedili se lui ha visto L'anime del quindicenne E froccio napoletano camorrista Non ho capito Questa città Ma te l'han già detta Tu me l'hai detta prima Eh non la conosco Nemmeno io Allora Qui ci troviamo nel tempio Di Davide Massone Tempio in cui viene usannato D'Avide Massone In tutte le sue forme E detta Questa è l'autografo Di Inoki Di chi? Inoki Vai mostralo qua Qui Vai Inoki è un rapper Ma pensa che Non ascolto Quindi Meglio ancora Qui che feste Che si fanno qua Qua se inviti la gente Fai delle feste Che Che non finiscono più Poi con la campagna Qua ci si diverte Ma è tutta sua Saliamo? Saliamo Ma pensa a te Non penso sia tutta tua Eh infatti Non esageriamo Adesso Non è che Siamo miliardari Ma questo è Straricco No Sì No Io mi faccio un culo così Io e si fanno un culo così Il mio padre Esatto Sto pensando Che poi non ha avuto senso comprare un foglio di carta Ce ne avrei avuto in casa Il foglio di carta Si ho comprato un foglio di carta Ma no ma a me serviva il giornale E non ce li ha i giornali vecchi? Io no Non abbiamo mai giornato Prendi questo Quello scorti Un po' di questo Ma pensa Ma che vista Ma che vista Qua chi c'è Qua che bello Qua che bello questo cane Il cane era giusto Attenti Eh io sono bianco Ti morre Ti morre Gastone Mamma mia che dolce Che dolce Mi ricorda il mio gatto Mi ricorda il mio gatto Dici La GoPro La devi inchinare Mi sto sghiacciando Come la devo mettere così? Ah sì Vai E vai cosa? Stacco Dai stacca Vai guarda che roba Tieni Guarda Portala così Eccoci Guarda che bel panorama Maldo che campeggio Io starei qui Madonna Stai qua Vedi le vacanze Le vacanze Guarda che roba Tra l'altro guardate Fabian Come si tiene Guarda la cucina Guarda che bella Cucina all'aperto Cosa ne pensi dei piromani Vabbè è sbagliato È sbagliato accendere fuoco a caso Però se lo fate magari in posti dove non si danneggia nessuno Si può anche stare Guarda un pomodoro Guarda i pomodori Guarda i pomodori Guarda Si vedrà qualcosa Come non si vede un cazzo Come non si vede un cazzo Non so se si vede Non vedo Ma pensate Sento anche urlare Un forno L'u forno Ma dove stai mo' a casa di clerici Quella di clerici Quella di clerici muta proprio Cioè Sono nella mia villa in 4k Spacco tutti Sniffo coca Villone in 4k Villone Guarda 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 che roba Ma pensate Ma dai Cioè roba assurda Roba assurda Ragazzi Assurda Villone Andiamo Guarda I ragni Guarda qua Guarda La tela del ragno C'è scasca Una farfalla Una farfalla nel ragno Poi quello La mangia E gli distrugge l'interiore Per esempio Accendere un fuoco nei campi rom È giusto? Si Nei campi rom È giustificato Quei bastardi Dei rom Invasione Mi hai trovato un po' fan Su Instagram Su Instagram? Mi sono mandato Una posta di Instagram Di una famosa Che fa meme Che ha una pagina A 100.000 follower Che ha pubblicato Un tuo video E quindi dice Mafiosi Mi sono andato a giocare a Fortnite Ma pensa a te No Dani D Mi ci fa Ma non so come si chiama Questo qua Ho detto il tuo nome E poi mi ha detto Se gli fai una bella dedica Dopo Eh si Facciamo un video dedico Non ho cellulari Se la fai col tuo la faccio Si Si Guarda qui Ma qua ti diverti 24 ore su 24 Ma qua tieno qui il catto Tutte le volte A tagliare l'erba A tagliare gli armi Ma tutto tuo? Eh? Tutto tuo E fino alla casetta E fino alla casetta È tutto mio E del mio fino a quel palo Della luce Non della luce Quello delle testate E fino in fondo dal fiume Ma sai quanto bel orto Ci puoi fare qui? Eh giù dal fiume C'abbiamo l'oro Eh bravo bravo Ma anche qui eh No forse qua non prendo Unico problema Magari è Guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda il panorama Qua con il drone che ho io di solito Lo mando fino al porto a fare le foto Al porto Ma no fin là Ma sì Ma al porto Ma pensate Eh guarda qui Guarda qui Guarda qui Leggi la chat Dove devi leggere la chat Hai cambiato il cognome? No non ho cambiato il cognome A me lo chiedo se ho cambiato il cognome Eh certo Io prendo il cotone del pizzo E sono pronto Quindi No non volete guardare Anche se Powerbank Powerbank Che città è? Rapallo Rapallo Ma dai È falso Falso? Non penso sia tarocco Però Dovete essere pronti Perché non facciamo il sentiero Facciamo il bosco Ok? Perfetto Pieno di rodi Pieno di rodi Va benissimo Va benissimo Porco Questa però me la dovrei mettere in fronte Come faccio adesso? La cambiamo tutto Cioè togliamo tutto Lo rimettiamo Tanto hai un Hai un È un pacco di scoccio Quindi lo puoi togliere E vi metto La mettiamo in fronte allora Sì provato Comunque Cazzo Io per tornare indietro Come cazzo fai? Ma hai letto? Non scrivono nulla? No È strano ma Non scrivono niente Allora al posto Ecco Professionalità La palo sei Dio Grazie Addirittura Dio Il dulce che No Interrottore di distrazione Vabbè Il dulce che cuce È la nostra luce Madonna che viva Si era spenta Come si era spenta? Ho caricato full però Il power bank L'ha caricata tutta Scusa un attimo Ma come? No no Franco C'è 15, 41 E 33 Un tal Franco dice La palo sono quello Che era nella macchina Nera Di prima Ah ok Eh ma eravate in quattro Come cazzo fai Ah bella ragazzi Aspetta Vai lì Vai lì Facciamo un'inquadratura tattica Vieni A te o a? A qui Questa È l'Italia La mia patria E inquadriamo là Ecco Questo è l'Italia L'Italia è un pezzo dell'Italia Un pezzo dell'Italia Pensate quanto è bella Sempre Viva il dulce Certo Un mio amico È in fissa per il dulce Quella è casa mia Ma quale? Quella là Ah in campagna Quella là in fondo tipo O quella là Speriamo che non arrivino i napoletani adesso Chissanno dove sei Ti immagini Sto scherzando Ariano i napoletani No dai Poveri napoletani Guarda che roba Vaffanculo Guarda che roba Allora Adesso che si è caricata Me la devo fissare in fronte Detto così è un po' strano Perché? Non lo so Fissare in fronte qualcosa Si è già scaricata una tacca Spero che sia Allora Dice sempre Il luce è la mia luce Eh perché farai io Adesso le devo mettermelo in fronte Come si fa? Tu vuoi il trapiede? Si Vediamo se ci sta Porta anche il mio? Se vuoi si Aspetta un po' Non c'è mica qualcosa Per mettermelo in fronte Che vuoi? La mettiamo Ma vuoi il mio trapiede O vuoi usare il tuo? Il mio sa lunga Porco Ma non lo so No Se vuoi usare il mio Ma prendo qualcosa Per metterlo in fronte Franco Vai a trovare Vai a trovare il capo Franco Si Però se ne ha appena andato Cappelli sudati Fa caldo cazzo Quanto scotch Quanta roba Sto inquinando tutta Sto inquinando tutta casa Guarda Social Boom Rosic Social Boom Devi rosicare Social Boom Grazie Mi sa Non ho mai capito Come si montava C'era il L'altro cuore Attaccalo sul letto Come attaccalo sul letto Ma quando si va In campeggio A vedere Il buvino E Joker Mangiare Ma devi staccarlo Quello Ma dai Come ti chiami Vapallo Non sanno come ti chiami Che triste Chiamami E che nome posso usare Il tuo vero nome Per esempio Il Joker Gispi Viene detto poi Gipsi 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 Esatto Dici il tuo nome Rapallo Gipsi Gipsi tra l'altro Che vuoi dire Zingaro Gipsi Sono zingaro Come c'è La chiusura qua Ah si È rimasto attaccato qua Beh però mi sa che dobbiamo registrare Già registrare Allora Wave È spenta Capo io me ne vado Le auguro una buona Illarità Illarità Tu mi hai messo Mi hai messo In casa Sì 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 Vabbiamo adesso Ah Sistema Trump Armando Potrò accenderla Il tuo Armando Che caso Ma quanto puoi registrare Eh ho messo una 64 720p Un bel po' Poi è infissa Per la frase Di Dario Greggio Ok io sono pronto Sì sì Ma un sacco O sbaglio Segni 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 A due mani Ma solo Ale ale Ma che cazzo Le GoPro Attaccala Sul petto La GoPro Attaccala sul petto Che stanno dicendo Sul petto Su quale montagna sei Eh si chiama monterasagna ah è questo il monterasagna ah è questo questo il famoso monterasagna te l'ha parlato tua nonna? no mi ha parlato un mio amico grazie mille descrizione Emanuele da gelo ma sono sub? no 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 descrizioni su youtube ma questo come me lo metto? sono un po' ritardato allora ma ci sta una bella manifestazione per la libertà dipende quale tipo di libertà l'lgbt sputtiamo non qui perché ah segoni lasagne comunque ti voleva è un po' stracca mamma mia però dovrebbe vedere è già partita? sì penso di sì control green ok è già partita io ce l'hai il cavo per ricaricarla? sì 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 ok andiamo vamo si inizia? si va in campeggio ma l'audio lo registra? sì lo registra sì sì spero ma con la cover si sentirà di merda l'audio? ma comunque no no non hai fatto prove? spero di portare questa? sì certo ma ora che ti penso ma come cazzo torno indietro? sì ho spazio ti indico il sentiero? c'ho spazio c'ho spazio? altrimenti andiamo nel bosco però a dire due varano non so chi sia dico scendi e lo troverai due varano so chi sia è normale io avevo un gatto poi è morto per colpa per colpa mia sì sì è per la mia teoria spero che anche il tuo cane non faccia la sua stessa fine però per i cani è diverso perché loro non scappano ti è mai scappato il cane? come sì? con la velocità che è quel cane credo che... è vero esattamente per la teoria delle seghe Biggio il mio gatto è morto colpa mia niente donazioni ok stiamo attenti a chi dona esatto Matteo frira pallo adesso andiamo nel bosco che cazzo di caldo se lo sapevo niente cosa è pensate il che è la teoria per la quale dobbiamo sistemare un po' di cibo negli zaini sì sì anzi così ne approfitto perché devo prendere una roba ma questo cos'è? si è staccato? qualcuno ci è andato addosso con la macchina ma pensate la macchina di la Jagua ma dai aspetta approfittiamo una lucertola è tua? ok si è un po' di cibo che è molto costosa ma per questo viaggio si fa questo e altro mi riesco a mettere anche questi nel pane e poi non ho più acqua questo pane? eh no questo si può sempre tagliare anche nel sattempo allora ok già mi tenta nooo nooo è una monster nooo perché? no 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 scherzo meglio 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 no no ma va bene eh per caita grazie mille anzi ciao bitches facciamo un regalo ulteriore sì vabbè direi di sì visto che ti offro support esatto certo tutto anche quello se vuoi fare me lo attacchi no 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 sicurati ok sembriamo degli ebreici ah perché non lo stiamo hai comprato un foglio di giornale di carta sì un foglio di carta hai pagato? boh 50 centesimi nooo 10 10 centesimi 10 centesimi vedo ah lo prendendo un po' ti metti gli occhiali da sole sopra quelli dalla ah che cazzo al fanculo per oggi basta ok direi ma tu mamma anche figli che non sembrano eee no non penso pietro questo lo possiamo arrotolare colori della zanichelli un libro di matematica un libro di matematica non lo volete? o lo possiamo bruciare? no 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 non lo vogliamo fanculo matematica fanculo inizia ufficialmente l'avventura per far accedere Sebastian al canale di tube del ghetto ce la faremo questa è la challenge secondo me questo va un po' più così ok questa è la challenge che permetterà a Sebastian di entrare nel ghetto che tal'altra sei bardato in una maniera incredibile hai visto? faccio anzi una bella foto prima che inizi aspetta se devi fare una foto facciamola bene anzi ho pe no 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 si si andiamo andiamo forza siamo partiti si aprono i cancelli tanti spettatori 16 non è male se incontriamo i cinghiali è meglio i cinghiali là in cima belli dobbiamo raggiungerli andare ancora guarda quello lì quanto è verde guarda quello lì bellissimo tutto verde ma non passando dai sentieri passando dal bosco ma pensate interessante ma pensate voi la prima parte per fortuna io ho perso il contenuto svizzero quindi potrebbe essere una bella rottura la prima parte è facile c'è un sentiero la seconda parte noi usciremo dal sentiero e passeremo per il bosco ma i rovi i rovi pieno il drone il video con il drone verrà registrato post produzione verrà editato ah ho capito ho capito ciao davide bassone oggi è il 30 01 2022 ed è mezzanotte e 58 mentre sto editando questo video ancora non mi hai portato il video col drone portami il video col drone portami non me lo morti più io adesso questo video lo pubblico senza drone ma per il troverso il drone ma per il troverso il drone ma per il troverso il drone c'era un bel legato c'era un bel legato c'era un bel legato il drone continuiamo col video ho capito ho capito quindi facciamo un video bello figo un bel doppiaggio il drone sul ghetto e avrei l'onore te di caricarlo sul ghetto mamma mia qua è edito l'editing del mio intendo qui dalla e dal sentiero per arrivare fin qui abbiamo registrato tutto il mio amico vende fazzoletti che cattivi che siete che cattivi no non è marocchino basta dire marocchino non è marocchino ma io non volevo intendere niente c'è un sacco di persone che ti assomigliare a un marocchino no 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 ma il fatto che anche i marocchini mi dicono che sei un marocchino quindi non è un problema però cazzo a me anche quando vado in porta antico con i miei colleghi di lavoro sui marocchini mi stanno andando per marocchino cioè vengono lì tipo vado al che babbaro con i miei colleghi di marocchino e i miei colleghi parlano in marocchino con il che babbaro e poi il che babbaro mi dice tipo tu cosa vuoi mangiare? ma me lo dice un marocchino io sono italiano che calma porca eva nonna che cazzo mi chiami mi fa crashare la diretta anche io te l'ho chiamato un paio di volte è a buddo ma perché mia nonna mi deve chiamare mannaggia non mi chiamare nonna non mi devi chiamare non mi devi chiamare rispondi a tua nonna no non rispondi hai fatto i due telefoni eh? sì infatti eh? hai fatto i due telefoni eh ho dato il tuo numero io? sì in caso ci fosse un'emergenza ah in caso ci fosse un'emergenza sì guarda che bel panorama io ho iniziato a pattinare qua ma sei un polle sei cadevi no ma incant'altro era una bella vista ero sopra casa e lui non basta merito ecco beh qui chi ci viene eh po guarda che be guarda che roba guarda che bel panorama già le scarpe si stanno rompendo eh ah bene io se lo sapevo porca tre mi mettevo ferita ginnastica guarda qui in fumo guarda che roba ti passi mamma mia guardate un falco oh l'ufalco ma in che regione e provincia ti trovi? rapallo in provincia di Genova io sì oh no no un rosco ah però è velenoso non posso toccarlo non è velenoso prendilo un po' guardate bufo bufo si vedrà dalla gopro guarda qui ma si può mangiare? no si no per favore si può? no oh mio dio io l'avrei il coraggio no dai guarda che bel rospo cosa ne pensi questi 90 minuti? molto molto belli sbai già io dalla spesa ero già contento bam guarda che bel culo che c'ha Fabian no questo non è una no sto scherzando no adesso ho messo i selfie tranquillo però da qua no andiamo se ti dono 100 euro lo mangi? ma io non mangiavo anche gratis però devo capire se porta le malattie eh no è un animale selvatico è un animale selvatico è un animale selvatico al momento è la mia selfie che ti tiene ma pensa a te guarda guarda qua tra l'altro senza che si aprissero i cancelli qua non si poteva passare che senti? quindi questo sentiero ah no è pubblico ah è pubblico? ho capito lo mangi fritto è buono ah lo penso anch'io penso anch'io penso anch'io sì ma quanto tempo ti senti il piano allora? un'ora un'ora a questo punto Fabian dormi nella foresta a questo punto eh dormi nella foresta ci sono i tossici sdentati ci saranno le sette sataniche 7 sataniche sarà pieno di 7 andiamo pure qui qualche roba che posto che posto noi i tuoi amici tossichelli no sono tossici sono tossici guarda c'è la gente le persone le persone ma pensa a te beh questa che non sono abituato ma dobbiamo farcela così entriamo nello staff del ghetto tu entri nello staff del ghetto e vabbè ti userò da galoppino Fabio no io lo faccio per te bravo la cultura prima di tutto come i fascisti e tutto quello che facciamo poi esatto si fatica una challenge mi piace a prova di coraggio io ho la torcia eh bravo questa mania super forte ma era strana ma oh un peccato un bel comunismo ma come dici pietro più questo ti dico pietro un bel sputo un bel comunismo ma che stai scherzando no ti sbagli a ora mamma mia cosa dici adesso va mamma mia qua qui questa dietta quando raggiungi le 9 ore se questo è il sentiero se questo è il sentiero si appunto si appunto se questo è il migliore pensa quando lo fai al buio Fabian dai io lo farò al buio a parte quello in tarato porco giuda porco giuda ma adesso qui questo è un galoppino vuoi portare la roba un galoppino un galoppino un galoppino un galoppino un galoppino un galoppino cammino a quattro zampe ai youtube e blocca la chat un galoppino è tanto sbagli un galoppino il galoppino il galoppino in salita come un mulo carico come un mulo un galoppino pensa a te un galoppino il galoppino l'u galoppino l'u galoppino l'u galoppino amore i massoni a morte i massoni grande rapallo potresti salutare il mio amico Tomasturbato ciao Tomasturbato eh si eh Tomasturbato sei pronto per il quattro rage ovvio bacino culetto tagata oh mamma mia canzoni tanto mamma mia mamma mia il fatico il fatico il fatico il fatico se non vuoi rischiare i malanni metti i titoli ai video del vanni non pensare che lo farò un madonna un madonna santa quel fatico che fatica tutta la roba ma tu l'hai già fatto sto sentiero ma sei stanco ma sei stanco ma si si va avanti per lavoro per la patria sopporto cazzo sopporto cazzo come è porco eh il mio gatto un mio micio Garfield mi sa se troviamo il cadavere che mi fissi sei morto? mi fissa terrorizzato mi fissa terrorizzato spiega un po' spiega un po' tu ci metti poco ad arrivare in centro se no sei sbagliato se sei saltato fino a te no magari te magari l'ho vista ma non ho visto Dylan Klebold ci siamo passati prima? quando stanno vedendo cazzo Stefano cattaneo ma non è proprio attivato Stefano cattaneo ma non è proprio attivato Stefano cattaneo ma mamma mia la prima volta mi spavano vai vai coggiuta andiamo no io per primo vado lento io tu per ultimo eh sì io vado lento guarda tu lo scorpioncino c'è dove? troppo tardi nooo lo portiamo nello zaino sarò pieno di tarantole non ci sono le tarantole come no nelle fogne le trovi non sono tarantole e che cosa sono? stanno 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 ah stanno non lo farò noi un altro dito gli diamo poi è tenuto bene perché abitano guarda che bel panorama guarda che bel paesaggio guarda che bel paesaggio bel paesaggio cazzo fai con le cuffie eh per l'audio somiglia a fare vj addirittura any game any time fuck you perché mi stai non andaffanculo fate uno scream dei paesaggi di tutto qua si lavora si fatico per il luce e per la figlia oggi live fino è fino a domani mattina se ne funzionano i power bank tutta anche la notte se non funzionano no nulla eh ai giga illimitati si 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 quelli si sembri un politico grazie mamma mia un politico che sale le valli guarda che terreno camerati 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 io sono un mulo non riesco ad andare al loro passo oltre non c'è mai più tutto dentro quindi è tutto dentro poi si perde qua qui che roba stiamo andando a fare campeggio michel campeggio campeggio e perché hanno uso ma un buon odore cos'è questo origano non lo so non è di sicuro lavanda perché è viola la lavanda ma cosa vuol dire no è lavanda è lavanda non è viola non è lavanda non è lavanda lavanda è il fiore viola ma la cos'è? origano 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 allora è qui che vengono le pizzerie a prenderlo tutta Italia tutta Italia vengono fin qui per prendere il vero rigano Ligure lo schieno poi una domanda ora che gli abitanti di Rappallo si chiamano Rappallesi no si ah si si ma pensa a te i Rappallini solo chi è nato a Rappallo solo chi è nato a Rappallo solo chi è nato a Rappallo ah per un tipo fuga per un tipo fuga per un tipo fuga per un tipo fuga di telepatina Rappallini ma pensa a te tutti gli insetti le tarantole le ho detto apposto per la patria per non fumiamo mai le siga giusto guarda che bel fiore qui guarda che bel fiore guarda che bel fiore bel fiore che be ma ma sopra dove morto no vivo devo salire sul tetto se cade muoio se cade il tetto non se cado io è ripido è ripido ripido ma scusa ma ma stavano scopando stavano scopando no no bebi oggi stavano scopando riprendi netto ma dovremo tornare indietro la prima caduta di gesù la prima caduta no 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 già credo che l'hai preso con l'ago pro forse con l'ago pro forse li ho ripresi per un istante video sulla pallo 2 la pallo 2 video della zippata su pornhub vogliamo vedere eh e si eh guardate quello a gabrone piace quello andiamo mamma mia che fatica che fatica che fatica che fatica che fatica guarda quanto è ripido cammino a quattro zampe guarda quanto è ripido a quattro zampe mi tocca camminare a quattro zampe come le cagne a quattro zampe quattro zampe tutto ripido tutto ripido vuolo vuolo facendo il prato grande anche qui potrebbero farlo un po il giardino che è un pezzo di vetro inquinamento è andato a fanculo tutto la gente inquina se ne fregano provare chi sta le strade tipo qua si può andare a sinistra o a destra quattro zampe la giusta io non me lo ricordo eh quanto è ripido come mi te lo ricordi il design sarà di mafioso di sicuro non so il problema proviamo a sinistra ok nice è certo ma lo so lo so il bastone d'appoggi al vecchio è boggiogero nel canale rapallo 2 qua ho registrato forse c'è qualche frame forse non ne sono sicuro ma stavano zippando io ho visto le ho visto le poppe di quella le ho visto le poppe sali come cazzo faccio anche tu hai una mano sei proprio un gay voglio vedere come fai cazzo merda madonna cara madonna cara i rami mamma mia che fatico la live su pornav si che fatico guarda qui mano sporca con i pus i brufoli guarda qua quanto devo andare guarda qui quanto è ripido quanto cazzo è ripido porco giuda gattoni devo andare a gattoni a gattoni a gattoni cazzo 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 e lo so che è un bel nasone cazzo 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 grazie mille charlie peggio e non so se a puttana eccola poi è che bella qua ci sono le coppie che zippano le coppie che zippano vengono qua si rotolano i campi e scopano vai prima te che io sono lento quale coppie vengono qui nelle case scopano perché non passa nessuno si e ora vediamo un po delle case abbandonate dove buccare vai vai c'è anche una zona che vedrete lui è esperto vissà che qua si nasconde qualcosa uno dopo aversi fatto otto chilometri dice finalmente e lascia di rotolare esatto finalmente se zippa esatto l'anonima sarda questo è una zona pericolosa sapete gli zingari quando rubano la roba grande e poi tipo portano si prendono i soldi dai portafogli e poi i portafogli li vanno a buttare nei boschi ho trovato quello la rifiutiva qua vengono gli zingari a qua contenuto in abbondanza poi io sono riuscito in uno di quei portafogli c'era un documento che sono riuscito a contattare la persona ma pensa a te mi ha detto che io l'avevano rubato nel 2005 e nel 2005 hai trovato qua ancora tra i rovi vengono a cuccare come ne pensi degli zingari eh che sono un po' stronzi quando rubano qua le coppie vengono a scopare ecco qua avevo tagliato il mio rovo attenti ai rovi eh attenti e poi aglio cazzo ma non mi spiggere fermo 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 ok cerca orco giuda scheggio a non finire ecco qua c'è il rovo bastardo faccio orco giuda mancano pure orco giuda a terra come come le cagne mamma mia no non scendere vai dammi la mano Fabian ce la faccio anche senza non ti preoccupare vedete questo è un taglionetto ero stato di là ah tolimi cosa merda quale merda questa si aiuto i potenti come mai dietro di voi c'è rubino a rubino basta mangiare no sto scherzando rubino preparati alla liposuzione rubino viene qua a zippare viene qua vedete gli serve tutto sto spazio per zippare non ti discosti i gay si discostano i gay si discostano Fabian di mi discosto i gay si discostano aveva appena detto ah l'aveva sentito bastardo ragazzi sono un metro andiamo ah porca di che come ci sono le cacche di un animale che non so quale sia molto interessante di che le cacche di che c'è una pallina di rubino le cacche di rubino si pulisce pure tra i rovi lo disse pure tra i rovi pungenti guarda 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 le spine si 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 tutti i rovi tutte spine guardalo qui guarda quanto è spinato vedete tutto spinato eh ma qui c'è il rovo guarda c'è quel palo lì facciamo così uso il cellulare dammi dammi beh ce l'ho fatta forse puttana puttana aspetta fammi cambiare posizione ecco no aspetta aspetta ti do l'altra mano ti do l'altra mano ti do l'altra mano ti do l'altra mano puttana ti do l'altra mano in un buco in un tieni tieni no 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 quello no quello no quello no passa passa passaci la camera ciao ragazzi è stata difficile tieni puttana guarda che c'ho la gopro qua che roba ce l'ho fatta qua che roba è l'unico da spostare non è normale mamma mia vero male che c'ho questa che ha registrato tutto tutta la scena nei boschi dello slenderman ecco qua questa qui questa è una barra dura in cui volendo fermarci ma non ci fermeremo qui e meno ma devo ricordarmi dove era la roba rubata lì c'è una casa abbandonata ecco proviamo ad arrivare guardate lì c'è una casa perché poi ci abitavano ma ho detto anche il nome della famiglia mia nonna è come una nonna di Giafallo ma pensa a te calabrese no ah no è di qua però conosci tutti qui mi aveva detto anche la famiglia che abitava in quella casa lì una casa abbandonata andiamo a vederla certo Charlie fa vedere il sango però si sta andando intanto vai avanti lo schermo è spento però è normale? no però fa luce lo schermo ah fa luce però allora è normale sì luce rossa è nero lo schermo però è illuminato sì sì è il porto del parco speriamo non lo so la live nel dubbio viene ricaricata la live è già ricaricata vuoi fermare fare un briefing no non lo so se te vuoi stai fermo non fa male non è parte di me il cervello allora la apriamo che cazzo si apre ecco altra cacca e quello è un casino non ho mai capito nemmeno io come è la fattita fatta e io lo sono sforzato ecco a me sembra che lo schermo sia asceso perché si spegne oh seba abbiamo perso tutto il video allora dobbiamo usare la tua non quella mia ripartiamo vediamo la galleria è scarica purtroppo non potremo più no forse sì qui il video c'è qui sono i video però è scarica ora non usiamo la tua io la mia non l'ho portata alla fine mi hai detto che c'è la tua ma no la mia fa schifo cazzo ma qua la live la live c'è e fino a un certo punto è arrivato sì abbiamo perso un punto ti è nato perché dovevamo portare la tua quale attrezzatura migliore della mia oh porco d***o volete in aperto raga non mi aveva perso niente secondo me c'è un'opzione per cui lo schermo non si deve spegnere ma non ho ancora capito qual è no ma volete un succo? sì ti sa vedi già? sì un succo grazie tu no tu no razzismo torno in via ma per cos'è il vecchio rullino che prende luce e si perde tutta sta GoPro 20 euro comunque mi è costato 20 euro di Sturbo eh ce l'hai il cavo? eh è lo zai eh io lo prendi tu? Fabian giusto? sì che cavolo ce l'hai? davanti o dietro guarda intanto questi hanno un un sapore diverso eh sì è vero sono banana e mela ecco perché lo buttiamo nella spazzatura no sto scherzando qua dov'è il cestino? ce l'ho intorno a me siamo nel cestino no 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 non si butta per terra solo la carta se vuoi entrare nel dietro devi raccogliere sì lo so era una gag era una gag perché hai detto non buttare che cosa è quella lola? ecco buona la code? abbastanza quella come già l'attiva è Greta Thunberg muta esatto è una donna deve stare zitta allora cavo ce l'hai o no? dov'è? Fabian Fabian ragazzi i soldi della parte no si spegne perché va in risparmio energetico ma continua a registrare però la vedo dura che stia nell'acqua veramente in carica devi metterlo qua cosa? quello non ci sta ma c'è il mio kinder lì dentro aspetta mettilo qua mettilo qua c'ho la tasca esterna no ma il problema non è dove mettere questo il problema il signore il signore Gesù è come fare questo ma scusami io sto per bestemmiare non si può oppure possiamo tenerlo così ma non è tanto sicuro ma non si va non se ne va no vai mettere così li mettere ok li premero ok li premero ok perde pezzi sto roba bollino rosso bollino rosso sta registrando dobbiamo portarla tua cazzo e la mia è cinese raga per la prossima volta ci sarà una seconda edizione e magari andiamo a fare un altro fan oh il cammino di compostela ma registra registra tu che se ne metti nel culo io non posso controllare cosa stai facendo cazzo nel culo raga è troppo stretto mamma mia al massimo metti un sassetto premuto con uno scudo sul pulsante così non si spegne quanto dobbiamo? no dai andiamo andiamo pensate spero che resti registrando sta merda per tornare indietro non devi passarla qua ci sono le corriere eh dio aspetta che devo mettermi il cavo nel puttana il cavo è troppo lungo lungo e corto eh vabbè la natura se ne va la puttana basta i cazzo di succhi vaffanculo vaffanculo e che cazzo mettermi nel culo il tuo succo nel culo mettermi nel culo eeeh ah 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 lo puoi venne fuori ah 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 porco fatti a fare un tristone ah ah la natura la natura la natura la preservata aia porco ah i succhi del culo ma che cazzo non so ce la fate mi stai filando i succhi cazzo dai tu uoviti dai muoverci eh ma è un po' vito tu sei nero vai più veloce non cazzo ah puttana puttana cazzo ma te lo buttati coglione sono passato da lì ma 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 vaffanculo e io sono originale ma che cazzo eh è originale sono originale ti muori prima di noi porca eva lo scroto lo scroto rotto confidiamo nei potenti mezzi sono velenosi i funghi ebbè non calpestarlo no ma non mi piace porco giuda questa è la palla abbandonata ebbè che domande che cazzo chi è ma l'hanno abbandonata mi ha detto mia nonna quando era piccola ci abitavano quando già aveva la mia età già era già abbandonata quindi proprio proprio ora se non mi ricordo non era la roba rubata quindi là o sei di qui allora io ignoranza e di solito salvo fino lì è di qui puttana i rovi rovi di merda ma non è mica una mina il fungo se lo calpesti esplode è velenoso se lo mangi eh ma il vereno va anche nella suola delle scarpe mamma mia rovazzi solo son tesi possono fare queste avventure buonasera al freebooter di rappallo saluti tu sei veloce tu sei veloce oddio 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 sanno cazzo 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 arrivo 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 eccola ecco qui è dove gentili spettatori di rappallo 2 qui è dove vedete questo è il sacchetto in cui infilano la loro refurtiva qua c'è una scatola di un gioielliere citron bleu gioielli e poi allora io mi ricordo che c'era un botto di altra roba ma non vorrei che o è stata finita se finita nelle ecco vedi là continuo c'è un scatola di un orologio attenzione forse è proprio qua sopra il resto della refurtiva andiamo a vedere venite i zingari qua molti anni fa si trovano divertiti no non è il bottino di berlusca se un po' mi faccio io male ecco qui è dove gli zingari per l'appunto nascondono i gioielli i portafogli la mercanzia che rubano ai noi capite qual è il problema è che è caduto un albero sopra la refurtiva c'è caduto un albero però il karma perché si ha infatti c'è tutto il tronco sopra eccolo qua aspetta aspetta che rompo questo aspetta che troppo via maronna mamma mia ruspa qua c'è tutta la refurtiva i zingari eccola qui un orecchino si vede in live si si eccolo qua questo l'avranno abbannato perché sono accorti catarocco questa è una collana questo è un braccialetto questo è un sacchettino con un brillante ecco vedete degli zingari per l'appunto il braccialetto qua costitano meglio le collane c'è una cazzo di regna i gioielli che nascondono qui qua addirittura un portafoglio vediamo se ci sono dei soldi o qualcosa dentro no 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 figuriamoci l'ho visto dare i soldi però lì no no loro prendono i soldi se li trovi prendi sembra aver scosto guarda che ci siano uno scorpio l'ultima volta non giuro non è uno scarsa vedete lì lì è un altro portafoglio lì una collana una collana c'è proprio questa qui collana vera che rubano gli zingari qua casa strano ovviamente c'è tutto l'albero sopra l'altra volta grazie l'altra volta non c'era occhio a testa tu eh l'altra volta non c'era vedete qua veramente questo è un pezzo di storia e avevo trovato una cosa interessante una tessera sanitaria e un numero di telefono che avevo chiamato asunto vedete un braccialetto ecco guardiamo inquadriamo bene guardate un braccialetto d'oro ma non è oro perché se non avrebbero lascio rubato probabilmente dagli zingari questa è la tessera della conad ecco tessera della conad comunque importantissima che la standa della standa che i zingari hanno rubato probabilmente la standa quanto tempo fa c'era c'era la billa poi il carpool la standa era ancora prima qua un biglietto d'amore un biglietto d'amore zingaro qua c'è un portamonete insomma qua i zingari veramente avevano rubato un sacco di cose avevano ripreso quello di valore la roba non di valore la muta vai di là assurdo occhio alla testa devi fare retro fronte qui sta che si sale assurdo di là ecco assurdo comunque grazie mille a davide massone per aver contribuito a questa notizia che probabilmente nessuno ne fregarà niente perché probabilmente c'è roba venente del 2005 cioè chi si ricorda ah minta nel 2005 mi ha rubato il portafoglio se guardate il video vi dite nel 2005 mi ha rubato il portafoglio è stato è incredibile tra l'altro per arrivarci è anche difficile ovviamente qua non ci sono telecamere quindi gli zingari possono uccidere scopare rubare fumare tutto quello che vogliono il problema è continuare la salita non mi ricordo veramente da dove si parte non so se mi era allargato di là problemi di percorso spaccare bottiglia no venite venite andiamo incredibile ok rovi si il 31 ottobre di domenica farò live a luca comics vai a luca? si pagato dagli stessi? no vuoi venire il 31 ottobre? non credo lo sapevo ma non è che non mi piace l'uca eh ma lo so ma guarda che i biglietti costano 24 euro no eh si è tanto è tanto è tanto poi io ci vado in costa è una roscura eh tutti si fermano per le foto via di tu andiamo i biglietti sono sold out è vero non puoi più comprarli ah si? è vero infatti però l'ho ricordato infatti io li ho comprati che erano già finiti cioè non erano sono già finiti però poi erano andati erano finiti infatti me lo ricordo quindi dovresti trovare modi strani per entrarci entrare con la palla 2 esatto è un VIP e sti dire che sei VIP se accompagni il VIP davide rubino davide davide rubino tra l'altro c'è il gabby 16b orca giuda c'è un cazzo di ramo vaffanculo eva vaffanculo puttana puttana eva puttana puttana gaia clerici no sto scherzando chi è? ah puttana eva puttana che che fai? io? non vorresti mai sapere cosa sto facendo adesso sono in un bosco con i miei amici che andiamo a george soros guardate qua le pigne guardate le pigne due pigne due pigne così due pigne così le metto in bocca a fabia no mangiole allora ragazzi qua è una scavacciata più piccola di faricina ma molto più piccola mamma mia questo non mi rassicuro proprio niente cazzo è importante arrivare ora guardate quanto è piccolo questo salto che dobbiamo fare ma quanto tempo ci sto mettendo a capire come farlo senza soffrire intanto è troppo più un ramo speriamo poi a rivedere tirami le gambe distrutte tirami la tenda già questo po' mi mi spingi il culo ah spingi il culo ah porca di quella spingi il culo vai su no 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 e spingi il culo eeeh vai su vai su e dai dai da mano tira pesante molto diretta comunque è pieno di rovi pochino ti ho la forza di un lombrico aspetta 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 in quanto siamo sì ma a me c'era una zona più facile ah madonna meglio tantano lunghe o corti? lunghi eh avevi detto che li volevi corti eh per il caldo qua a terra c'è una zona che più morirai dal ridere ah ma no bisogna passare sotto il gespuglio nooo morirò esatto nooo dal ridere non lo so guardate qua quanti rovi qua quanti rovi ma il vinto è ancora in live siamo in 12 vabbè però perché era crashata stiamo andando a morire stiamo andando a morire ragazzi guardate a morte qua sto cercando di aprirvi un sentiero l'altra volta con le corpi mi mettevo qua tagliamo tutto cazzo se lo sapevo mi amavo un po' di più ma non mi ha dato nessun tipo di informazione tutta sta fatica per drogarsi eh esatto esatto è dura eh sì ragazzi siamo quasi però qua vi devo siamo quasi? sì ma vi devo aprire la strada qua perché guardate come eroicamente lo staff del ghetto apre la strada verso verso il campo presumo ci sia un campo verde no e che sta andando allora? oh porca nel lula foresta ah ah non appoggiarti lì che c'è piena di rubi madonna no hai bestemmiato catena di bestemmi ho detto porca sì ti sto riprendendo la cosa più dolorosa che ho mai fatto io ma pensa a te eh mi sa che anche io no forse no non lo so mamma mia speriamo ci sia un campo recintato con tante docce eh sarebbe bello visitarlo e portarci qualcuno rubino rubino no mi segnala a me mi dice rubino non è una cosa bella andiamo andiamo iniziamo a salire iniziamo a salire qui tanta fatica rubino a caso mamma mia non è possibile salire di qua come cazzo qua tra i rovi guardate tra la rovaglia il culo come perché qua non si passa si va in atti sempre si va avanti di là no perché no ah ma guarda ma se passi di lì prova a passarci lascia a pulire la tana perché non c'è una tua tana prova prova vinti riuscendo lascia lì la tenda se si sta registrando qua prova da passare madonna ah io dove il passare cioè qual è il passare questi fari sempre di lì ma andando lì mamma mia che fatica le 17.01 le 17.01 allora vai 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 andiamo e ora è qua senza cadere certo che se qua uno sviene manco con l'elicottero ti prendono madonna ci serve salvar Gesù ci deve salvare Gesù non l'elicottero perché è uno svea cazzo tutti sti cazzo di rami porco cane mi mancava una di queste avventure siccome guardate come urla Fabian porco Giuda vado io raga porco Giuda guardatevi riprendimi vai vai vado vado vedi oddio il dolore il sangue il sangue guardate i rovin piccati nella pelle che traccia le gracchiano tutto guarda che roba non è possibile farla dai ma senti levo io guarda vai sei un cannone vai sfonda tutto adesso adesso io io farò la tecnica all'indietro che ora ho visto abbiamo fatto una strada un po' cazzo cazzo porco Giuda l'inferno 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 cazzo l'inferno l'inferno i rovi le fiamme la puttana io ovviamente un po' più furbo ma c'è da fare una strada più a folle maronna piccatevi questa no ma come cazzo ai coglioni lo scroto calire in piedi sull'albero caduto si su un albero caduto non è proprio una delle migliori cose da fare ma tutto per arrivare alla nostra destinazione dato che ormai non si può tornare più indietro no no non si può tornare indietro appunto proprio per quello non sono mai tornati indietro saltare quel muro è uno stessino e come si torna dietro c'è un sentiero c'è un sentiero ma quando sta in cala puttana esatto le poppe prima Gesù mi ha punito per aver visto le poppe di una donna che era di un altro esatto bravo tra me e voi c'è proprio un muro di spine è vero porco Giuda guardate Fabian come si romperà lo scroto salendo questo lo scroto rotto ma che scroto qua è un casino salire perché si deve inchiappà porca di quella troia si deve inchiappettà ci siamo oh porco Giuda Raffallo mi accendi l'hotspot la mia domanda è come non prenda un cazzo zero 4G con zero tac che hotspot è vero non prendi un cazzo che hotspot sono in diretta chiedilo a Fabian l'hotspot oh che cazzo faccio merda tieni questa tieni le cuffie ecco cosa mi sono dimenticato durante il mio viaggio ma dovevo controllare meglio dipendere tutti io chiedevo che avessi preso più roba un bastone qui come ah ho capito eh sì un bastone un po' più grosso ok il muschio eh la trotta la ce l'avevo anche la vuole forza all'indietro come i cranchi oh cazzo ragazzi quando vi dite sta cazzo di salire guarda che fatica fa il nostro capo per salire porco Giuda porco Can ma state cercando la tomba di Mussolini o cosa eh 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 ah ah cazzo ah cazzo il dolore si un attimo ah ah il dolore fisico allucinante ragazzi questo rimarrà nella storia ah ah i rovi cazzo cazzo i rovi ah stiamo arrivando ah cazzo è bello che la gente magari la gente magari pensa che stiamo staggirando ma non è così eh sì no madonna è pieno di rovi non fanno fuoco male puttana puttana guarda guarda il piede orco Can ce l'ha tra i rovi forca di quella orco Cane vengo male tuoi pantaloni lunghi perché lì ci rimandiamo eh perché poi la ricarico su un canale youtube sul canale youtube rapallo 2 ricarico il viaggio con la gopro ma dovrò mettere molti spezzoni della live perché non ha registrato tutto alcune cose sono perse oh guardalo lì guardalo lì guardalo lì guardalo lì che è porca di puttana c'è un rovo eh sì se fosse uno puttana il rovo pure nel cavalletto si è conficcato nel cavalletto porca troia mi si è ficcato mi si è ficcato il cazzo quasi le polle di i cavalletto si è ficcato tra i rovi incredibile ecco ora tocca a me cazzo informarmi di questa cosa però aaaaa puttana attraverso la suola delle scarpe porca cazzo 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 che cosa è questa roba bianca droga se fosse trova fosse una cosa bella cazzo 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 aaa la merda nelle mani aaa cazzo di rovo nelle mani cazzo del cazzo di spina aaa puttana puttana l'inferno 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 scampito guarda un ne guarda sto qui il negro bastone ma madonna un male cane questo madonna orco aaa cazzo 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 no guarda qui orco giuda orco giuda si è affezionato si è si è affezionato si è sono affezionati orco giuda sono sono un riccio sono un riccio sono un cazzo di riccio sono diventato un riccio ormai un riccio pieno di spine meglio un riccio o un rovo è meglio un riccio aaa cazzo orco gioco facciamo vedere pieno di graffi puttana cazzo cazzo scolcatroia madonna madonna veramente meno male che il patalone lungo lungo la mano nel rovo far qualcuno far qualcuno aaa mi ha punito il rovo dai tu mi hai connect puttana la connessione aaa hai un rovo lì cazzo grazie cazzo scazza nella maglia aaa aaa levalo 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 aaa levami il rovo raga bisogna passare sotto guarda qua che cazzo ho un rovo in testa non me ne avevo reso conto puttana passate una parte facile perché io vi apro il sentiero pensate a me possiamo anche salutare tanto qui non va più un cazzo no speriamo che stai registrando vaffanculo una prossima latura e guardiamo se la coprò sta andando ma ce ne sarà un'altra latura madonna domanda oh porco orco giuda orco giuda madonna orco giuda in testa in testa ciao luca fucci dai passa se va più in su non va più niente che devo fare cazzo fermi qua è una situazione critica eh già lo sto vedendo ah scusa ah madonna è una situazione critica devo capirlo un po' perché vedo purtroppo cose vedo tanto e poco passaggio e male guardo tutto il sangue guarda tutto il sangue che esce dai buchi guarda tutto il sangue cazzo che sensazione di merda madonna perché se vanno organizzati un'intervista a Matteo Montesi perché non ci sto sul cazzo ci stai sul cazzo? si lo fai già? si come? non mi leggeva mai su twitch c'è leggeva tutti i commenti tranne il mio tutti non mi bloccava neanche ma leggeva tutti non è che sto su mia sorella è stonica eh leggeva tutti i commenti tranne il mio dura pure sulla tenda non è una radura ma devo passare da sotto di radura mi ha poca questa devo passare da sotto come se non lo fosse stata finora ma di lì mi si è attaccato una foglia la calma è la virtù dei forti la pazienza non la calma un orgasmo femminile da parte di Davide Massone ah ah porco cazzo il masochismo diventerà la mia nuova fonte di masturbarmi perché se no non riesco a salvarmi da questa situazione dove poi dovrò 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 farmi le pippe tagliandomi le vene aia le facete ce la fate madonna luvenna vai ti spigo il culo no 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 calma porco giuda porco giuda e io e io vado a far culo ah e levati sto bast— togli la lascia il culo per terra tredimelo tirimi questo tirimi il cavo Cazzo no Devo abbassarlo Devo scavancare E abbassarlo Questo cazzo di ravo Ah 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 butana Butana la mamma dei rovi Butana la mamma dei rovi Quella gran zoccola ma che cazzo ha creato i rovi Chi è il Il dio rovo Che ha creato i rovi Fanno male Ah 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 Tutto bucato tutto il sangue Manco fossi un pomodoro Sgorga il sangue proprio dai buchi Ragazzi qua io penso strada Non mi dire Non me lo dire porca di quella Dovevamo andare a casa tua con la piscina Altro che Altro che rovi L'idromassaggio Mi stai prendendo per il culo Che hai sbagliato fra E come cazzo Ah Ah Puttana Ah Porca troga Non possiamo Anche un scena Qua prende tutto però Prende un sacco qui Come che non possiamo Nesce ne salire Nesce ne salire Come ragazzi Ah Porco giuia Porco dia Porco diaz Porco diaz Porco diaz Porco diaz Dio cane Lo voglio Sto cazzo di capo Per caricare sta gopro Ritardata in culo Che neanche starà riprendendo Dio Cristo Davide è scomparso Davide è scomparso Dammi delle buone notizie No 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 Vabbè no E No Pichino Dio sperro Dio sperro Dio sperro Orcocan 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 E che cazza Questa è la parte più semplice Di tutto sto percorso di merda Sto scoglio Sto scoglio lo devono buttare in mare Sto scoglio lo devono buttare in mare Non mi ricordo come è fatto Mi spiace Eh va bene ormai Che dolore Con dolore Esatto Official Trends Eh lussuriosi Qui zippano Perché non li vede nessuno Ma Fin qui Orcocan Caduto Gesù Ah Gesù È risorto Veramente Le serpi Qua ci sono le serpi Ecco Il buco della serpe Lo mando qua Il buco della serpe Ciao Giuseppe Il buco della serpe Qui c'è il buco della serpe Dai vieni Urcocan Come le scimpanze Ecco Come gli scimpanze Comunque questo è un posto che consiglierei E a quelli che odio I casochisti Se odio qualcuno lo invio qua Cazzo Cazzo Puttana Se avete qualcuno che odiato Allegria fratelli Perché se oggi Noi amiamo Dove è andato il buco Ah Cazzo di rovi Guarda questo Venite dai Che sta per fallare tutto qua Porca troglia Come cro Fammi aggrappare Eh che cazzo Puttana I fili dei merda Va sempre Mi hanno fatto cadere Sti fili bastardi Fili bastardi Madonna Guardate qua Seba Occhio Veloce Ma veloce Ma porco Dio Registra qua davanti Guarda qua Eh Facciamo controllare l'albero caduto Oh Uè Aspetta Guarda che roba Se lo vuoi cade Oppure resiste Cade l'albero Secondo me resiste C'è verrebbe la tua teoria Se lo vuoi essere Talmente masso All'interno Guarda Qualcuno si doveva salire sopra Se non è Cade Vai Si sega l'albero Il fatto che poi Quella strada lì Poi se la vuoi fare Te la prendi nel culo Già te la prendi nel culo stesso Vabbè non cade Mi piace Che fei Che fei Dai la parola torna a casa Che vogliamo vedere Quei due fare il borno Ah la coppia di prima che zippava Te l'ho detto Forse l'ho presa qui Ma non so perché Non ha registrato tutto il viaggio Stammerda Non so perché Non ha registrato tutto il viaggio Stammerda Chi ti dona Sbattro Eh Chi dona Gli do la clip Dei due che zippano Ci sono viste le poppe Io le ho viste Ne vado fiero Ragazzi aspettatemi Che non so se la sua registra Ma poi stai andando a serie di Twitch Perché sembra molto doloroso LOL Esatto Sto andando a Twitch proprio Dalla mafia di Twitch Esatto Stiamo andando Mamma mia Abbiamo l'armamento L'armamento Guarda Fabian Puttana guardate C'è un cazzo di calabrone Colabroni Avete visto il calabrone Nell'occhiale Vaffanculo E' giusta la strada No Ma dove stiamo andando Gesù bambino Gesù bambino Gesù bambino Dai cazzo Muoviti Ma dove Madonna Mamma mia Madonna Allegri Ah Odoli Mi sa che qua Mamma mia Siamo persi Un cocane Dai su Che buona ragione Dai su Fabian Su Su Cazzo Mi son preso un Cazzo Porca Troia I rovi Orco Canne Nella testa Nel cervello Portana Qua è arrivare Da qualche parte Un rovo Ci avrò I graffi Usce il sangue Della testa Cazzo Tutti Siamo Al qualche Volta Orco Cane Guardate Sto Rovo Nero Tutte Le spine Mamma mia Cattivissimo Cattivissimo Che avevi detto Scua perché Si è bloccata Connessione Ha urlato Bestemmiato Madonna Sono le 5 e mezza Qua Porca Puttana Arrgoggio Ci muoviamo Ci muoviamo Mamma mia Gesù Il dolore Il dolore Il dolore Porco cane Guardate Sto rovo Nero Tutte le spine Mamma mia Cattivissimo Cattivissimo Che avevi detto Scua perché Si è bloccata Connessione Ha urlato Bestemmiato Madonna Sono le 5 e mezza Quasi Porca Puttana Arrgoggio Mamma mia Gesù Il dolore Il dolore Le pigne Le pigne Perché se noi Amiamo Perché lui Porca Giuda I rovi L'inferno Allegrio Oddio Il peloso Guarda La radice pelosa Come le palle Del gabrone Mamma mia Guardalo Un ragno Caduto Guarda Se non ha registrato Però dovevi portarla La tua Cazzo Stai registrando La interrompiamo E ne facciamo un'altra No Perché Meno male Sono sicuri che almeno uno Te lo salva Anche se si fiume Quindi ha registrato Guarda qua Let's go Tutto bucato Ma io non tanto Io non tanto Solo qualcuno Ma poveri Vediamo un po' Dove passare Mamma mia Come fai a fare live Mentre sei in campeggio La magia del Natale Allegria Solo fatica però Fatica di salire Mamma mia Niente rovi Niente rovi Mi dispiace che non siamo passati Dalla capanna dei cacciatori Dal bosco di felci Guarda che roba E prende pure E prende pure Che scemo Che scemo È caduto Oddio Orco can Facci un urlo 13 Raga Guarda che è un posto figo In effetti è figo In cima Ma Fabio Fermati a dormire Con cosa? Nell'erba No possiamo provare a fare qualcosa Cosa? Vediamo C'ha la tenda lui Dai Facciamo una gangbang Venite venite Dai ci troviamo una soluzione Un campeggio con lui Fabian Però devo Eh? Lui Fabian Però non abbiamo preso da mangiare per tre Ma sì Allora Fabian Vaffanculo Sparisci Vai a cagare Non sapevo Appena ho detto questa cosa Non sapevo Ma è che poi alla fine Sotevamo pensarci Magari ci sono dell'uva Caduta drammatica Eh sì Grazie ufficio Apprienza Ciao Alessandro Germoni Ci siamo quasi? Incredibile Questo giorno viene diventata storico Dai sì Eh sì Una serie? Tipo con musica epica Abbiamo iniziato Tutto tranquillo Che roba Con due pizzi che scopavano Che roba La zippata Non so se l'ha registrata Qualcosa ci sarà Dai Stato hai Hai la Hai la Va bene Non so parlare Guarda Troppo in giù Si registra Ecco Va meglio Ok Cazzo di ramo Semplice Sì sì Guarda Tutti i ragni Guardalo Ebbiene C'è i tuoi ragni Di merda Ma addio boia Mamma mia Porco Sto sudando Marcio Siamo quasi in cima Vedo la cima Vedo la cima Secondo band di clima Quando arriverà Presto Ragno in bocca Cazzo la spesa E' il cazzo di sacchetto Di merda Devi riuscire a partire tutto Lo zaino Ma Gesù Maria Giuseppe Il cazzo di sacchetto Cinese La carne La carne Mongola Tutta la Red Bull La sacra Red Bull La sacra Red Bull Caduta per terra La sacra Red Bull Muoviti su Eeeh Il pane Tra la terra Gli insetti Ragni Il cazzo di cavo Porco Ma c'è il cazzo di cavo Il culo Tra le tre gambe Sto cazzo di cavo Mannaggia Mannaggia Il pane Non ci entra Lo spezzo tutto il pane Dobbiamo sacrificare l'acqua No No Col cazzo Useremo gli energy drink Va vai No Muoviti Ma muoviti cosa Che c'è il cazzo di cavo Tra le gambe E' pazza E' scendo Sei morto Ma vaffanculo Vaffanculo Ah porco Giuda Sono io la vostra dispensa La dispensa E' arrivo Sistemare la tenda Fare il fuoco Abbiamo di roba a fare In due ore Puttana Porche Vabbè Dio Dio C'è conficcato il cavo Che ne hai tirato i tanti di quelle Cosa hai trovato? Mi ha spettato la prima guerra mondiale Addirittura No Credo c'è un cavo della corrente Guardalo Che figo Ma guarda che zona bella Ma cosa c'è Non c'è un cazzo Ma non c'è campionino Ma vaffanculo Guarda che belli Questi alberi Credo da fare un bel cungro Andiamo Oh C'è il picchio Un po' Ma non si può scendere a vedere Perché? Non c'è niente Non c'è niente Lì c'è qualcos'altro Seba Oh Qui vedo una caparra Allora Qua ci sono i bossoli Eccoli I fucili a pompa Guardate I bossoli fucili a pompa Guardate Guardate Comunque Siamo Autistic game Sì 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 Allora Allora Ebbene Si vede che questo era un sentiero Pieno di pietre Non ci cresce l'erba Eh immagino Anche il chiero Sì 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 Mamma mia Porco Giulia Immagino Sì 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 Madonna Santa Il rovo nel culo Aiuto Andiamo Andiamo Ancora Madonna Sì Mamma mia È infinito questo bosco Finito Un lavoratore di giustizia esatto Mamma mia Quanta fatica funesta Questa selva Quanti cazzo di rovi Neri E grossi E appuntiti E ovvi grossi Ci siamo? Eeeh Non posso dire? Eh? Che siamo quasi arrivati Ancora Basta Sto quasi arrivati Sto quasi arrivati Io ti dico che il comune non fa qualcosa Ancora tre anni Queste cose Queste cose Sanno ovunque E non potremo mai più risalire qua sopra Vabbè ma passeranno anni prima Anni sì ma noi non potremmo mai farlo Ma che cosa 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 Vai a andare insomma Vai a andare insomma Questa Questa Guarda quanto sei nascita Guarda quanto sei nascita Guarda quanto sei nascita La madonna E' quanto è il ci sto scendendo Che avete 10 minuti? Beh, molto poco Ad arrivare a quella strada Siamo Mammamia c'è un morto c'è un morto cos'è ho capito ma è lungo che succede lì farlo vedere in live guardate questo frutto chi ha in live forse lo riconoscerà cos'è lui lo assaggerà buscetta assaggia fai vedere cos'era un cazzo esatto iniziamo già l'invasione ma cos'era che scemo che scemo ah 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 cascato dunque meno rovi bene orca miseria cazzo qua le cuffie e la maglia di farina eccoci beh devo mettere il power bank siamo a poca carica ha fatto una corsa la cima eh meno male quanta ho 15 devo correre dobbiamo mettere il power bank salvare la diretta grazie rigva è un buon momento per lì io sto cattonando oddio Siamo quasi arrivati Usiamo le gambe Le trazioni La concentrazione Io crollo Vaffa il culo Power Energy Ci accampiamo qua Alleluia Arrivati 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 Ti va di restare Ti divido io il cibo Non è un problema Mi devi dire se hai voglia Se hai voglia io lo divido senza problemi A parte gli schemi Però devi dirmi se tu hai voglia Mi dovrei informare però Devi dirmi con tutto il tuo spirito Se scendendo saresti triste Allora rimani Divido il cibo Divido il cibo con Fabia Ti faccio rimanere Ma dove torniamo? Ti dobbiamo mettere la tenda qua Nell'erba Ti sembra il caso? Allora ragazzi Allora ragazzi Dobbiamo iniziare a pensare Esatto Power in Dobbiamo iniziare a pensare Power bank Power bank Il fuoco Dove? Una zona che non possa scaturire un incendio Power bank Quindi io direi Che potrebbe fare fuoco Power bank Power bank Qua dove ci accampiamo E lì dove accenderemo il fuoco Dobbiamo metterci A prepararci col fuoco Mamma mia Ti va di tenere te? Ecco vai Registra un po' Io mi levo una zona maglia Che me la sbatto Perché sono veramente Sporco Guardate Guardate qua che muscolo Rubino 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 Anch'io c'ho la pancia Non ti credere Ma non sono un ciccione come te Rubino Do you understand Rubino? Siamo venuti qui Rubino Tra i rovi Tra tutto E tu cosa stai facendo? Giocare a FIFA Rubino A FIFA Quel gioco di merda Per il Verona A creare il fuoco Creiamo il fuoco In direzza Creeremo il fuoco Fabian Vediamo un po' Come si crea il fuoco In direzza Su Youtube E basta Ragazzi dove cazzo è sto posto Per dire a mio padre E qua Inquadra qui la zona Guardate Siamo in cima A Il monte Lasagna di Rapalma Ehi ma lui Io gliel'ho detto Ma lui mi ha detto Dov'è E di La Madonna Nera E la zona prezzata La zona della Madonna Nera Guardate qui Si ma che cazzo ti fate Si marshmallow li abbiamo presi? Nooo Non ci credo Ma che cazzo E io ho detto E io ho detto La carne è abbastanza figa comunque Ma solo la carne Cazzo È abbastanza E le patate Le patate Ah le patate Bene bene Una ricetta antica Allora guardiamo un po' Perché noi non sappiamo fare un cazzo Ma tu cosa hai per dormire? Un sacco a pelo Eh ma un sacco a pelo con quanto è grosso Per una persona Senti Eh che cazzo Vai Eh vabbè dai Che cazzo norma io? Senti sull'erba Ma ti senti Io non ho la tenda Foglie secche e ramoscelli piccoli Ma costruiamo Costruiamo cosa? Hai un telo Davide? No Ma quanto è grande la tua tenda? È per uno Il massimo due ma Ciao camerata Ciao Aldo Oh mi aiutate? Appoggiamo sto robo e aiutiamo Che cazzo Qua porca di quella troia Mi servono ramoscelli piccoli e secchi Non bagnati E poi gli secchi E questo cosa faccio? Questo qua Che ho in mano Tienilo Eh Non posso farlo così Allora ramoscelli Hai detto Secchi Boh Questo è secco No Questo è secco Ecco Prendiamolo Tutorial come accendere Il fuoco Come lo metto Questo è secco? Sì Allora Mi servono anche dei tronchezzi Questi? Siamo qui Sì Come accendere il fuoco Andiamo a prendere Sì Metti I ramoscelli Andiamo a prendere i ramoscelli Oh senza cavi Secchi? Secchi Secchi Niente Ma vai lì Senza niente Cioè Messo Ma vai a faggulo Foglie umide Eh non so Eh non so Detto apposta Dov'è? Ah Anche con spine Eh Edera Di ocano Orco cane Orco cane Tra tutte le foglie Che potevo toccare L'edera L'edera No Ma prude Ma per umide Ma per umide cosa intendi Bagnate E perché queste no Ma umide cosa vuol dire Bagnate vuol dire Ah Scientifico Scientifico Scenti Eh? Eh? Usiamo un ramo Come i primitivi Lo sai che Il tuo polpaccio Oscura l'obiettivo Hai preso due volte Due Lo faccio sempre Guarda Ceba Che Vaffanculo I ramoscelli Andiamo a prendere i ramoscelli Oh Senza cavi Secchi 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 I ramoscelli Occhio al cellulare Ah Anche con spine Eh Edera No Ma non è venenosa Questo qui Momento storico Crescione Non so Sto pensando E il problema Dove dormire Se non lo fai Lo so Carlo Ma noi ce ne freghiamo Stiamo incidendo i nomi I nomi che resteranno nella storia Perché nessuno verrà qui Ma il tuo nome non ha una S Ah Scrivi solo le iniziali Sì scusa Devi scrivere tutto Sebastiano Davide La Paglio Fagli bere la linfa dell'albero Bevi la linfa Come vi avevi detto che si chiamava questo? Monte lasagna Sopra la madonna nera Sopra? Sì La madonna nera Devi specificare E' una carità di Rapparlo Che già bene Esatto Ecco guardate storico Questo qui è un momento storico Fate lo screenshot Non si crede un cazzo Le iniziali Con la GoPro si vedranno DSF Le iniziali dei nostri nomi Su questo albero Se volete venire a cancellarle Fate tutta la strada Che abbiamo fatto noi Muovi il culo Ancora foglie Devo staccarle però Devo Ma guarda come si monta la tenda Non l'hai montata L'abbiamo appena fatto Ah mai Anche i ramoscelli questi qui Foglie Foglie Anche i rami però E i rami Oh Seba Cazzo le foglie Ci sono estremamente per terra Dove le trovo Ma i rami pure Ma ci sono già dei rami Sì vede le foglie Madonna Ma guarda te Lontano vai straniero Poi le mettiamo Cosa consiglieresti alle persone Che si sentono Anestizzate e impotenti Ma guarda qua c'è da un posto Dove hanno Dove c'era un posto Saranno venuti dall'altra parte A proposito Se il sentiero di prima Era più semplice Per vedere Perché l'abbiamo preso quello Invece che i rami Eh no ma Eh la sfida Mamma mia Devo prendere le foglie Guarda di là Io rovo pure qua Guarda di lì ce ne sono un botto di foglie Anche qua eh Ma lì ce ne sono veramente corto Guarda Ma qua ce ne sono veramente tante Il piove mormorò Non piangere o guerriero Camerata Prendi le foglie Goliardia Guardate questa è importante Parte del viaggio Il montaggio della tenda Ora Magari è così forte il vento Cosa a portare le ghiacce a me Eh sì Ora abbiamo montato al contrario Come al contrario? Dentro o fuori Ma dai No no scherzo Ah ecco Un tram Il mi flopi the best Il fatto è il terreno Cioè sotto Non so come E vai Prova a entrare Cosa I'm stuck Step I'm stuck Rana Collaudiamo questa tenda Io voglio vedere il tuo sacco a pelo Cioè sono veramente curioso A come? A figlia di frustate No C'è mia mamma che ci guarda Sì? No Questo canale non lo conosci Però lo guarderà Il video Ma perché devo levarmi le scarpe in una tenda? Perché a me dà fastidio Che dove dormo io Qualcuno entri con una Ma tanto usi il sacco a pelo? No Ah non usi il sacco a pelo? Ma perché il sacco a pelo? Eh ma il terreno è scomodo No ma c'è la ragione Seba In realtà Però non ho voglia di portare Perché il mio è ingombrantissimo Cioè gigante Seba Se vieni più in qua C'è un po' di vista forse Ah sì Lì vedo un po' il panorama Sei sicuro che non vuoi fermarti? Dove? Qui Eh se lui vuoi Dormi con me E a lui gli ho il sacco a pelo Eh vabbè Eh ok Però Fammi vedere il sacco a pelo Tanto ti ho ok Voglio vedere il sacco a pelo Sono curioso Facciamo Dov'è il No c'è la capo C'è l'accendino Ce l'ho qui dentro Reggimi questo Chi stai eh È universale questo Che sacco a pelo È universale Ah ah Guarda Viene letteralmente per terra eh Eh sì Per terra Ma se no io dormo per terra Non ho problemi E te vai lì dentro In che senso No no ma È anche Sembra anche comodo Però mi dà Forse mi dà un po' di Classico Dormi dentro Dormi dentro lì Dai fate gli scherzi Da fate gli scherzi Io preferisco dormire fuori Si è offeso Fa vedere Fa vedere Ma che puoi scorreggere Scorreggere lì da dove è Straniero Straniero Bravo l'immigrato Deve restare fuori No La legga Eh lo so A parte che non è caricata Ma che quella almeno Ti starebbe Ma qua Sei già scaricato Il tuo power bank Ah no Il cavo Se va mi devi fare un favore Ah un grillo Dai mi accendino È pieno di grillo E' pieno di grillo E' ma no Fabian cioè E' qua Questi Tieni questa La carne Gesù Ti immagini Sei sententino Non lo trovo Merda No no Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Però bisogna Eh prendi Forse è qua Si chiama Nicolora Zaparda Non per lui Prendi questa Allora Ce l'ha Fabian Ma secondo me ce l'hai te In tasca Ce l'aveva lui Lo sapevo Bastardo Bastardo Via dal piave Via dal piave Se va Mi fanno favore Eh Raccogli Ancora Se va La scena è tutta tua Bastibile E la metti sotto La tenda Ok Ok Che ci fa la materaccia Già che ci siamo È meglio No Si è spenta Perché non è caricata Vai vai Su Ok Hai provato? Se va Se ne è proprio Andicappato Eh Un pochino Cazzo Ma non era meglio Mettere prima l'erba Se lo era In effetti ha un po' ragione Ha ragione Però Ok Ragazzi dovremmo Ma non ha un minimo di grandangolo Sta camera Che vuol dire grandangolo Si vede un po' Cioè Si vede un pallino Sì è vero È vero Così Cioè Si vede un quadrato Un quadrattino Doviamo accedere il fuoco Per fortuna che c'era live Ragazzi In un grandangolo Dobbiamo provare ad accendere il fuoco Ma è comodissima Questa cosa Eh Bastardo Stanno provando Sto dando il mio retto Bastardo Ma è comodissima Solo che È una cosa strana Perché non l'ho mai fatta Ma è comodissima Io Devo provare ad accendere il fuoco Ma è comodissima Ma è comodissima Il bar gris Se la fa senza accendino Io con l'accendino ho problemi Devi fissare Guai a se Se pisci dentro È vero Tra l'altro Perché capisci Ah però è durissimo Noo Fabian Cosa No 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 Non è quello che Quello che hai capito Questa carta Non brucia Ma no ma Ma almeno potrei portare un cuscino No? Usa l'erba Fedi un po' d'erba E fai la cuscina Detto così è come se gli dovesse fumare l'erba La lua Eh vediamo Ma è bellissimo Si accende sto fuoco? Non mi dissocio Ciao logo Blox Ma fate il campeggio vero? Sì Vero senza Cidità Non c'è che tu dormi con Tu dormi lì Dormo dentro? Sì Bastardo Che comodità madonna Che fuoco a comodo Ma si spegne da sola Oh E non ho capito Sono sei in carica Rimane attiva C'è un'opzione C'è un'opzione Probabilmente Devo mettere tutto Io non so come si fa Forse ho capito Non ho fatto Perché non capivo Guardate Fuochi illegali Ce ne sbattiamo il cazzo Falso mi facevi meglio Col tuo cellulare Eccolo Guardate il fuoco Ma non è preso il fuoco Sembra Però Ma è già scarica Ma che batteria di merda 20 euro Dovevi portare la tua 20 euro del turbo Guardate che bello Sto fuoco No l'erba cosa fai L'accumulo Ma metti la lì sotto però Ho capito l'accumulo Che cosa Devo farti una foto lì dentro Dai fammela Te lo concedi E dammi il blocco Il telefono Perché Perché Sto i luoghi Tieni Aspetta Non lo stavamo Tutta l'accumulo Sto smandendo il gruppo Fu là Ma siete in classe Insieme E così Avete anche i riti No Non la vanno Nel lupo Cosa ne pensano loro Della tua carriera Da youtuber Guarda In realtà Non rompono le palle Si no Si approvano Approvano Guarda che bello Pensi Di adozioni omosessuali Gravissime Di un altro livello Qui veramente Siamo a un livello assurdo Cazzo Però Se sapevo che rimanevo Compravo anche io qualcosa Portavo uno zaino Tante cose Avevo potuto fare Io ti dico una cosa Se scendi dal sentiero E torni In due ore Sei qua Bella madonna Già che ci sei Passa da casa mia E prendi un po' di roba No davvero Ma due ore In due ore Sei qua E l'erba verde No Perché Non brucia Non brucia Si Non capisco Brucia solo se Ormai il fuoco È già bello acceso Guarda che bel fuoco Satana Invochiamo il demonio Sto scherzando Facciamo dei riti satanici Ciao Ciao Il mio culo Ci dispiace Il fuoco Questa live Non è gay Abbiamo trovato Un modo Come accomodarmi Ma è un incantoso Hai trovato Un modo Guarda che roba Oh mia tol Tu porti ste cose Seba Foglie secche Veloce Ancora Non devo dare Metti l'erba Metti l'erba Veloce Metti quell'erba Che hai lì E vai Cosa Gli agli ritiro Non vuole dire Se bruciano Che è una località Madonna nera È una località di Rapallo Vincino a Sant'Agostino Vincino a Sant'Agostino Comunque credo che abbia preso Adesso il fuoco Rapallo 3000 Distrugge tutto Guarda che fuoco Sopra San Quirio Guarda che fuoco Si è mutato Guarda che fuoco Adesso ho aggiusto Brava Guarda No merda Abdul si chiama Guarda Abdul Vabbè Andiamo Ora ancora Erba sotto la tenda Sì Oddio Seba Sei fatti Quell'errore Nutta Quale errore Brava Brava Ti proviamo Nella località Di Monte Lasagna Sopra La Madonna Nera E qua abbiamo acceso Un fuoco Illegalmente Occhio Seba occhio Oddio che succede Occhio Porca miseria Porca miseria Che sta facendo Un pazzo Guardate cosa fa Minecraft in real life Minecraft in real life Davide Massone Detto Dovida Dovici Art Staff del Ghetto Sta alimentando il fuoco Non è un rito satanico È solo un'attività Campagnola Di campeggio E ci troviamo Anche in diretta E vabbè Esciamo anche con Fabian Fabian Notti Dello staff Del canale Spatalianos A cui pretendo Che voi vi iscriviate Subito Abbiamo montato La tenda Fabian dorme Nel sacco a pelo Io Presumo Nella tenda Almeno che non mi Non dormo Nella radura Da solo Nudo Nel bosco Ed ecco qui Il fuoco Alimenta il fuoco Eccolo qui E però Perché abbiamo fatto Questo viaggio La vera domanda Per una sfida Lanciata dal Davide A cui ha promesso Che se io Riuscirò a sopravvivere Tutta la notte Avrò Le credenziali E sarò un membro Dello staff del ghetto Quindi Una proposta Allettante E adesso E adesso niente Ecco che alimenta il fuoco Quindi E' una bella storia E' una bella storia Bella storia E quindi niente Adesso vi appoggio E Vi lascio osservare Per qualche minuto Il fuoco Che brucia Il fuoco Che brucia E che viene poi Alimentato Dai Vabbè Trovo un punto Dove mettere Sta merda Qui Tutta l'erba Ecco Ecco Lascio questo punto Col fuoco Che viene Alimentato E che continua A bruciare Ok Scusate Spettatori Ma La parlo Quello che brucia La fiamma Del peccato I lussuriosi Fanno sta fine Vedete Sta fine Bruciano Vladimir Luxuria Esatto Gabrone Cioè Tu che sei un lussurioso Questa è la fine Che ti spetta Se non Inizia a cambiare Questa è la fine Di Valentina Nappi Tutte le pornoattrici Secondo Dante Almeno Secondo me No No Non è vero Anche secondo me Bruceranno tutti All'inferno Così Pure io Con Dante Pure lui Ragazzi Venite qua Che ci disinfettiamo Le mani Ecco Procedure mediche O sei qualche ferita No Qualche buco Ma poco Ho tre buchi Adesso Mi bruciano le mani Perché sono pieni Di tagli Da parte Dei rovi E io invece no Non sei abbastanza Gender fluid Scurarsi Gender fluid Gender fluid Ma i fluidi Sono tipo Come le bambole Confiabili Tieni Sono come le gambole Confiabili Butta un po' D'erba Vai Camerata Campeggiamo Il campeggio Di camerati Come vedete Rispettiamo Le tradizioni E questa Invece Stiamo accendendo Il fuoco Con qualche Con qualche Adesso Questa cosa La dico in diretta E me ne fotto Stiamo accendendo Il fuoco Con qualche Comunista Io ma lontano Mi sto cuocendo Mi ustiono L'ustione 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 Qua io preparo Le patate Ecco Mi piacevano Chi ha visto Il pack on titan? Io Ti ricordi Sascha? Sì è morta Non so Ma a parte Sascha che muore Lei mangiava le patate In un modo Nel modo normale No Ma a parte Ah quando le spezzava Eh Noi Le cuociamo in questa maniera E poi le spezziamo In due Eh Come faccia lei Buona Bella idea Un omaggio alla sua morte Devo mettere L'erba Sotto la tenda Preferite il fuoco L'erba Qui Qui due tac Qui forse Qui prende di più No Non prende di più Non cambia Dove sei Cioè Cioè Scusa Ah Ah Venite di questa Ragazzi Mi servono pezzi di legno Bella Mamma mia Legno tosto Mettiamo nel sedere Di Davide Ma se no Mamma mia Pesante Cazzo Eccoli qui Legne di scorta Tutti i graffi Qui I graffi Del lavoro Della fatica Andiamo qua Ave Ave Mattemoz Ave Ragazzi Scusate Ma non prende Molto bene Questa è la zona Dove prende di più Credo Quindi Devo usare questa Anche se un po' Lontana Da tutto Sempre meglio Che niente Sempre meglio Che niente Giusto Guardate Ave Comunque Ave Comunque Ragazzi Ave Ave Matti Fabian Fai uno squillo A mia mamma Porco Diaz Perché sono in live Mamma mia Fatica Qual è il cognitivo mamma? Non posso dirlo Sono in diretta Mamma mia Guarda qua Ferite di guerra Di notte? Mamma mia Che fodio Che fodio Vediamo un po' Qui altre ferite Ecco qua Mamma mia Stanchissimo Sono distrutto Bisogna Continuare a lavorare Ma ragazzi c'è un piccolo ma anche grosso problema ma non è vero ma non da retta al meteo anche oggi doveva piovere non ha piovuto non ha piovuto doveva piovere non ha piovuto sono balle guarda ma non posso perché? già non prende fa Fabian devo chiamare mia mamma ciao pancio ciao pancio chiamo mia mamma spero che la diretta rimanga devo chiamare mia mamma ma si sono cazzate non ho chiamate perse questo è un bene non ho chiamate perse un bene guarda il tipo centimetro è diverso questo è il più affidabile che ho forse lo mandare un messaggio non chiamare non lo dà da luna di notte sono arrivato in campeggio va tutto bene va tutto bene occhio perché è andato l'alletta arancione è già dalle 4 di questa notte quindi c'è l'ismani domenica va beh occhio alla pioggia andrà tutto bene ok va bene ti stai divertendo? sì bene hai trovato tutto il materiale? sì 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 ho dato anche grandi contributi sì 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 di tecnologia? no no di lavoro manuale ah immagino come con la nonna nell'orto più o meno sì sì uguale la stessa tecnica sì diciamo la supervisione del lavoro esatto ti sento dei commenti sottofondo ma non vabbè allora niente non ti posso non ci sei sul tuo canale però? no sono in uno segreto sei in un canale segreto? sì dove non ti posso vedere no non puoi eh vabbè pazienza allora niente ti auguro una buona serata grazie ah aspetta una cosa sono andata per prendere il costume lì dal dal negozio però l'ora arriva dopo il 6 cosa faccio? aspetto e non è sicura che arrivi ma non è il 31 il Lomix sì Luca Comics sì il 31 ma il costume gli arriva dopo il 6 di ottobre però non è sicura che ci sia no ordiniamolo da Wish come abbiamo detto l'ordino sì sì è una M eh va bene lo stesso vabbè allora ok va bene va bene allora ok ciao 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 saluti a tutti ciao ti saluto ciao come ti permetti, è mia mamma, non avrai qualche possibilità, no, no, non è single, non avrai comunque possibilità, anche se è single, madre ai toni, ragazzi vuoi dare la live, cosa ne pensate, non la conoscono, è un pubblico nuovo questo, non è la pallo 2, ma di la pallo 3000 è una fegna, come mi permetti, è un complimento, ma che complimento, è mia madre, dico mio padre che non danno pioggia per quello, è mia madre, va bene, sto stessa, massimo se piove è una figlia, per voi è semplice dirlo, voi siete in tenda, io sono fuori, fabbricatelo un tetto per quando sarai tutto bagnato, mamma mia, non farti riguardo, ciao Rapallo, cosa ne pensi di questa dittatura sanitaria che sta protolando la rovina del paese, non ci voglio pensare, a noi fa solo che piacere, esatto, ho visto un po' online, stanno pioggia, quasi alle 9, qualcosa del genere, però anche lì, non lo so, con l'Ipec, mamma mia, questa è l'unica zona che prende, l'unica zona che prende in tutta la foresta, se tipo mi sposto qui in là, non prende, tutto strano, tutto strano, ma è vero che i genovesi sono tirchi? Sì, e c'è? Sì, ceniamo, 18.45, e quanto ceniamo? Madonna, dormiamo, hai messo altra erba? Sì, sì, vai, mamma mia, che stanchezza, è stato un viaggio lunghissimo, e stanchante, ma è vero che Sebastiano ha forte attrazione fisica per Antonella Clerici? Sì, è vero, chi è Antonella Clerici? Una? Perché sei stato banato da Twitch, è colpa della mafia, adesso mi sono rifugiato nelle foreste, per sfuggire al ban, sono sfuggito, vedete, nelle foreste, nelle foreste più ambigue, assieme ai miei amici di camerata, Dovida Dovich e il piave mormorò. Un po' di rompere sta qua, e accumulando un po' di legna, potessi sottolineare quella, poi non serve nessuno. Almeno un energy drink? E allora facciamo un aperitivo, ti ho detto vieni qua. Ma non prende? Si può, non ha niente. Tutta colpa di quel comunista del gabbrone, quello è sicuro che è colpa sua. No! Verrò comunque. Che sta facendo? Che sta facendo? Mamma mia. Tu mi dov'è che vieni? Di Repubblica Dominica. Conosciuto gente dell'Equador, del Salvador. Uno scorpione! Uno scorpione! Andiamo! Perché ogni volta bisogna muoversi velocemente per vedere le cose. Dov'è lo scorpione? Dov'è? Ma non lo vedo. Ma è minuscolo. Eh lo so, cosa ti aspetti che ci sia in Italia? Che magari non è uno scorpione. Eccole, quello robo. È un semplice ragno. No, è un scorpione, è Scorpio Italicus. Eccolo lì ragazzi, è un scorpione. Voi non lo vedete da qui, ma c'è lo scorpione. Ah, quello! Ma è venenoso? Ci sono anche le sue mute. Ma è venenoso? Ma non ti fa un cazzo. Ma nemmeno come un'ape. Fa meno male dell'ape. Ci sono tutte le mute. Piccino. L'ha fatta da poco a quanto fa. Un scorpione. È uno scorpione LGBT cool, lo vedi a colori. Esatto, allora dobbiamo ucciderlo. Dai, levati un po' che facciamo un aperitivo. Ok. Facciamo aperitivo. Come a Milano. Le dimensioni degli scorpioni non contano. Porco Dio! Cosa? Dio. Cosa? La mamma di sema, raga. Vi giuro. Poi ve la farò vedere un giorno. È una figa, ha fatto fotonica. Rissa in campeggio. Cosa hai detto? Tieni la camera! Tieni le camere! Tieni le camere! Tieni la camera! Aspetta! Domenicano! Adesso vedi che cosa gli faccio a questo bastardo. Tieni il lutto! I comunisti attaccavano alle spalle. Allora io faccio dall'avanti. Che cazzo hai detto su mia mamma? Che è una fregna. Te la volessi fare, bastardo? Non ho paura di te. È una verità, Seba. Non ho paura di niente, affrontami. Sicuro? Affrontami. È armato, dove siamo? Niente! Dai! Dai! Ma non è giusto! Lo sollevo e lo sbacco sul tronco e lo rompo. Ma io... Oh, lo rompi lui! Non lo so se rompi lui. Com'è possibile? Guarda come è pronto! Guarda! Sicuro? Non ho paura! Attenzione! Non ha paura! Non ho paura ma! Mi sono pronto! Non ho paura! Non ho paura! Non ho paura di te! Ho questo aperitivo o vuoi rompere i cuglioni? Sì, facciamo questo aperitivo! Non ho paura di te! 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 Al ban di Rubino! Di Grimbaud! Di tutti i nemici di YouTube Italia! A Bionico d'Italia! Brindiamo! Ai Li Petardi! Agli Infrizi! Ai miei amici! A mia ragazza! A tutti! Al canale del Ghetto! Con Alen che non è potuto essere qua purtroppo! Quindi non sarebbe venuto comunque! Ringraziamo per il video dell'intro con il drone Federico Lobbiano Photos! Vuoi ringraziare qualcuno? Ringraziamo Rapallo2, Fabian, lui l'abbiamo già detto! Ringraziamo Carlo Bagnasco per essere il sindaco più carismatico di tutta Rapallo! Vabbè, è strano! E Rodolfo Toscani! E Rodolfo Toscani! Oh, prossima intervista a Elio Levi! Lo conosci? No! È un personaggio! Secondo me ti fai più del ridere! Però è una brava persona! Ah, è quel barbone! No! Dai! Su! Inalti calici! Sascha muore! Camerati! Viva il Duce! Mi socio! Buona la mela questa monta! Questa qua ha lo stesso identico sapore di quella cosa! Grazie mille di chi sei suscritto! Dunque tu sia! Suscritto! Qua abbiamo le patatine! La salsa barbecue! Molto buona! Servire ghiacciato! Eh, non la mettiamo! Ah, mamma mia! Prendete e mangiatene tutti! Ok! Ma qui ce l'hanno bannato anche il capo user! Puoi usarlo qui, no? Non posso! Sennò me lo ribandano! Anche se ho tutte quelle sub! Non ho sub! Vero! Ma sono bastoni qui! Non ti guadagno nulla! Come mai? Perché è troppo faticoso! Sì! Però sai qui quante casette, quante... Quante? Quanti negozi, quante cose potrebbero fare! In cima a un monte! Per colpa della gente come Sebasti anche il mondo finirà! Perchè? Tiriamo via i boschi! Per fare palazzi quando in centro della Pallo ci sono decine di palazzi abbandonati! Vabbè! Ma chi verrebbe a fare una spesa in cima a un monte? E' bellissimo! E' bellissimo! Qua mezz'ora in macchina da... Un'accenta! Con ragionamenti che... Filosofici! Con ragionamenti filosofici che... Non puoi capire! Perchè sei un ignavio! Mh? Sei un ignavo! Pensala come vuoi! Eh? Pensala come vuoi! Ma no non è vero! Ovviamente no! Ma è meglio! E se ovviamente porterebbe turismo! Eh! Perchè un po' il... Un qualche negozio di merda! Sì! Se tu facessi il cento commerciale più grande del mondo in cima a un monte! La gente verrebbe qua! Guardate che è meglio non fare niente! E' meglio pulire! Perchè così la gente si venga! Ma di là vengono per sentire qua! Ah si è vero! Siamo noi gli unici! Però voglio fare una bella attrazione! Un di voi! Che cosa altro fai oltre al calcio e alla scuola? Fabian! Dobbiamo il canale insieme! Grazie! Giochi a qualcosa! Io... Io faccio... Io... A volte faccio live ma ultimamente è un cazzo! Giochi gioco da telefono perchè non ho... Sono povero! Cazzo franco! Lo giocavo ora non più! Lo star lo giocavo ora non più! Perchè... Ogni tanto gioco? Ogni tanto gioco? Eh? Su! La lascio franco! Le 11 avevi? Il... 10? 10? Quasi 11! Era quasi più mazzato! Ma perchè... Io 14! Porca troia! Ce l'hai ora? Si si! Ci gioco poco! Perchè... Ma c'è meglio di togli o...? Non scioppo il genno... Ciò polpasso! Oh no... Mi gusto! Così da sconti... Sì! E poi... Boom Beach ce l'hai mai giocato? Si! I primi anni! E' bruttissimo! Era bello da giocare ma è brutto da fermare! Ah si quello è vero! E' vero! E' vero! Ma era... La bannata non scorsa! La bannata non scorsa! Eh si no! Quasi maxato! Qui c'era di più che boom! La flash! Lo sai? Si! Ho giocato un bannata! E' un po' di più che non era male! Si attacchi di diverso anni più! Quali! Che avanti era un'altra cosa che abbiamo da... In cui dovevi solo difendere! Tipo il luogo di macchina! Si attaccava al generale e tu dovevi difendere! io non sono andato avanti tanto perché poi non so tra una cosa e l'altra lo disinstallato ma c'avete ancora clanna su flash? boh non ce l'ho, non ci gioco più era buonissiti 8 e maxato al massimo che merda, come? 14 quasi maxato non ci gioco tanto poi hai mai giocato un scalber un picchia duro metta slagasta? quello si sei giocato? si va? si ma non era mio hai giocato metta slagasta? tre comunisti ma come ti permetti? metta slagasta? ah ma aspetta dimmi bene il nome perché dimmi led ho giocato uno che esiste metta slagasta ecco ecco come suono? 19 il tower defense interessante no mi sono giocato che è interessante per le modalità online con le defense che non so grazie amaro rugozzi io ora gioco sulla un po' a league play un po' a league play uuuhh 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 e lo giocato e poi? league of legend risk uuuhh 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 arturale amiche ultima in effetti c'è poco KBS 500 è pochissimo noi stiamo cancellando le mani qua hai qualche admin? no sarà youtube sapete ci sono i moderatori di google adesso su youtube c'è poco K dov'è il K che aumenta? dov'è che c'è più K? dov'è? qua è l'unico posto dove c'è il K 1000 K mi serve qua 200 dov'è il K buono? questo qua si qua c'è tanto K no peggio di prima 3G 3G qui vabbè arrangiamoci che devo fare? no qui Xbox serie ma ma questo si chiama guerra tra gatti oh porco fu il scemo è uno dei giochi più belli che abbia il mega cut in serio? ma è quello dei carri armati no battle cut quello era un altro era uno con i carri armati si quello con i carri armati era fisso dovevi costruire il carro subito sennò non morire è impossibile si muove qualcosa la biscia guarda visto? era un certo dove? sotto lì ma un certo la mi sa oh 2000 di K minchia andiamo bene adesso che tanto io prendo bene cioè non bellissimo qua c'è tanto K 4G ah quanti G in totale? 20 voi che siete uomini di cultura dato che seguite rapallo cosa mi consigli tra i due tra xbox series o steam deck steam deck steam deck ok cioè proprio diretto fossi ricco lo avrei comprato già la steam deck e non lo sei non lo userai mai la switch non l'ho mai usata niente ma pensate beh sei persone per una live di? 4 ore 4 ore secondo te se la stacchi e la restarti? perchè? ne pigli di più ne pigli di più 2 di più insomma si a me interessa a me interessa salvare tutto no ragazzi stacchiamo e la restartiamo ma teniamo ma teniamo teniamo poi arrivano loro quando non voglio siamo a 4 il catalogo dei giochi steam è più ampio di quello di xbox? eeeh non è i giochi steam sullo steam deck puoi giocare anche giochi non di steam eh con le opportune modifiche quindi la cosa un pc avrà sempre più giochi che un xbox sull'xbox che esclusiva alo sei tu la mano ahahah ti sto sfottendo è vero c'è qua c'è qua c'è qua la oh tu lo stai sfottendo io non lo userei mai scusare il buco come battle 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 ok scusa un attimo ah no questo no sul serio beh vedi su mi fai dal spot te? si si non consumo tanto eh solo perché io ho proprio finito i giga e sto consumando soldi veri per un giga mi chiede 10 euro adesso la madonna la madonna che cazzo infatti guarda oggi quanto ho consumato 90 mega quindi 90 euro no 90 mega non è un giga ma come hai fatto a consumare così tanto? che cosa hai fatto? instagram è bastarda eh attenti a vista la vista che consuma come un porco eh avevo letto il campeggio con i comunisti mai nella vita Giuseppe fabian 2003 2003 ragazzi se siete qui intorno volete collegarli al suo ozzo siete qua intorno fabian 2003 con la F in maiuscola non lo so non lo so specifichiamo ah no 12 scusa non 2003 sono deficiente ah bastard capobranco i miei paguri sono CiccioGamer89 sono il capobranco dei miei paguri ma scusa un attimo tre fedeli discepoli CiccioGamer nel bosco che cringico Blue Star Elephants? no oh ma quanti giochi hai giocato scuro ti faccio vedere eh ora mi faccio una lista no no eh Justice Shop ogni tanto mi rimango senza giochi come sono le mie che cazzo di gioco gioco ma sono online tutti online guarda i miei pagamenti dove sono ah ma perchè alcuni li hai comprati si non sono i miei giochi racconto no gestisci il dispositivo lì cioè tutte le app ah queste sono le app che ho installato adesso io devo vedere eh quelle che devo giochi c'era ma c'è un altro quello che volevo chiedervi app app no film libri non lo so cazzo non mi ricordo prima google avevo un'interfaccia un po' più semplice tu no allora google play no ma è qua raid shadow legend eh che fischi app 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 che preferite la movida o i posti isolati io tutti e due ho posti isolati anche se la movida quando patti non mi diverto di più eh beh eh esatto quando batti? patti no ah ma scusami perchè? come perchè? quando c'è la movida fai lo slalom coi pattini sulle persone però sui vecchi si ma scusa ma spiegami perchè ti piacciono i posti isolati perchè? è rilassante è tranquillo perchè nella movida ti rompono il cazzo eh c'è casino c'è rumore bruvisio mal di testa interessante e dimmi preferisci il governo di adesso o quello di un tempo? non lo so di un tempo non l'ho vissuta ma è da quello che sai il mio padre mi dice che era meglio prima però ma non è che mi dice si stava bene mi dice un po' meglio ma meglio di cosa? cioè se avver stato male ok solo che prima si stava un po' meno male ecco guarda tutte le app che ho avuto i giochi ehm giochi non installati così ci vedremo guarda questi sono tutti i giochi che ho avuto sui miei telefono ma porca angry birds angry birds l'hai finito? altro QR bravo anche io sono aspetto anch'io ne ho una vagonata non so come mai tanti quelli che mi dì e rapallo ti prego salva l'italia funziona tutto di merda soprattutto socialmente rapallo cosa aveva scritto cyber rage quando rubino sclerò ah bravo non l'ho mai letto quel commento bisognerebbe recuperarlo il manager di greenbauer guarda però io ti chiedo questo l'ho installato due volte sto gioco perché no a me piacciono le cose da anche da fotopull airline l'avevo provato una volta rf2 ciao deroc era bello però l'hanno bannato arc pesa più di un un ucchia e alfa no ve lo provato una volta avete mai giocato a ninja jump? si e l'avete finito? no complimenti su myself si hai comprato tutte le skids? no complimenti forse si vediamo un po' becchi la conquista dei diritti eh lo volevo giocare ma a quei tempi giocavo già un sacco di altri giochi a five nights at freddy's ci hai giocato? castor clash le hai mai giocato? si eh no castor ma the rock perché sei arrivato te l'avevo installato una volta così quanto l'ha rovinato ci ho giocato così tanto io ci ho giocato per quattro anni ogni tanto vai ritorno high day l'hai giocato però è un po' è un po' così non lo so cosa l'ha scritto math0 esatto non lo so non l'ho letto il commento o la riprende 3000 i laveriti ma che cazzo vi fumavo quando c'è a fnaf? no come no? che merda è fnaf? non l'hai mai giocato a freddy's? ma fa cagare perché fa cagare? perché non fa paura e per bambini ha la storia del cazzo ma l'hai giocato? per bambini si non fa paura ma poi ti hai giocato? allora un giorno venga a casa tua e io streamo fnaf guarda che ti caghi addosso ti caghi addosso ma hai mai giocato amnesia? no ecco con quello ti caghi allora se lui si caga addosso con fnaf se gioca ad amnesia lo trovate in live tipo dopo 10 ore c'è ancora la live accesa con lui morto tipo ma scusa amnesia è uno di quei giochi dove devi esplorare? si che merda che merda che merda che merda i giochi dove bisogna esplorare horror una merda assoluta lo schifo lo scarto in cui stai fermo su una cosa e senti la canzone e poi ma è meglio così guarda che è più ansia lo slender ma all'inizio magari è un po' così sì nel senso però poi angry shark angry shark l'ho bruciato quel gioco ai ristoranti mentre aspettavi la pizza io quante quante ore fino a che non ha messo shark gozilla che l'ho li ho tutti e modern combat 5 l'ho giocato off ma io a me piace più ho giocato un sacco love live love live love live avete giocato a live? live che cazzo è? no è quel gioco mamma mia peggo è quello lì dei piante contro zombie 2 ah sì sì ma cosa è? ore 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 quello lì online anche quello lì online questo è bello se mi piace mettere delle plaghe se plaggo plaggiaghe piaggo 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 non fai bocca senti i rumori di davvero e di cosa di un cibiale? temporale oddio le cibie inizia a far fresco eh ma va guarda che fa freddo vabbè il villaggio dei tuffi ma che gioco è? che cazzo è? quanto sta durando sta live? 4 ore e 45 minuti eh durerà un bel po' durerà molto durerà tanto spostati da un'altra parte lagga il cazzo ma se siamo a 3381 KBS è tanto sei uomo lo esce adesso no 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 brava non sembri a crocio ma cosa vuol dire? è esibizionismo non è essere croci crocio meno male che siamo su youtube ah finalmente è il mio culo si è il più duro lì che che ti piace il mio culo? no è una stazione seba ah c'è un'immagine di un vecchio che ho scritto il mio culo e lui così vabbè ma iniziamo a pensare come facciamo con la carne hai già un'idea? sto pensando io tranquillo ti aiutiamo a pensare ma qua c'è la salsiccia a me cosa canta una pietra una pietra come vuoi una pietra bella grossa un po' pulita qua vado a cercare io oddio ancora la mascherina al collo c'era lì da tutto il coso c'è tutto il viaggio noi faremo un colpo di stato un giorno questa è importante preparazione della carne Ciò Rappalo sei il mio idolo grazie Alessandro F vedete lì su quella pietra di luce lì su quella pietra di luce tu zio che porco zio demonio Cristo Gesù è il Signore della vita oh e oh oh all'uomo piace il fuoco non si capisce un cazzo grazie The Rock ma perché laggerà se volete la stacco la diretta la stacco e registro e basta se volete la chiudo la registro ricarico le parti della diretta se volete faccio così faccio così ragazzi stacco non puoi staccare un'altra no registro faccio il video ma falla vedere così siamo in un punto dov'è sono in un punto dov'è pietro su questa pietra ponderai la mia casa ma che cazzo stai dicendo San Pietro Tu sei uno sciocco Come Mamma mia Non va nulla Ottifissimo Bel tiro Ma se dico metti la pietra sopra quel legno E vada Cosa c'è? Ho preparato una Scatoletta con sale, olio e tutto Complimenti Vabbè ma tranquillo Ma si ma così Porco dio Cerchiamo Coglione Mi mamma si troverà una scatoletta piena di sale Merda dire ma che cazzo Ma perchè avevi il sale? Ah Si è già scaricato il tuo power back Si Zero va? Si Beh Devo usare il mio E vabbè L'ho portato apposta Non è durato Non è durato tanto Dura quattro ore Si è attaccato due cose No Filme ne hai visti Filme ne hai visti? Foglia? Un avagonato Se mi inizia a dire i nomi Ehm Allora Avengers sicuro No Tutte La Marvel è copiata Che cazzo me ne frega Non c'è trucca E' un film di un tipo Sai quel pupazzo Che ha dei cerchi qua? Ui Porco Giuda Ha dei cerchi qua 8 L'ho visto Sono 6 Sono 7 7 7 Scusa 7 deve uscire l'8 Ah si no C'hai ragione 7 è uscito poco più tempo qua Si si E il 7 devo guardare No forse è uscito già l'8 eh Due anni fa Voglio vedere Comunque l'ho visto tutto Bellissimo eh Madonna straordinaria 10 è l'Other Cioè sono proprio Stagaci di una teoretica Horror Come ti permetti di darmi del coglione? Ma stai zitto Non fare il figlio davanti ai tuoi spettatori Poi chiudo Poi chiudo Tanto non prende Io ti ho detto regista Ma si che prende Si vedeva bene Io l'ho visto Si vede bene Si vede bene Dicevo Indra Ghostface V per vendetta Scrimina Però lo conosci V per vendetta Certo E ti piace? Si Però Ma non è fin da Ghostface Però è un comunista Un tizio No Si E' anche comunista Che si vede Di certo non è fascista Di certo non è fascista Quello di sicuro No? Madonna Il fatto che qua Cazzo E' caldo caldo Il pane lì com'è? Non cuoce perché Ehm Il comunismo Il comunismo è una forma di governo Che sfrutta la paura Per questo è importante Fare delle distinzioni Dalle sue vecchie varietà Esattamente Giusto? Ehm Calma Ehm Ehm Scogliattolo Scogliattolo Nasi Cornis Questa pietra Ehm 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 O Cazzo Ehm Cazzo Ehm 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 Guarda lì Io ho visto uscire un po' il sacco Se fa Se vincia Se sia un incendio nel bosco Ehm No Probabilmente Ci hanno Secondo che Ehm Ehm non è mai a pagare direbbe quindi nel senso tu puoi fare gli... i cosi i... porco dio ti sei ustionato? ma sei un pirla un pochino, leggermente cazzo non ho pensato che facevo lo scasso dio ma nessuno di voi deve pisciare, cagare no, no, tenetevi la pipì se potete perchè se ti serve per finire il fuoco non lo so prendere che scivenza comunque quasi quasi era meglio dormire attorno al fuoco perchè inizia a far freddo no, ma non sai, il cacco filo è termico dovremmo farlo più spesso madonna la prossima volta andiamo a genova dove? per strada ah per strada, va bene il tecno autoriotismo? no sono un coglione io che ho preso in mano perchè hai preso in mano il fuoco? non ho preso in mano il fuoco se no sarebbe svenuto probabilmente va bene va bene merda, è canna eccola guardate la la carne che cuoce evento rarissimo ah ma puoi usare lo stesso stecchino nooo aspetta ah cazzo porco provo a prenderlo te provo situazione di difficoltà provare che vuol dire dai 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 provaci mando nel fuoco eh no 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 lo faccio io lo faccio io tienimi la camera lo faccio io lo faccio io cazzo cazzo vai con forza dai con forza prendi quel pezzettino piccolo la luce quello lì che è caduto nel fuoco veloce brucia dammi la carta dai mettilo qua non puoi usare la carta saluta che si brucia l'erba l'erba dai muoversi serba no ma che erba pranzo eh un pochetto prendi cacchetto prendi cacchetto prendi cacchetto prendi cacchetto prendi cacchetto vai così veloce prendi cacchetto dove cacchetto no 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 brucia la plastica ti si sciogli addosso veloce sbaccio prendi cacchetto prendi cacchetto grazie ah ce l'ha fatto mi vergogno porca merda non ho avuto le palle mi vergogno anche io perchè non ho avuto le palle perchè sembrava tanto no perchè appena ti avvicini brucia un pozzo si qualcuno ha sono spianato davvero qualcuno cosa? acqua non ho scotch mamma mia mamma mia ragazzo sei proprio un pirlone mio caro rapallo ma quanti sono due? si eravamo venti andavamo al supermercato eh ma perchè se non la spegni le accendi non viene nessuno ma non posso spegnerla e riaccenderla si che puoi e come la tieni in piedi la puoi anche ciao bella zi se si vede niente mi sento davvero a male che coglione vuoi l'acqua? perchè? molto male si sta cuocendo la carne? vabbè che voglio dire ma va Fabian sei proprio un genio hai visto? dammi questa cazzo di luce ceniamo carne cruda però è buona eh madonna è buona la carne cruda per i vermi? nel culo illumina illumina la gente la gente i vermi nel culo eh ragazzi qui dura la vita nel selvaggia pensa a chi vive così tutti i giorni nessuno chi cazzo fa questa vita? ecco perchè i barboni vanno nella strada e non nelle foreste non c'è nessuno non c'è nessuno madonna quello quello ho sentito un rumore diaz no dai si è un po' dietro porco diaz sei deficiente ma come ti permetti tua mamma eh tua mamma è una grande fregna è una grande fregna tua mamma chi è che l'ha detto? chi è che ha osato dirlo? oh cazzo eh dios porcos ma se si incendia tutto qua come facciamo? è vero se facciamo un incendio nel bosco eh siamo attenti raga non so io ho fatto lo metto tutto intorno eh guarda lì l'ho visto uscire un po' l'estato se c'è un incendio nel bosco moriamo no no probabilmente se diciamo ad andarcene prima secondo te mhm però non vorrei arrivare a quel punto perchè ci becchiamo una multa che non riusciremo mai a pagare breve brevissimo quindi nel senso tu puoi fare i cosi ehm porco hai funzionato? si ma sei un pirla un pochino leggermente cazzo non pensavo che vedevo scasso dios ma nessuno di voi deve pisciare e cagare? no no tenetevi la pipì se potete perchè se ci serve per tenere il fuoco lo devo pisciare che scemenza ehm uh comunque quasi quasi era meglio dormire attorno al fuoco perchè inizia a far fegge no ma il cacopelo è fermo dovremmo farlo più spesso madonna la prossima volta andiamo a Genova dove? per strada ah per strada va bene il tecno autoriotismo? no sono un coglione io che ho preso in mano perchè hai preso in mano il fuoco? non ho preso in mano il fuoco se non sarebbe venuto probabilmente lì merda è caldo eccola guardate la la carne che fuoce e vento rarissimo ah ma puoi usare lo stesso stecchino? nooo ah cazzo porca prova a prenderlo te provo il provare non vuol dire dai 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 provaci mano nel fuoco eh no 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 eh già qua non mi è venuto lo faccio io lo faccio io tienimi la camera lo faccio io vai lo faccio io cazzo cazzo vai con forza dai con forza prendi quel pezzettino piccolo la luce quello lì che è caduto nel fuoco veloce ah brucia mettilo qua veloce dammi la carta vallote allora no io mi sono già bruciato veloce veloce che lo faccio che lo faccio quando stai filmando coglione merda ah non ho avuto le palle mi vergogno anche io perchè non ho avuto le palle perchè sembrava tanto no perchè appena ti avvicini brucia un botto qualcuno ha mi sono emozionato da vero qualcuno ha qualcosa mi sta coccendo la cara vabbè che vuole dire ma va Fabian sei proprio un genio hai visto vedami questa cazzo di luce eh ragazzi qui dura la vita nel selvaggia pensa chi vive così tutti i giorni nessuno nessuno che cazzo fa questa vita ecco perchè i barboni vanno nella strada e non nelle foreste oddio che sei e chi è la nessuno non c'è nessuno madonna che cazzo è chi l'ho chi l'ho chi l'ho ho sentito il rumore mettila ma perchè perchè sei scemo mi fai così mi fai così com'è caldo è caldo è caldo ho provato a cadere la pietra è il centro è il centro è lì già è caldo ahahah hai emozionato? no no però quasi ho fatto il tempo a toglierlo ma lì è già calda solo che dato che non fa oh cazzo dato che non fa contatto bene il pane da cosa parte un po' più oh luce qua mi fa luce sugli occhi che senso ha? eccolo guarda che bella questo pezzo di carne mamma mia mamma mia arte povera no arte povera no ma chi è che ha detto arte povera? no mi dissocio niente arte povera è un cancro ma è una youtuber ne hanno rotto il cazzo anche a me è un cancro è un tiktoker ha rotto i coglioni si è rotto il cazzo chiamarti povera si ogni volta finge di essere povero no che fa così che ha sono povero e ne vado fiero mia nonna la carbonara ma cosa dice? no ha fatto un content come ogni persona si ma lui non è povero davvero ma no ma di certo è un è un content è come luce dai seba luce come tu puoi dire Fabio usa il tuo telefono perchè? che luce vuoi? perchè quello lì mi spazza mi spazza allegrio certo che comunque è terrificante eh cosa? il bosco buio uh guarda qua che bel salsiccione guarda qui come lo stende questa è arte povera questa è arte guarda la salsiccia tutti i macellai del mondo potrebbero guardare un video e l'assumerti non credo guarda che macellaia guarda un pezzo di pane caldo non è manco più caldo e diede ai suoi discepoli spezzò il pane coglione te lo sei mangiato non l'hai spezzato guarda che bella salsiccia lì adesso vorrei farla vedere anche in diretta ok che è abbastanza caldo allora vi metto un attimo sul cazzo la salsiccia e vi faccio vedere la salsiccia allora la vedete? eccola guardate la salsiccia arde povera 70 like buono grazie è un po' cruda guarda la salsiccia la salsiccia la vedete la salsiccia guarda che buona la salsiccia che buona chi l'ha cucinata la salsiccia? porco giuda lo staff del ghetto lo staff del ghetto del gay pride tra l'altro so anche che il primo video da fare sul canale del ghetto quale? bere tutta bere un sacco di litri d'acqua precisamente tutti di una bottiglia capirai? no non di una di una confezione se volessi bere 9 litri d'acqua si non si può perchè? fare stile a col mondiale probabilmente e io riesco a farcela no perchè no perchè no non riesce a averle oddio ma è esploso esplosa la salsiccia no esplosa la salsiccia no le pietre scoppiano quando c'è tempo caldo madonna madonna che fa mezzo mi sono cagati addosso non capisco orco giuda ahahahah orco cane orco cane orco cane mi sto mi cago addosso mi cago addosso mi cago addosso porco cane orco giuda orco cane forco giuda orco cane orco giuda che paura sto cazzo culminata perfino a cadere la povera quanta la vostra se non l'avete avuto qua il risolvare è vero guarda che tutti e due sono cadute questa è la nostra io me la mangio anche se è un po' crudine dividiamo il cibo no vi dividete quello ok Fabian la foresta a fuoco allora guardate qui un esperto porco giuda allora guardate qui allora Davide Massone detto lo staff del ghetto assaggerà questo pezzo di carne che è stato cucinato da lui stesso e ci darà un breve recensione a riguardo è crudo peperone che vuoi no mi piace io grazie è caldissimo guarda sto sudando quindi che ne pensi pollo è crudo pancetta è cruda tutto sommato è tutto crudo salsa è cruda maiale vediamo un po' aram uno vuoi il peperone io Bertone tov è crudo secondo me è buono Tutto frutto ma buona Meglio di niente No, potevo usare quello per Vabbè, basta Ormai è andato Quando volete il vostro Vedete voi se è cotto I vostri posti o meno Poi vi darò un po' più di salsiccia Mamma mia La parlo odio e lusuriosi Non ha paura dei mafiosi ma si spaventa della salsiccia La salsiccia è italiana Però se va a fuoco la foresta Mi cago addosso Se mi picchia uno no Basta che sia italiano Cosa ne pensa tua nonna Se va a fuoco la foresta per un po' tua No, no, non Preferisce questo piuttosto che diventi omosessuale Detto veramente in parole povere No, che poi non è vero Lei vuole bene Ma io sono entro tranquillo Arte povera Com'è la luce Forse questo qua è ancora grosso Com'è la carne? Grosso? Si è grosso quindi è un po' meno rotto Vedi? Qua dentro Si Quindi lo lasciamo un po'? Si, si lasciamo un po' Occhio che non ti cada Dentro Comunque dovrei comprarne una bella fotocamera più professionale Non questa Quelle lì Come si chiamano? Quelle lì Tu ce l'hai Tu ce l'hai quelle lì Anche quelle che usa Matteo Montesi Le Reflex Eh le Reflex Che durano tante ore Con una SD buona E quelle sono camere serie Seba E quanto costano? Parecchio 500 euro No Ce n'è per tutti i gusti Seba C'è quella da 2000 Perché quella da 200 200 200 200 Ce n'è per tutti veramente per tutti i gusti Ok Fidati che metti molto se intrattiene pochi Se non riconoscere il tuo modo di fare Che un po' ti rende un personaggio Grazie Ma do qua inizio a bruciarmi Inizio a bruciarti ma non arriva il fuoco lì No ma il caldo che provoca Mettiti bene lì Io qua non brucio Oppure ho i neuroni No i neuroni I recettori morti E non sento il dolore Eh Il fuoco Il fuoco Il fuoco Ma io vedo i fantasmi Vedo tipo Vedo roba strana Che si muove nel buio Eh sì E il buio Che brancola nel buio Appunto Il buio non è E buio Basta che ti incendi un pochino Secondo le regole di Twitch Lo sai che è difficile Sai per avere Ma secondo me il vostro è pronto Dai vai vai Mangiamo Fabian Mangiamo Fammi vedere Degustiamo Degustiamo Vai Eh sì Si è cotto bene Cotto Cotto bene Eh come facciamo qua Mettà a metà Mettà a metà Me lo passi Mi passi un pezzo a me Un pezzo a te Un pezzo No Non serve Forse non serve Sento le ambulanze da qua Vai dammi qua Un pezzo di carne Bastardo Non darmi solo i peperoni No 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 Il strozzo Non sono vegetariano Alla zebbe Il zebbe è il salame È vero Il zebbe è col salame Prendi la carne che Prendo la carne Ah Guarda che bel pezzo di carne Guarda che bel pezzo di carne Guardate qua Altro che bel pezzo di carne Qua c'è Il bel panino Con la salsiccia Guarda questo qui Vediamo che buono Buono Cotto sulla pietra ragazzi Impagabile È purissimo Una salsiccia buona Inostrana Pane buono Cotto bene Tutto? Compagnia di merda Sì Anche questo Che severo Guarda che buono Guarda che buono Aspetta Però qua c'è una carne Molto grossa Rivediamo Rivediamo Prendo questo pezzo Ah ok Buonissimo Sbanca la salsiccia Buona anche sta carne Il cibo Il cibo mangiato Con fatica Sempre migliore Fabio metti Tu quella pietra Dove avevate Lo spidino Ci facciamo il pane Con la salsiccia Guarda che bello Che buono Cazzo Ormai siamo diventati Veramente Una roba Invincibile Ormai siamo diventati Invincibile Io sono Fortissimo Vai Aspettiamo il panino Con la salsiccia Ma da bere Abbiamo ancora qualcosa L'acqua Ti faccio un po' l'acqua Per favore Ok Ci faccio un po' l'acqua Hai bevuto eh? No Così vai Devo fare così Ma no Guardale Eh Cosa? No, sono le luci della parte Le streghe Le streghe Ora esplode tutto Speriamo di no Vedete il fuoco Guarda, è un po' il fuoco Allegrio Porco Giuda Che palle Devo metterlo in treppiedi Ma sto treppiedi Non è troppo una vostra Me la passo? Sì Due coltaglio in due Mi dispiace Fabio Ma io sono un vero uomo Non mangio quelle mani Piuttosto tu sembri un ricchio Un ricchio nazio seguace di Pol Pot Ma cosa dici Spongeboy? Cazzo è quello Cazzo è quello Porto Diat No dai Porto Diat Deseficiente Deseficiente Ma come ti permetti? Tua mamma Tua mamma E' una grande fregna E' una grande fregna Tua mamma Chi è che l'ha detto? Chi è che ha osato dirlo? Oh cazzo Eh Dio Cazzo E' vero se facciamo un incendio nel bosco Eh Guarda lì Io ho visto uscire un po' il sacco Se fa... se vincia Se c'è un incendio nel bosco Moriamo No Probabilmente ci siamo Secondo te No No Non ci siamo mai a pagare Mi rebe Bellissimo Quindi nel senso Tu puoi fare gli... i cosi I... i... Porco Dio Ti sei ustionato? Ma sei un pirla Un pochino, leggermente Cazzo non ho pensato che facevano lo scasso Dio Ma nessuno di voi deve pisciare, cagare? No No Tenetevi la pipì se potete Perchè se ti serve per finire il fuoco non ti puoi Che scivenza Uh Comunque quasi quasi era meglio dormire attorno al... al fuoco perchè... Inizia a far freddo No ma il sacco filo è eterno Dovremmo farlo più spesso Madonna La prossima volta andiamo a Genova Dove? Per strada Ah per strada va bene Il tecno autoriotismo? No Sono un coglione io che ho preso in mano Perchè hai preso in mano il fuoco? Non ho preso in mano il fuoco Se no sarebbe... Svenuto probabilmente Quì Merda è calda Eccola guardate la la carne che cuoce Evento rarissimo Ah ma puoi usare lo stesso stecchino? Nooo Aspetta Ah cazzo porca Prova prenderlo te Provo Situazione di difficoltà Provare vuol dire Dai 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 provaci Manno nel fuoco Eh no 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 Eh già quando mi... Lo faccio io Lo faccio io Tienimi la camera Lo faccio io Lo faccio io Cazzo Cazzo Vai con forza Dai Con forza Prendi quel pezzettino piccolo La luce Quello lì che è caduto nel fuoco Veloce Ah brucia Veloce Dammi la carta Dai mettilo qua Non puoi usare la carta Salute che si brucia L'erba L'erba Dai muoversi L'erba No ma che erba Pranzo Prendi tecchetto 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 No 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 Brucia la plastica Ti si scioglie addosso Veloce Cazzo faccio Prendi tecchetto Prendi tecchetto Prenditi Prenditi Grazie Ah ce l'ha fatto Che vergogno Porca merda Non ho avuto le palle Mi vergogno Perché non ha avuto le palle Perche sembrava tanto No perchè appena ti avvicini Brucia um turt Qualcuno ha Se funziona davvero Qualcuno cosa? acqua mamma mia mamma mia ragazzo sei proprio un pirlone mio caro rapallo ma quanti sono due se eravamo 20 andavamo al supermercato se non la spegni le vaccini non viene nessuno ma non posso spegnerla e riaccenderla si che puoi e come la tiene in piedi la puoi anche ciao bella zi vuoi l'acqua? perché? si sta cuocendo la carne ma va fabian sei proprio un genio non l'hai vista dammi questa cazzo di luce ceniamo carne cruda però è buona è buona la carne cruda per i vermi nel culo illumina la gente alla gente i vermi nel culo eh ragazzi qui è dura la vita nel selvaggia pensa chi vive così tutti i giorni nessuno chi cazzo fa questa vita ecco perché i barboni vanno nella strada e non nelle foreste oddio tu sei chi è la? nessuno non c'è nessuno oh madonna c'è chi è la? quello ho sentito un rumore ah allegria guarda guarda come brucia il fuoco questa? tieni un coltello e ora passo con la coltella vai aiutami cosa devo fare? tagliare tagliare guarda guarda qua il lavoro manuale dei tempi un tempo la gente c'è no tra poco nessuno ce n'è ancora adesso nessuno fa sta roba questo tipo di campeggio non lo fa nessuno a parte pochi casi eh guardate Fabian è l'esperto macellaio che taglia una salsiccia a metà è cruda? non è cruda no no non ci sono i vermi che poi se ci sei cruda quando 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 dobbiamo andare in bagno ci escono i vermi dal culo no? giusto? vero? mi è successo ti escono i vermi dal culo mi è successo ti è successo che ti escono i vermi dal culo? ma no ma in realtà è fresca quindi può essere mangiata cruda questa in realtà è non mangiare carne vecchia cruda o il pollo crudo perché se no ti escono i vermi ma non è certo eh molte volte succede io mangio carne cruda sempre ma mi è successo una volta sola esatto prendete un pezzo di pane vai allegria fratelli cazzo io sono un cazzo di ghiro sei già stanco? si sai che una volta ho visto per davvero i ghiri i ghiri? ahah io li ho visti solo all'elementare vai ah è bollente questo scotta di brutto eh scotta di brutto sto pane è veramente caldo 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 vieni 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 cosa sta vicino? un ragno gigantesco davvero dove? sulle tue cuffie oh 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 cristo aspetta che lo inquadro tu ma non è una ah si cocco vieni col cazzo di pane cocco pognetto su magari il pane il pane il pane ah 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 vai su io dico sbann ma merda guarda che penso a c'ho c'è orco giuda orco giuda Gesù Ave Maria, piena di grazie Dio boia! Dio boia, dove? Il ragno! Muoio Mamma mia! Che cazzo è caduto però? Ma guardate che cazzo di pezzo di pane c'ho! Basta! Mi viene un infarto! Mi viene un infarto! Mi viene un infarto! Basta! Mi viene un infarto! Da adesso non ci casco più! Vaffanculo! Che stronzi! Io basta, io mi mangio il mio pezzo di carne e vaffanculo! Ma guarda che pezzo di pane di merda mi ha dato! Ma no! Hai tagliato tu! Putaci la salsiccia! Prendi metà di quello! Vieni, vieni! Guarda te sto stronzo! Dammi il pezzo di salsiccia! Ma il lume ne è con la torcia! Farci luce! Allora, questo qui Panino con la salsiccia Vieni, vieni ancora! Panino con la salsiccia Vieni ancora salsiccia! Panino con la salsiccia Made in Italy Made in Italy Panino con la salsiccia Assaggiamo Buon amore! Eh! Uè! Uè! Immaginate un mostro Nella foresta Che vuole ucciderti Porco scudo! Minchia scusa fracca Chi da lottare allora? Me sto cagando addosso! E te l'ho detto Devi resistere Veramente buono! Ma buono buono! Non farmi spiegare Dai quella carne Quella salsiccia è vostra Che buono! Però quel ragno gigantesco Mi ha traumatizzato No eh! Diciamo Siamo finiti Finiti nel traffico Su Parigi Stavamo Stavamo mangiando il pane Salsiccia Stavamo paura Mmm Buono Davvero Porco Porco Luccio Lupo luccio Porco giuda Ho detto No Non è che dovevamo in tenda Guarda Non mi immaginiamo che fosse così buio Io immaginiamo un buio Un buio moderato capito? Tipo città Invece questo qui è il vero buio autentico Eh sì eh No no C'è zona C'è una zona ancora più buia Eh buio di così Cosa c'è? Vedi Luce Ci sono zone in cui non veniva anche quella E non veniva anche quella Ci sei andato? Che? Che te lo dice? Eh anche io dico a volte cose Però non me le ho fatte Coglione Porco giuda Mi hai fatto cagare addosso Ma avete visto cosa è successo? Mi hai lanciato un Un pezzettino di pane Mi hai fatto cagare addosso Gesù raga Gesù Quello sì che è cotto bene Sì Ma Ma Noi avremo tutti a dire Ah sì Se succede qualcosa Cercate di arrampicarvi sul quadro Grazie Simona Grazie Simona Ok Qualunque cosa Guardi in là Guardi in là Che buio Mamma mia Ma dove c'è Non vedo più la tenda Non si vede più Se l'inferno è così Ragazzi Non ci voglio andare Per farvi capire Quanto buio c'è Là c'è la città E si vedono dei Spratti di luce La Nulla Non c'è un cazzo di niente Potrebbe esserci anche tipo Non lo so Martino Lì c'è Bel Delfin nuda Cioè Bel Delfin Ah so chi è So chi è E lì è nuda Non la vedo Sarà una notte molto lunga No no ci fa dormire subito Subito Ti vado in tenda subito Ma non dormi tu Non dormi Non dormi Non dormi Puoi provarci quanto vuoi Ma non dormi Te lo dico perché No no Venmi lontano Stammi lontano Bastardo Fai un po' a morire Basta Zitti Il fumo negli occhi Intanto il fumo negli occhi Che stronzo È un bastardo Non si vede Ma te l'ho fatto 15 volte In un minuto E continua a cascarci Forse da qua è meglio Eh mi serve aiuto qua Perché non riesco a No è da qua è meglio Fida Eh ma lì entra Mi entra Mi entra il fumo negli occhi Mi dà fastidio Da suonare il buio Sempre Da sempre Basta Oh mio Dio Non fa ridere Cazzo Sto morendo Oh Ma sei te Ma no Sono fermo Muori Di un infarto Muori di un infarto Lo so che sei te Ma le vinciate muori Dio voglia Basta Santo cielo Mi sto andando addosso Madonna Mantieni Oh Dio Mantieni a calma Mi sto provando Come dicono Mantieni Mamma mia Mamma mia che paura Mastardo Prendi anche il pane Dio voglia Ma non ho gli occhi Ho gli occhi che mi lacrimano Dio non è un ragno Dio Ma cosa Era un'ombra Mamma mia Sobrava una tarantola enorme Ma ti fai paura Non c'è niente che ti possa uccidere qua Mamma mia Ma ha paura La morte Aaaaaa Gli occhi Gli occhi Che c'è ciò Gli ha un ragno Gli è entrato nell'occhi Davvero? No Il buio Guarda come Oh 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 Mamma mia Oh 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 Guarda che ti fa Boraf naf Dio cane Bastamia Bastardi Bast Oh zitto Bastardi Chi amo Da regge mia Ah si Sono un assassino Di un erigionale Che guarda Ti ammazzo Tutti Bastardi Guarda Fabio Fa vedere i tuoi occhi Guarda Da fatto No è la Il fumo Io ho problemi col fumo Mamma mia Sembra fatto Sembra fatto Chi è resto? Ma hai problemi con il fumo Ma non in quel senso Sembra fatto Sembra fatto Sembra fatice Che la tua faccia Perché? Dio boia Basta Calma Basta 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 Smettila Cazzo Svettitela Non è come fa via No povera fa 90 Conti spettatori Quattro Restartela 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 Ragazzi la spammate un po' Mamma mia Ragazzi se arriviamo a 15 spettatori Vi faccio vedere una cosa pazzesca Mamma mia 5 adesso Saliamo adesso Ragazzi davvero Uno dei due non lo mangia Pane dammi solo pane Solo pane? Salsiccia no Non lo so Vuoi salsiccia o non vuoi salsiccia? Dammi un po' di salsiccia Dammi un po' di salsiccia Dammi tutto Eh ma vuoi col pane o salsiccia? Col pane Col pane Ok tieni allora Tieni il tuo pane Quanta salsiccia Eh ma dai di più dei miei Però vabbè Guarda quanta salsiccia Guarda te Sono anche generoso Guarda quanta salsiccia Guarda anche il salsiccio Guarda ragazzi quanto salsiccio mi ha dato Fabian Guarda anche così eh Madonna Adesso mi sa pure di una volta Porco dio che f***a Perché non la vedano i compiti Sapete che se mandano qua l'elicottero Tu devi staccare la live Cancellarla Perché? E dobbiamo scappare lì Più velocemente Perché? Perché Se deve essere un elicottero Anche se Non abbiamo fatto un incendio Ci fanno una multa di migliaia di euro Ah per quello Beh ho fomento la privata Meglio levarla La metto privata? La scarichi Eh dopo Eh sì Perché se loro arrivano a trovare Una live Camerati sono i simpatici? Sì sono simpatici Ah porco Guarda questo qui Questo qui c'ha gli occhi da fatto Guarda Ah Gesù Comunque mi consiglio di spegnere Appena andiamo a dormire Così Gesù Guardate qua altro che Bel pezzo di carne Qua c'è Bel panino Boh Deve fa Guarda Mamma mia La prossima è addosso E vuole andare a Luca Basta 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 Tu ci stai prendendo per il curo Ehm 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 Guarda di mangiare La mia salsiccia In Santa Pace Oh che bello Però è bello dai Non è così male Che si vede Ciao logo Ma anche qua si sentono Siamo in campeggio Antonio Cazzo c'entra Ti ha chiesto che cosa fai Ah Antonio Ok Che sciocco Come che sciocco Allora Per favore Buonasera Ciao logo Ok Va bene Preferisco Preferisco Cosa fai Saluta Alex Ciao Alex Ciao Alex E Di Cosa ne pensi Dei comunisti A Bologna Allora Bologna Già una città di droga Che rovina le anime Quindi se in più C'è un comunista È veramente Una me Dicevi Dicevo che Se c'è veramente Un comunista È una città Ancora di merda Spero veramente Che almeno Abbiano delle idee Politiche Interessanti Che non si limitino A solfeggiare Sugli allori Sulla marijuana E su questo Cosa ne pensi Di sbacca Memel La miglior faccina Dei meme in Italia Direi Assolutamente Seguitela tu Ah Basta Ragazzi Non sto scherzando E basta Si caga davvero sotto Per queste cose A me per le cose Impreviste Per le cose Impreviste Ecco perché Fa pora FNAF Guardia di FNAF Hansa Esatto Il problema è che Le persone che FNAF Hansa Non giocano al gioco Fanno tutte altre teorie Sì infatti Si mettono A Fantastica Sì Non fanno Non giocano Io sono il vero Uno di quelli Che Scott Aveva in mente Di terrorizzare Allora Ma non ti dà fastidio Ciao Rappallo 2 Dove siamo Allora Ci troviamo qui In campeggio E va tutto bene La paura Non c'è Perché siamo Comunque persone Coraggiose Cosa ne pensi Degli infrizi Gli infrizi Cosa sono Non ho capito Salutagli almeno Ciao infrizi Vi saluto Non c'è Non c'è la fa proprio Niente Niente Dica ai tuoi amici Che mi devono Nuovi timpani Ciao Rappallo Saluta i Liptardi Ciao Liptardi Un saluto Basta La mia Oh Basta 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 Sto perdendo la voce Quanto dura la ride? Eh tanto Quante ore sono? Fint'ora e 48 Forca giuda Perché ieri era di più Eh Ieri 7 ore Quanta è il record? 11 24 Record è 24 Ma mi sto mangiato un Mamma mia Che paura Lì da quelle parti Non c'è Un disinfettante Sì è qua Prepassi per favore Dove? Dietro al tuo Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì C'è giocato Allora c'è giocato ad alt f4 Alt f4 Alt f4? Che vuoi? Non lo dico lì Non so cos'è il pulsante alt f4 Ma non ho mai giocato un po' Ok è perché Si chiama così perché Se ci giochi Dopo un pochi minuti Non ti verrà voglia di cliccare Alt f4 No Ho paura a prendere le cusce Sei proprio un coglione Io non so perché ti sto urlando Non è che Le cose impreviste Fanno sto effetto Per questo FNAF Mi fa Mi fa Ecco perché vuolevi un gioco così Un gioco così C'è quelli di esplorazione Così mi annoiano e basta C'è quelli lì immediati Quindi tu vuoi che il nostro gioco sia immediato? Esatto A dicembre lo cambi? Per questo che ti ho detto Facciamo il foto random Perché è così Così si cambia un doc Perché è immediato E' immediato ed è anche random Esatto Ma poi Ma non guidate perché chiameranno i soccorsi Come è successo a Montesi Non hai preso Il capo ci senti qua Perché qualcuno che ti si sente è perché Una volta ero in campagna con dei miei amici Eravamo vicino delle case Inizio a parlare Aiuto aiuto Chiamaci alla polizia Vi prego Mi fanno uccidere Aiuto Aiuto E sono usciti dalle case Guardare cosa stava succedendo Come Fabio Z Che urlava polizia Polizia Oh Ma non hai dei racconti un po' Horror Esatto Porno Vai Eh Si spaventa per delle foglie che cadono Sì ma io veramente Era una notte Ecco Se l'ho andato via No no vai vai Io ti sento Voglio un po' d'acqua Portala in carne Portala qua Portala qua Craz Cazzo il crampo che mi è venuto prima Mi fa male Non cadere nel fuoco Mi fa male Era una notte Buia Come questa E Tre persone Decisero di fare campeggio Tutte le notte sono buie come queste Ma Ma uno di loro Li aveva portati nel campeggio Per un altro scopo Voleva Voleva Scuogliarli vivi E servire i loro cadaveri a satana Così Nella notte Quando andarono a dormire Prese Una coperta E soffocò il primo Il secondo Sentendo Il casino Andò nella tenda E appena l'aprì Trovò Il ragazzo che stava scogliando Il corpo vivo Dell'amico Vaffanculo Vaffanculo Si inizio a correre Per la foresta Corre nel buio Vaffanculo Si inizio a correre Nella foresta Nel buio Arancolando Con tutto il buio L'oscurità E che a un certo punto PUM Ma mi spavento Ma come fa a far paura Una cagata in genere E perché adesso così Adesso dovrei vederla Nel gioco E quando sei immerso Nel gioco Che soprattutto Ti fa paura Perché Non te lo aspetti E quindi ti incura Comunque c'è un modo Per guardare la luce Dove sono gli occhiali da sole Ma cosa è quello Quello non esiste Quello non esiste Quello inventato Mi ha prude il culo Interessante Come fa il marzo No floppy No floppy cosa stai guardando? me stesso no ma te non è che inizia a piovere no non è pioggia è vento è vento ecco per quello è un'altra cosa che non potrai dormire penserai sempre che qualcosa ti muove invece fuori è il vento che muove tutto si flop non ci sono droghe pesanti per ora grazie floppy è affettato vediamo che non si veda in live comunque come lo stiamo guardando in fuoco? tutto vedi se vuoi dietro di fuoco sembrano quelle in 4k io ti amo da pallo i primi amori attenzione ma magari è una donna che ne sai? vabbè mamma non piangere se c'è l'avanzata la tua figlia è forte la tua figlia è forte questa è tua nonna non so che mi piace non so che mi piace se ne voglio pindeggere ahhhhhhhhh voglio pindegre ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh beh fate mettila una canzone no dai ti prego quale? Gli Arditi Metti la canzone Gli Arditi ti prego Bravo che l'ora va bene floppy Ma che gioco? Bel gioco Gli Arditi cerca Gli Arditi Oh madonna Gli Ardisco Gli Arditi No vabbè La canzone La canzone Gli Arditi song Questa non è la canzone Non è una canzone È il documentario Gli Arditi normale C'è anche song Canzone Oh è quella Il canto degli Arditi Alza il volume al massimo Più di così non può Vai Sentiamo adesso Ascoltiamo questa canzone La falò Che cazzo di canzone è? Si muore Gli Arditi è il canzone è il canzone delle tue stiere le bomba al piano le bomba al mano son come il simbolo delle tue schiere non si vede le nere son come il simbolo delle tue schiere ma la palla non la paga come rubino le bomba a mano basta metti i ragazzi di buda ma il nightcore ora ora è no no i ragazzi di buda ti prego ma nightcore è più bella nightcore scrivi i ragazzi di buda nightcore è più bella questa si certo ma non è vero visi i ragazzi di cosa i ragazzi di buda nightcore dove sono i miei occhiai da sole si ne ha preso l'impostore fra momongas sas sas quando hai sposto il sas sas eccola questa è bella sentiamo se la canzone è bella quella è qua ahhh ahhh occhiali? no c'è una mosca scusa avanti ragazzi di buda avanti ragazzi di best studenti braccianti operai il sole non sorge più adesso abbiamo regiato le notti le notti nel centodium mesi per un'alba radiosa in ottobre un'alba dei giovani inglesi ricordo il tuo dedo un moschetto su porta del piazza ti aspetto la scosta tra i libri di scuola ma che è stupissimo anch'io porterò una pistola ma che cazzo di canzone si ce l'ho ma questo non intendo che cazzo fai però questa sera ma dille che vado in montagna e che tornerò in primavera avanti ragazzi di Buddha avanti ragazzi di Vest studenti braccianti operai il sole non sorge più a dest come di merda come ti permetti voglio vedere quanta merda hai messo sotto il... grazie merda non ci ha messo niente te lo giuro oh vuoi vedere le grazie del papino che bello scoraggiare ma proprio metti altre canzoni sui comunisti in ogni fucizza no il telefono scarico del primo e il secondo vita la nostra speranza d'olto l'onore del mondo avanti riponi il fucile torneranno a svecchiare non ho capito questa parte avanti ragazzi di Buddha avanti ragazzi di Vest studenti braccianti operai il sole non sorge più a dest avanti ragazzi di Buddha avanti ragazzi di Vest studenti braccianti operai il sole non sorge più a dest ora vado a... stai metti se il papa è andato via no no dai metti se il papa è andato via dai il caricatore è già qui stacca la luna eh ma non ce l'ho il cavo hai il cavo? se il papa non ce l'ho che cavo ha? ecco se non hai il cavo è me ce l'hai te il cavo? vieni a vedere il Samsung è quello grosso quello vecchio quello nuovo non ce l'hai tu? eh ma lo sto usando per caricare il mio per la diretta quanto ha? eh pochissimo se tolgo questo muore c'ha 27 guarda i miei ragnetti mamma mia ma piccoli prendilo nella mia dentro nella tenda no no ma io non vi metto più canzoni che cazzo no ma prendilo prendilo comunque vedi solo se il papa è andato via oi Seba eh prendi la tua powerbank il mio cavo e fagli mettere il telefono in carica e ho capito ma dov'è? il mio cavo è dentro la tua powerbank sarà ma io devo levarmi le scarpe ma no ma lo prendi ci arrivi intanto vedi se il papa è andato via che due coglioni vabbè ti ha dato il caricatore è lo zaino? si o comunque lì lo vedi un caricatore si si rende affanno perché fuggi un tiranno perché fuggi un tiranno perché si ruppe il calapo che ci regava il pie perché si ruppe il calapo che ci regava il pie questo è bellissimo userò il mio però viva l'Italia il popolo ti do il mio se vuoi stanotte basta che mi fai da hotspot te e io ti posso anche dare il mio di caricatore che fuggi finì la monara è vero devi caricare te furme sovrano il popolo mai più ritorni un re poiché sovrano il popolo mai più ritorni un re ma quanti ragni ha bel daddy longlade basta poi chiuda è finita metti il piave e mormoro madonna che coglioni perché? perché fa a chiare ah vabbè perché non ti piacciono queste canzoni no no dai non è che non mi piacciono però boh non li trovo significato da disascoltarli metti il piave va bene ti metto il piave ma il piave nightcore nightcore attento stai ancora aspettando ad bull per i soldi che gli devi dare per l'erba ah si rosario e basta ora va calmo il placido al passaggio dei primi fanti del 24 maggio l'esercito passacciava per il fungio la frontiera per fare contro il nemico una barriera non ti passarono quella notte i fanti tacce di un valore sarei segnalati dal sole e godrai ancora di più non ho idea di dove possano essere ma guarda un po' se le pesce non sai ma ecco l'ho visto io ora l'ho cercato formoro rit lanza lo straniero so di tradimento piave di buavirle lo sgomento dal vista giù la sara in questo l'onda sfumata caporetto dunque dai lontani monti i venti e i monti i monti e la mia che sconde sono i venti tutti unio dell'onde vi devi vergognare per ciò che dici Piave mormorò, condorna lo straniero, via gli austriaci dall'Italia, e i borboni, e tutti quelli che hanno andato in vasa. Dice il Piave, no, pianti, no, è la luce che mi dà fastidio, negli occhi, poi c'è il fuoco davanti che mi dà fastidio, c'è tutto che mi dà fastidio, porca troia. Provati questi, con questi lo soffi la luce. Il Piave mormorò, il tono mai straniero, vabbè, guarda che figo. Non ci casco, se urli. Ho detto non ci casco. Ma hai sentito i passi? Sì, anch'io. E raga, spegniamo il fuoco con un po' di piscio. Però non saranno tipo le guardie. Non le guardie, cinghiali. Cinghiali. Tu dici, mi raffumare. Ah! Ok. Lo dentro ci sta, dai. Non ci sta. Dica ci sta. Non ci sta. Ci sta. Non ci sta. Ci sta. Sì, vado a dormire fuori te. No, no, no. No, ma ci sta dentro. No, dormire fuori te. Scommetto che ci sta. Io ti dico, ti do metà della tenda. Se superate in due la metà della tenda mia, Vabbè. Dormi fuori te. Vabbè. Ma no, ma quelle, non ci sono i cinghiali. Vabbè, vabbè. Ma non si avvicinano, ovvio, a noi. Ci sentono il nostro odore e non vengono. Credi? Guardate, devo pisciare. Devo pisciare sul fuoco? Sì. Sai che bello. No, ti sento di me. Lo distocchiare. No, di stocchiare. Che fai oggi? Ti credi? Questo è, devi sbocchiare. Qui sta a mezzo di ducchiaggio. Come ti permetti? Ti sento la torcia a prendere tutta la spazzatura, mettere lo zaino in seba, la roba che mi spazzò qui, mentre la tenda. Se riesco, prima bisogna vedere se riesco a camminare, perché ho veramente un trampo qua, che è incredibile. Devo pisciare, ragazzi. Potreste andare a fanculo. No. Aspetta. Ti giri te. Ma ti giri di là, tanto che... Dai, ho girato io, la rai. Come faccio? Come fai? Non so, come si piscia seba? Non serve una bottega, la fila. Non serve a niente. Eh? Cosa serve la bottega? Mettila, c'è le braghe. Cazzo ti devo dire io? Ma io non me la sento, sono mica un'esibizionista. Ma che ti guarda? Siamo nel nulla più totale. Uh, e siamo girati noi due, io tanto non riesco a girarmi, con il trampo che ancora non capisco. Però non è giusto, cioè... Muoviti! Ma cazzo, la zietta l'hai girato le sue pezze, pezzo di merda. Ma tanto non si vede un cazzo, dai, su. C'è stardo. Però aspetta, devo farlo solo se c'è lo stimolo che arriva subito. Bastardi, chiamo da Reggio Emilia. Ah, se non ti viene... No, mi riesco a pisciarvi addosso. Da madonna. Ti pisci in tenda, sei morto. Dai, non me la sento, andate via. Ma andiamo via! Ma lo vediamo, tipo? Ah, sì, appunto. Ti avrei un consiglio. Ah, le patate nel castorcio, faccio. Eh sì, non l'abbiamo fatto. Dietro la tenda. Le facciamo o non le facciamo più? Non le metto, le metto. Ma è a pisciarvi là, guarda. Beh, preferisco, preferisco. Ah, fuochi. Che cazzo accendono i fuochi? Ti vediamo, rapallo. Sta arrivando Rubino da voi. Non ti botti. Fanno i fuochi adesso. Senso c'è. Guardi, accendono i fuochi adesso. Fuochi d'artificio. Che non si vedono, però. Perché fanno i fuochi d'artificio? Eh, ma di là, si sentono di là, credo che sia tipo, chiamoli, avanti. Fanno i fuochi. Bu. Sicuramente una festa. No, di se il piave, noi fanti, il nemico non faccia più un passo avanti. No, la domanda è poi come cazzo lo faccio, lo tiri fuori. Il cazzo? No, di se il piave, noi fanti. Come sta prendendo fuoco? Oddio, oddio! Non prende fuoco. No, di se il piave, noi fanti. Mai più il nemico faccia un passo avanti. Su di pudiar nemico dalle onde. E nemone non ne ma risponde. No, di se il piave, no. Mai più il nemico faccia un passo avanti. Su di venire un rosino, non lo sfondo. No, è comunismo, prende fuoco e basta. Tutti i passi fanno un prego. Praticamente quello. Eh? Questo? Sì. Vi da buttare, credo. Ma c'è la salsiccia? No, non c'è un cazzo. Ma c'è un coltello. Il coltello. Il coltello maledetto. Chi viene qui? Staglio le salsicce. Staglio le salsicce. Staglio le salsicce. Staglio le salsicce. Non venite a Luca Comics. Non venite a Luca Comics. Non venite a Luca Comics. Se incontro il vino lo faccio bannare. Dov'è? Fanno una sua diretta. Io sono permabannato. Se appagio in una diretta vengo. Io bannato a vita e loro bannati. Faccio bruciare sto pezzo di carne. Tieni. Un altro aspetto. Eh, ti menti o te. Ci mancherebbe altro. Me lo usi come spazzatura. Meritocratia. Questo è il tuo coltello? Metti questo in tenda, per favore. In tenda? Sì, in tenda. Buttalo in tenda. E come fai ad entrare? C'ho i biglietti. Fresco? Ma se tu sei lì, chi è questo? Qui. Che cazzo? Vai, la gag. No, disso il piove, noi fanti. Mai più il nemico faccio un passo avanti. Grazie, Alessandro. Il piove lo sponso. No! No! Per lieve il triputio dell'onde. Ciao, NB di Z4. Siamo a porta. Mai più il nemico faccio un passo avanti. Ma se tu sei lì, chi è lui? E basta o meno faccio andare. Quando ero piccolo. Mi sa che quando eri piccolo avevi detto all'esco. Ma scusa, però, parlando a discorsi seri, come si definisce avere un membro possente? Con chi stai parlando? Sì. E lo parlerò con gli esperti. Allora. Vento, eh? Inizia a essere più il vento. Sì. È positivo perché così porta via le nuvole. È negativo perché se smette piove. Esatto. Il vento ce l'aiuto. Dio è dalla nostra. Mettilo. Perché la mettono nella tenda questa? L'hai messo i miei occhiali, bastardo? Eh! Nessari subliminali costa di salsiccia. No, no, è la vera salsiccia abbiamo mangiato. Che messaggi subliminali. Dai, io fiscio più poco. Ecco, bravo. Tranquilli, le patate non prendono. Potresti evitare di farlo. Ma non ti piace l'idea. Esatto. Magari no, se lo fai da quella parte. Vabbè. L'esibizionista. Ma no, ma perché pisci sulle patate? Eh! Perché pisci sulle patate? Cioè, ma porco diaz! Ma porco diaz! No, ma prendi un legno. No, aspetta, aspetta. Facciamo così, facciamo così. Prendi un legno. Tiri le patate in là. O li togli tranquillamente. Ma pisci sulle patate? Ma sei uno scandalo. E che ne sai tu che se ne poi entra a bucino? Più vuole pisciare sulle patate questo. Guardi. Io il piscio l'ho bevuto solo una volta ed era il mio. Ed era per una challenge. Beh, che bella challenge. Bevo il mio piscio. Ho anche mangiato una lucera. Davvero? Sì. Ma ho mangiato di piccola. Però era morta, eh, non viva. Ma ho bevuto acqua del... Non ti è venuta la... No, non è venuto un cazzo. Nulla. Nulla. Il bello è che ci hai bevuto l'acqua del cesso. Ho anche mangiato un gamberetto crudo del supermercato qualche giorno fa. Ci hai bevuto l'acqua del cesso? E ho bevuto anche l'acqua del cesso. Poca però, eh. Ti ho paura che si incendi tutto. Non tanto. Ma la paura... Ma la paura... L'acqua del cesso non è niente. Sì, l'acqua del cesso, no. In realtà no. È acqua. È acqua? È ma... Nel cesso. Nel cesso. No, ma la rete è bianca, quindi acqua normale, acqua potabile. Solo che è dentro un gabinetto. Quello non è bello, però... È acqua. È un gabinetto dove ti cagli. Ho fatto tante cose stupide. Ah, poi metterci candeghina. La pallomontesi. Questo sì, questo vuoi è la pallomontesi. Allora, se ci hai metto candeghina va bene. L'hai pulito per bene tutto il cesso. Disegnate Rubino su un foglio e poi procedete, non c'è abbastanza spazio. Credo che una patata abbia perso il suo... No, no, è un pezzo. Ah, ma non ha pisciato, meno male. No, no, ci piscia ora da quella parte. Tra l'altro, Sdrumox, io non ti apprezzo. Chi è Sdrumox? Perché è uno che è stato berbamannato da Twitch. Mi butta le ceneri. Le ceneri della nonna di Visebassi. È ancora viva. Anzi, sono vive. Tutte? Sì. È morto solo il gatto. Qualche zia. Dove scrivi così? È morto solo il gatto, per ora. Quella patata lì possiamo anche prendere? No. Ma prima te mi hai parlato di tua nonna, quindi anche la tua nonna è viva. Tutte le mie due nonne. Nonni no. Vabbè, i maschi muoiono prima. Anche mio nonna è morto, l'altro. Oh, che cazzo. Ti vuoi bruciare? Vedete così che si incendia? Monte e lasagna di Vapallo? Vapallo Montesi. E beh, farebbe moda. Monte, sul monte in effetti, su. Dobbiamo cantare i canti di Gesù per essere come Montesi. Dai, levate lunghi, guardate. Oddio, che scandalo. Oddio, sta pisciando. Ok. Eccolo qui, in diretta. Come potete vedere. Piscia sulle patate. Potete vedere, guardate, sto stronzo che sta pisciando sul nostro cibo. Guarda. Guarda che roba. Piscia sulle patate. Guarda. Cioè, guardate che roba. Il fuoco si sta spegnendo col suo piscio. Che è stato quanto se ne stava trattenendo, visto che è veramente una burrasca. Speriamo che anch'io a 27 anni sia così. Io ho 21. Non so. E' tutto a posto, vedi. Sì, è vero. Ok, lebrani è ideale per cuocere questo cazzo. Ora per ora non si vede un cazzo. Adesso anch'io devo pisciare. Il problema è che dato che la tua gettata è maggiore della mia, mi vergogno. Che cazzo vuol dire? Non mi scappava tanto, eh. Non è giusto. Se tu vai, tipo in là, vai in là e basta. Tanto nessuno ti vede. Non è giusto che là. Non è giusto. Non è giusto. Vabbè, non è giusto. Vabbè. Vado. Sullieve il tripudar del monte. Dopo aver bruciato la mafia, si piscia sopra. Hai ragione. I comunisti e la mafia, bruciati e pisciati sulle loro tombe. L'ho sembrato che io piscerò sulla tomba dei miei nemici. I comunisti e i mafiosi. Grazie Carlo B. Ma che cazzo sta succedendo lì? Un legno che ha preso caldo e si brucia. Seba, è vero che andrà all'università di Recco da grande? No. Perché no? No, io penso che andrò al genio. Baaaa! Torca Eva! E la tomba di Rubino anche. E quella lì è troppo grande. Vorrei portare qualche amico. Basta. 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 Basta asciutta. Basta al pesco. Basta. 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 Eh, non ti muovere. Eh, sì, che cazzo è? Non ti muovere. Non mi fai paura. Non ti muovere. c'è lì davanti davanti la torcia è la gopro? la torcia è la gopro? capito io cazzo ciao sbaglio quanti siamo in live? 8 gatti e le patate si rimane sotto la doraccia sono i cinghiali attento non c'è niente madonna ho sentito? sono al vento buonasera Andrex te l'ho detto che non dormi oggi si che dormo no non dormi già non dormi di per sete? cosa dici? mi dici veramente che tu dormi? io dormo guardate che ho fatto a casa e beh se dormi... cazzo fai camerata non sono razzista onore Michele siamo qui in campeggio adesso è tutto buio e notte ma che è sta musichetta porco di... era messa il massone sono fascista perchè punto tutto sul fascino oh i valori buttati in culo belle del design la macchina che fa luce ma chi è? ma no i miei amici mi hanno mandato il loro video di youtube ma no cazzo chi sono i mates? i miei amici hanno un canale ma cosa stai facendo esattamente? ho messo in power bank l'altro power bank ma non era scarico quel power bank dovete chiudere i vesti del cibo per evitare di attirare Gischianto è un ciccione che severo un ciccione visto che su twitch sei bannato posso essere modellatore qui? no e ora segone di gruppo no chissà qui froci però quanto franco siete più di casa mia tra poco arriveranno ah siete più su di casa mia tra poco arriveranno quindi state attenti in caso battete le mani molto forte ah dice dei cinghiali ma non penso che arriveranno ma no ma di dove è franco? franco è quel ragazzo che abbiamo noi incontrato in macchina che ci ha riconosciuto la pallo 3000 grande franco saluti dopo prima di arrivare a casa tua si ma chi è Biagioni? non lo so cazzo mio è uno che abita comunque vicino a te ma quello che ha anche un cane? ma che ne so che cazzo ne so non è che sono la sua vita l'ho riuscito a caso una strada proprio tipo 100 metri da casa mia si poco prima della casa bianca si sai è lui è lui è Giorni ciao ma noi l'abbiamo incontrato in macchina si è lui i cinghiali vi massaccheranno di botte era una panda? mi ricordo il modello era una macchina con 5 posti perché non so se era una panda seriamente se arrivasse un cinghiale cosa dovremmo fare? niente se ne va da sola non ci carica è difficile a parte che secondo me non ci vede nemmeno io no ci vede ci vede? io non ho visti i cinghiali perché sai dove abito quando ti vedono scappano sempre scappano quelle pericolose sono quelli con i bimbi ma anche con i bimbi si ma se vai lì secondo me ti culano chi vuole pisciare sul fuoco? io vai però deve arrivarmi lo stimolo subito ma vaffanculo cioè io non sono uno di quei tizi che subito li parte io devo stare lì due minuti poi va se arriva un cinghiale dovete mettervi fermi a pecorina quella è la mamma i cinghiali ha la gischiata rubino nooo cazzo hai detto che mia madre non vi fai paura minchia se fosse la prossima volta qua porta anche tua mamma e dormo io con lei in tenda ti spacco di bordo dormo coglione se i piacente poi non si avvicinano se sei piacente non ti avvicinano i cinghiali sono palesemente animali fascisti quindi rispetteranno la patria e ci saluteranno se sono italiani se sono stranieri ci attaccheranno almeno che non amano la patria il mio nome era tua madre gliel'ho già dato ma per le emergenze per dirgli di scrivermi anche sa emergenza vaginale dove sono seba? che ne so ma mi vedi a me? rispetta lo vedo dalla camera ma anche quanto siamo gli ispettatori? 8 allora, gli ispettatori è tutto segreto Non ha segreti perchè non ti conosce neanche Non ti conosce Mi ammazzo Sono solo un cognome Non dire nulla Non dire nulla Aveva un nome bizzarro Vero? Ti distruggo le ossa Vero che non è un nome classico? Non me lo dire Stai zitto Non è tipo Maria Stai zitto Stai zitto o ti assalto come un cinghiale Ti distruggo Ma è in live con un scuola violino L'ho salutata Quindi Sto a veder con la live Trovo il suo nome Alessandro portaci tua mamma Non mi chiamo Alessandro Che grandi spettatori che hai Il tuo fan Come si chiama? Isabella Isabella Ora vado a vedere Com'era? Vedi qua io Complimenti Bravo Mangiamoci le patate Ma no Ci mettono tipo due ore a cuocere Ma secondo te quel sardo Quei 20 euro È andato davvero in Sardegna? Sì È andato in Sardegna Perché no? Mi scommetto Perché non è andato in Sardegna? Ti ha trollato Si è preso i soldi Non mi ha trollato Mi fido di lui Visualizzo la richiesta Ecco adesso Ok adesso Ma che cosa stai guardando? Che è sto video? Visualizzo la richiesta Ma cos'è? Hai fatto più di tante live Che ormai non ti dico Oriana E cazzo è vero Che bel nome Non ho mai scoppato Una che si chiama Oriana Perché Hai mai scoppato qualcuno? Io sì E te A differenza di una Che si chiama Oriana Io La nonna Eh sì La nonna Sebastian X La nonna Sul canale Pornado Rapallo 2 Rapallo 3 Pippo aveva ragione Comunque anche io Vado a scuola Al liceo Ti sappi che Una mattina Ti chiederò una foto Grazie Franco Ma per quando Ti hanno bannato Non lo so Mardò Urla forte Aveva ragione Dovevi laurearti Cinghiali al cobaleno Neanche ti dono i soldi Se mi doni i soldi Sì Cosa E lo faccio moderatore Ecco siamo 15 Mi fai scopare Tona mamma Ora 14 Solo se ti dono i soldi Anche io te li dono Allora Te li dono in realtà Se vuoi Vai Sì però tu mi assicuri Gabrone torna a rovinare i locali Altro che tu qui Non ci vieni in questi posti Queste campagne Guarda che roba Qua sembra che ho gli occhi horror Guarda Gli occhi horror Oh aiuto Ma che bello il cielo E' bellissimo No ci sono dei cieli migliori Te lo dico Nuvole di pioggia Adesso Non si fosse sempre parte del cielo E' bellissimo Ci sono dei quei cieli dove vedi Le stelle Ma anche qua di solito Se non ci fosse Che Sto nuvolo Ci sono le stelle da qua Di solito si Ma oggi C'è Sì però Ci potevamo anche informare meglio Pisciamo Oh Diana Io quando vado a pisciare Oltremente penso a lei Sai I ragazzi in live Tutti a scrivere Davide X Oriana Ammazzo Di boh Di ancora qualcosa Su mia madre E ti distruggo Mai più Non ti permettere Di nominare mia madre Mai più Non ti permettere Assolutamente Mai più Di nominare Mia madre Mai più Non ti permettere Mai più Mai più Ti ammazzo Disse questo Oriana Forza Napoli Rapallo Che sport fai? Baseball Non fate queste domande Rapallo Sei un pro Contro LGBT Sei comunista Per quanto sei manato da Twitch Segui da David Rubino Qual è il motivo del ban Direbbe solo Ora non c'è più lo scorrimento automatico Bastardi Devo Ogni volta scorrere io Per vedere i nuovi messaggi Perché te l'ha allevato anche quello Eh pure quello Mi ha allevato La parola fai un migo dal telefono? No no non farò un migo l'oggi Un migo lo faccio altre volte Ma non oggi Oh Ti ha iniziato a piovere Che bellezza Addirittura Io anticipo Seba Ritira un po' la tua roba Andiamo dentro Che cazzo è il mio telefono? Ah porca Da dentro la tenda ragazzi Sleeping stream Tu non lo prendi? Sì sì Però prima buttiamo sta roba Cosa? La roba La Maria La Maria E quindi qua come facciamo? Allora io mi levo le scarpe Ragazzi le metto Oh Sleeping stream A me Io dormavo C'è la lontola La cerniera Eh vabbè Fammi un favore Sistemami te la roba Oh Adesso tira E' il telefono Vabbè Vabbè Ci sono una volta dentro Scarpe assini Guardi il diavolo Aspetta che io devo provare a ripararla L'ho rotta Oh vai da me la torce Quale? Allora io vado a fissare Vai Ah Ah non l'ho rotta Era solo un Prendimi questo Non ti fa il fatto Fazzatura Però io vado a rinforgiare L'ho rotta Non ma non nemmeno Vabbè Vabbè La cerniera È una cosa di povera È una cosa di povera Va questa Ma è fissuto Adesso Adesso Non lo so eh Non lo so eh L'ho rotta Non lo so eh Non lo so eh non ce l'ha fatto a piscare ma se non piove restate fuori Vol capisce Manovra già smesso Si deve che ha smesso il vento Vediamo un po' la sistemazione qui dentro Io mi siedo anche Però le scarpe Ma non dentro Eh si bagnano poi No mettile dentro ma tutta a sinistra Ma pucciate un po' Ah si che sono basso Cosa hai messo i libri della Zanicelli Ma si che c'è spazio dai Cazzo dici E dove e cosa Qua è spazio No ma non piove ancora Ah che relax Che relax Adesso però devo cagare come funziona Sempre sul fuoco No Ah Ma guarda che ci stai eh Si Si Ci sta Ci sta Si siede Si siede lì Ma io l'ho detto io mi sto anche Dov'è la mia torcia? Dov'è la mia torcia? Io ve lo dico Si Ma non hai paura sicuro se puoi venire Non ho paura Ma no ma non piove l'abbiamo visto il mese Eh non piove ma che cazzo ne sai Ma dov'è la mia torcia? Ma che cosa ne so Oh riaccendi un attimo Ma che vuoi? Eh non trovo la mia torcia Ma Cazzo è Aia Ma Scusi Ma dai Ma dai c'è ancora Ma dai c'è ancora Ma è la mia torcia No Ma dai cazzo Ma gio ha cagato a caso Io ho un apparato digerente molto veloce, molto rapido Devo scorrere io, no numero uno Il treno e la tenda lasciate l'immigrato fuori Il gabbrone è cacciato da una pizzeria a Napoli, si gode Posso mettere questo? La tanzariera Deve essere la cerniera che parte da su, non so Da qua forse parte Ma che cazzo è il tuo punto? Va bianveciditi, sto per chiudere la zanzariera No, ma c'è la cerniera, la apri anche da fuori E poi non abbiamo chiuso la porta Quante tende servono per mettere a riparo di rubino? Eh, tante Dove si fa? 15 Rubino Metà tenda quindi da dove parte? Dove parte la metà tenda? Qua Deve siamo in fronte Ok Allora Qui va bene Ragazzi si dorme in diretta L'ho sempre fatto, ho sempre dormito in diretta Ma non ci vuoi in casa Ma non ci vuoi in casa Fuori in casa mai Prima volta Mamma mia No 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 Era la luce Cazzo No Mamma mia Non è sempre registrare la morte Non è sempre registrare la morte Esatto Esatto Ma io penso che dormino in fretta Almeno che non donate Ciao O vi scrivete Ciao Ciao Questa 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 L'uragnetta L'uragnetta Ecculu L'uragno Eccolo fuori Non ucciderlo Non avevo mai ucciso qualcosa di vivente Si Ti vuoi? Gli umani Non vuole salirci questo No Non ammazzarlo seriamente Poverino È sempre una creatura Ma io non ho mai ucciso niente Sei va Ho capito E voi A parte il tempo Ma ora vado a te Ci pensi tu Ok io lo uccido io lo uccido mi dispiace lo posso prendere con un fazzoletto ma violentemente no 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 lo uccido piove porco piove piove l'ho preso e lo butto fuori come si apre sta cazzo di zanzariera orto cazzo apre sta cazzo di zanzariera vaffanculo poi la raccogliamo la torcia orco dio orco canna adesso ci sono scomori qui Gesù hai giù tutta l'arba che ti è raffinata detta così è stranissimo tutta l'emessa Gesù santo tutta frirapallo che power point mi fa piacere che ti piaccia ma che cazzo sta arrivando qui le scarpe le scarpe si le ho tolte puzza i piedi sono i tuoi piedi mi hanno sudato tra i rovi tra tutto qua bisogna chiudere perchè se non ci bagniamo mamma mia e alla fine hai chiuso anche quella fuori aspetta un attimo però che dobbiamo sistemare un attimo lo zaino bisogna mettere la roba tutta a lato così c'è lo spazio tutto all'angolo quante volte ti carica il tuo cover anche il tuo telefono 47% di carica in totale e basta no carica 100% ma adesso c'è 47% ok qua boh queste visi si ferro metti i visi nell'angolo dove sono le scarpe mettiamoli qui questi occhiali da sole metto qua usiamolo il sacco a pelo come cuscino però era sull'erba dove posso trovare il powerpoint in descrizione trovi il link se vuoi guardarlo delle mie teorie politiche e sulla masturbazione ah ma è una pietra qua c'è una pietra orco i orco cani guardate che situazione ah no io qua c'è ragazzo porco swoje qui qui oh zii chi è? chi è? Psicigiale? no non so non so io to' qua Dov'è Davide? 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 Questo qua ho visto che tu mori da un lato da là Uaah starda a te che scepi Ma dai Ma dai Stavo morendo lì Ma dai ma pensa a te che bastardi Che bastardi Che bastardi Ma hanno fatto lo scherzo Ancora in live Cioè quando noi si aggira nell'ombra Esatto Non è un cinghiale rubino Ma dai Quanti spettatori? 9 Ma che stronzi Dai ma non è possibile Che bastardi 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 Pensavo fosse un patto che è venuto qui dal sentiero Bastardi Dai Chi è? Chi c'è? Chi è? Guarda di Chi è? Guarda di Chi è Tra l'rvere Uccdio Guarda di sul Alber Cosa Cosa Dov'è? Alla Guarda l'lbero Donde Cosa Alla non lo vedo questa cosa nera non lo stai vedendo lì guardalo ma cos'è? è sparito anche lì guarda lì ma dove vedi? su questo c'è spuglio ma cosa vedi? è lì quella roba quella roba lì cosa che mi tocca? cosa? è lì? qui c'è spuglio qui c'è spuglio non vedo niente ma no ma dai è lì guarda guarda eh ahahah che c***o vai lì tutto c'eri guarda lì tu non intendo eh lì è lì chi è lì? lì lì ma che succede? rieccoci la mano andate a caccia di qualche cinghiale ti stanno prendendo in giro broma cosa dici? guarda c'è una cosa nera che si muove sopra l'albero guarda la vedi l'albero? dai 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 è lì è stio ma cosa fai con quella camberina di merda? staccala che non sono solo batteria Vedi una cosa nera che si muove lì? Lì, lì Guarda che sta diventando sempre più grande Oddio È più grande dell'albero ora Guarda che si ingrandisce E si rimpicciolisce Oddio cos'è? Cos'è? La vedi o no? Su quest'alberello qua davanti Cos'è sta roba? Più grande e più piccola Oddio È bizzarro Incredibile Un pentacolo Guarda la tua ombra Ma no ma tu mi stai prendendo per il culo No era la tua ombra Che cos'era? Ma dai Era l'ombra No 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 Ma dai Guarda c'era anche in faccia lui Guarda guarda Wow 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 Cosa sta succedendo? Eeeh Troppe luci Oddio ma non ci credo C'era l'ombra C'era l'ombra Dormiremo in tenda Torniamo tutta la notte Però non completi la challenge Abbiamo detto tutta la notte E sarà tutta la notte Nel bosco Dormiremo in tenda Per delle ore Dove sono questi rumori Dove essere dei uccialli Sì si muovono in Oh Uccialli? Guarda quanto è grande quello Oh mi sa che la vangia si sa che la pittata Cazzo è gigante Oh Oh Oddio Quanto è grande Oh 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 Niente non sta facendo Oh Oh Merda Oh Sento Oh Seba mal visto! Seba in live si vede il ragno? Non lo so voi vedete Cazzo è un ragno di ragno! Che si sta facendo? Oddio! Ah! Allontanano! Mi sta avvicinando anche il ragno! Oddio! Dentro del collo! Vabbia! Mamma mia! Preso! Cosa vuol dire preso? Ah il costume! Ai ai ai! Vengi non dormi! Che cos'era quella? Seba! Cosa c'ho in mano? Ma cosa c'è? Dio! Ma! Dio! Ma che cazzo fai? Dio! Ehm! Seba la ragnata in mano di nuovo le riprese! Oddio Raffaele! Raffaele! Oddio! Quanti c'è? Che ci sono noi? Ciao ragazzi sono ancora qua eh! Io sono ancora vivo! Dio! ehi cosa ma che cazzo fai wow il telefantismo ma che cazzo che va sotto i rumori cosa 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 oddio cosa oddio questo questa è una saetta una saetta questa è una saetta oddio una scemetta e a e se ma cosa sta accendendo il fuoco cos'è quella roba cos'è quella roba nel fuoco oddio è satana oh merda che cazzo sta succedendo cosa sta succedendo gente lui non l'abbia messo niente è la roba di prima come è fatta riprendere il fuoco da sola la roba della saetta oddio ragazzi oddio cosa succede Mauro ragazzi do di fare di gremizzante che fai di gremizzante cosa c'è Cos'è? Reba, madonna puttana, che casino che ho fatto qua Io non ho fatto niente Mi fanno male i denti Devo lavarli, mi mette mica il dentifricio Ma ti sembra? Ma perché? Non ce n'è ancora? Guarda il zero smog, siamo in cima al monte Si ce n'è ancora, ma io non me lo porto a casa Che se sia più non fai messo Guarda questo falo assurdo E guarda quel falo Ha preso fuoco dal nulla Un momento sconvolgente, vedete quel falo ha preso fuoco dal nulla Eccola Assurdo Vedete? Assurdo Il massone sta ricoprendo il falo Congelleggiadra e destrezza E qui ce ne fa pianote Dottoressa Non ti permettere mai più Quanti anni ha? Tua mamma Dai quanti anni ha? Non è una cosa così privata Non te lo dico Il falo maledetto Luke Lord Il falo maledetto Se si accende il falo maledetto Si accende il falo maledetto Allora sta facendo un fumotare a una donna Un po' di FNAF Non esiste Cosa puoi mai fare così fresh? E dai Anche su FNAF Si allontanano così Gli animatroni Si punta la torcia in faccia Gli animatroni Oh 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 Cosa c'è? Ah 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 Ti svegli Non lo so Emanuele Non lo so Emanuele Non lo so Emanuele ma qui guarda Tutto buio Tutto buio Chi è? Eh Vuoi portare la luce in faccia porca di quella Chi è? Chi è? Drogata Ti dedichi un balletto Eh Tata 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 Cos'è il balletto che ha fatto tua madre? Questa sera mi sembra No Seba Ma Ma sei stupido Ti tiro un calcio in culo Non esplode che peccato Questa sera esplode Dottoressa Dottoressa Fenga No Sei impazzito Fai la dottoressa tua mamma? No era una roba del mio capo di lavoro Dottoressa Che lavoro fa tua mamma? Ehm 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 Ma è una domanda come un'altra Pedofile Ehm 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 Cosa è successo? Ho sentito anche io dei passi Chi è? Grande avventura Qui Ma chi corre? Chi è? Ehm Oddio 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 è una creatura Oddio 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 Non riesco a capire se fa parte il personaggio O se come si è trattato Ehm Buonanotte Alessandro Niente io Non hanno capito lo Fernando Buonanotte Alessandro Bernaschi Saluti da Bergamo Ciao GC ma è vero che la liguria si pagano pure i bicchieri d'acqua non è vero dipende in che bar vai se va al bar cristallo si se va al bar del cazzo no non dice qualche possibilità che io lo veda se la chiedo in una foto accetterà si però devi chiedermela fuori da scuola oppure la ricreazione non durante la lezione ma è strano vero? eh si e beh ma che cazzo perché alcuni sono entrati in classe durante la lezione e hanno detto ciao Raffallo Trevira non è vero non durante la... cioè non sono entrati da fuori eh si è entrato in classe più o meno no non è vero hanno detto ciao Raffallo Trevira penso che un mio amico in classe aveva Zerbian e come era a scuola Zerbian andava bene ma tutti romperono il cazzo che erano youtuber e gli davano le voti brutti apposta davvero? e poi ha cambiato scuola qua ma che vita triste allora ti è andata bene va beh eh? 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 cosa è successo? no ma su serio? ho il gucciolato no oddio Uhhh Uhhhh laf Uhhhh Cosa mi hai mica fatto? Ehi ma che c***o di nuovo steba Cosa sta succedendo qua? Fuoco erutta Di nuovo ma come mai è riuscito il fuoco ora Fuoco erutta Gregg'ha via Fuoco, invoco il tuo potere, erutta Fuoco, io ti invoco, erutta Eccolo, erutta fuoco Possiamo tornare indietro con il nostro... Esatto Qua che figata Fuoco, brutto Oh, oh Oh, oh, è tipo un'alerta, cioè Come le macchine Che cazzo è stato? Oh Mi sono passato un affare, volare Oh, che figata No, sono serio, non mi sono passato Non mi sono passato Oh, che figata oh oh, oh sei un pazzo ho trovato il senso prima che cazzo oh allora ragazzi siamo in una foresta ed è notte oggi dormite benissimo madonna apparece nel diavolo in diretta scrina questa dai fai un po' di clit bait abbio ma chi è chi è facciamo un'interazione vai 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 il fuoco è iniziato a sorgere dentro però le scarpe si bagnano poi dentro ma tutta a sinistra porco giura oh ma cristo mi ha bruciato un po' non puoi stare in piedi ah si che sono basso cos'hai pensi i libri della zia di kelly ma si che c'è spazio dai cazzo dici e dove e cosa qua è spazio no ma non piove ancora ah che relax che relax adesso però devo cagare come funziona sempre sul fuoco no ma guarda che ci stai eh si io ti dico c'è a metà stenda dove ci riesce a stare questa piccola parte ci siede ci siede lì ma io l'ho detto io mi sto anche ai giorni sto anche seduto dov'è la mia torcia io ve lo dico io sto fuori ma poi se piove è il 30% è il 30% è il 30% è il 30% guarda che ci stai qua noi stiamo lì ci stai quando pioverà sicuro? si ma non hai paura sicuro si vuoi venire non ho paura ma no ma non piove l'abbiamo visto e non piove ma che cazzo ne sai ma dove è la mia torcia? cosa ne sono? oh riaccendi un attimo ma che vuoi? eh non trovo la mia torcia cazzo è aia ma allora non puoi l'hai no ma l'hai c'è ancora dove è la mia torcia? ecco no dove è? chi è? chi ne parla? dove è? si rubella li ha lasciato fuori? non ho preso ah ce l'ho in tasca ecco con un coglione se vuoi te la do per la notte eh? se vuoi te la do la figa? no la figa no c'è una poteca o la mamma con le zine di fuori eh? sleeping stream bello che vi sento da qua straordinario ma che fa luce è questa me l'ha data mia nonna tra l'altro sto torcia ma una foto di Tom con le zine di fuori io no e allora ragazzi sleeping stream nella 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 tenda del ghetto così almeno è antistupro vuoi venire Fabian? aspetta devo capir se piove tranquillo stai pure lì e poi se piove che avviene tra l'altro devo anche pagare se basta cosa ci vuoi devi costruire ma ho già cagato a casa capisci un cazzo io ho un apparato digerente molto veloce molto rapido madonna devo scorrere io no numero uno avete un grillo nell'interno forte della tenda in tre nella tenda lasciate l'immigrato fuori il gabrone cacciato da una pizzeria a napoli si gode puoi chiudere questo? seba puoi chiudere la zanzariera? questa che abbiamo la zanzariera cioè deve essere la ceniera che parte da su non lo so come funziona ah no forse ce l'ho io da qua forse parte da qua ma che cazzo di tono è questo qua Fabian deciditi sto per chiudere la zanzariera no ma c'è la cerniera l'apri anche da fuori e poi non abbiamo chiuso la porta è solo la di un po' fanculo quante tende servono per mettere a riparo di un rubino eh tante tante 15 rubino mamma mia mettere in una zona strategica come prima metà tenda quindi da dove parte da dove parte metà tenda da qua dove c'è il mio coltello ok allora qui qui va bene ragazzi si dorme in diretta l'ho sempre fatto ho sempre dormito in diretta ma non fuori casa fuori casa mai prima volta mamma mia chi è che era un percorso no no era la luce si vede un cazzo mamma mia non ha senso registrare la notte no basta dire è una registrazione piccola in cui dici che andiamo a dormire basta il fatto che non dormiremo allora gentili spettatori da pallo 2 stiamo andando a dormire ecco qui c'è come vedete Davide Massone che mi sono ustionato il dito che si è ustionato e oggi andremo a dormire in questa tenda un po' particolare che è sua quindi buonanotte a tutti e però se non dormiamo tra un'ora possiamo andare a ritirare le patate che saranno pronte esatto ma io penso che dormirò in fretta a meno che non donate io ci scommisco che non dormi ciao o vi iscrivete io non dormirò sicuro con queste pietre qua tra qua l'agnetto eccolo ecco l'uragno ecco come non farlo dormire buttalo fuori non ucciderlo io non ho mai ucciso qualcosa di vivente sì tipo gli umani non vuole salirci qua sopra no non ammazzarlo seriamente poverino è sempre una creatura ma io non ho mai ucciso niente capito a parte il tempo ma ora vado a te e ci pensi tu ok io lo uccido non uccido io lo uccido te lo dico mi dispiace non lo posso prendere con un fazzoletto ma violentemente no 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 lo uccide lo uccide piove porco piove piove l'ho preso l'ho preso come si apre stacazzo di zanzariera orco ca apre stacazzo di zanzariera vaffanculo poi la raccogliamo la torcia orco dio orco ca adesso ci stai scomodi qui ah 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 hai tirato sotto Gesù hai giù tutta l'erba che ti è raffinolata detta così è stranissimo la canelletta tutta Gesù santo ho detto tutta ok frirapallo che powerpoint mi piace piacere che ti piaccia ma che cazzo sta arrivando qui le scarpe ciglio ho toccato puzza di piedi sono i tuoi piedi mi hanno sudato tra i rovi tra tutto qua vicino al tutor perché se non ci bagniamo mamma mia hai chiuso anche quella fuori? ecco la fuori aspetta un attimo però che dobbiamo sistemare dobbiamo sistemare tutto qui un attimo lo zaino bisogna mettere la roba tutto al lato così c'è lo spazio tutto all'angolo quante volte ti carica il tuo powerbank il tuo telefono? 47% di carica in totale? si e basta? no carica 100% ma adesso c'è 46% ok qua è boh tu te stai lì anzi il ferro mettiti nell'angolo dove sono le scarpe questi occhiali da sole ti tiene il usiamolo il sacco a pelo come cuscino per tutti no? dove posso trovare il powerpoint in descrizione trovi il link se vuoi guardarlo e le mie teorie politiche e sulla masturbazione ah ma è una pietra qua c'è una pietra orco di orco cano guardate che situazione ah non mi faccio ragazzi secondo voi è impermeabile? ah perché non lo sai guarda qui una foto storica se noi ci siamo ma no ma no ma non c'è questo foto da orco come fa oggi ragazzi mamma mia mi sa che non dormiamo queste pietri qua qui c'è una pietra yeah non esistono i blerp su di qui no almeno meno male allora pensate se tra di noi ci fosse stata una donna madonna in situazione brutta per te magari no ma per lei dico per noi no per lei minchia ci sono un po' di errori grammaticali se vuoi lo sistemo no non ci sono errori si ha aperto tuo lavoro gratis non ci sono errori grammaticali l'ho ricontrollata e l'ho corretta come cazzo dormiamo intanto con la luce credo che sia impossibile questa qui non voglio torturarvi torturo solo me ecco bravo che bravo no la reda no la reda non può terminare due eh si ma probabilmente anche io eh per esempio qua vuol bene che sto legato e soprattutto in questa situazione perché magari in un'altra io riesco a dormire se mi riesco a stendere ok che poi era per uno e ora siamo tre dentro infatti i miei piedi toccano oh se va prima di addormentarti vediamo di sistemarci tutti e tre con la powerbank mettete tutti i cavi eh il mio cavo io non ce l'ho qua c'è il powerbank metteteli tutti qua dammi il mio cavo non so dove sia bene io non so neanche dove sia lo stronzo di notte avrebbe sciarto non so se è una pietra il grigio è già arrivato? eh no non è ancora arrivato io ho una io ho qua ma io te l'ho nella schiena almeno tu te l'hai nei piedi che cazzo è sta roba? no ma è un serpente dove? dentro dentro davvero? si piccolino no cazzo la pippa dove? dove? oh cazzo dove? oh cazzo oh cazzo dove dove? oh fermalo dove? oh 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 dove? 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 oh mi fai morire stronzi è una non... ci sono arrivato dopo ecco fosse parte ma il power bank mi serve? dai uno piccolo piccolo di power bank? sì ma è 47% di carica qua? il mio power bank capito? non serve a me mi hanno dato il diluvio mondiale mi stanno dicendo tutti ma noi siamo in tenda al sicuro e al caldo sì sì a sicuro non lo so troppa roba qui c'è il pane c'è ancora il pane c'è anche una monster se vuoi beviterà così non dormi più un cazzo no no guarda che me la bevo c'è che è sta roba la monnezza ma la te scusa? no è un prank è un prank è un prank e la sfida beh io intanto sono già membro del ghetto ti arrendi così che cazzo è la power bank se va guarda io non capisco ce l'avevi era qui ma l'aveva ti ho detto è al 47% come fai a saperlo? l'avevo vista e tu dove l'avevi? ma c'è il bastardo proprio in cosa? guardate se fuori ma no ma sai nel tuo zaino è dintro lo zaino per forza io porco dio non coglionastro eh vaffanculo va vaffanculo sei ferma mannato su twitch? e basta sta cazzo di domanda ogni volta oh non ti sporgere troppo sul bordo perché? perché se no la rompi ma va sempre al solito domanda lo uso come poggiapiedi puzza di merda avete messo a spazzatura io qua ci metto i libri di scuola bastardi eh saluti dai torta attiva perché attiva la torta ma nonna cara sì o no? sì allora qua hanno dato il diluvio universale per entrare in una tenda minuscola da una persona va bene così Seba, saluta Alex Ciao Alex Di qualcosa di cattivo Alex è un coglione, suicida Ma non su Alex, sui comunisti I comunisti, l'ho già detto, sono dei mafiosi Perché, a parte che hanno voluto far pena con quel manifesto comunista Dove dicevano, oh ci sfruttano in fabbrica Non erano obiettivi nobili I loro obiettivi erano quelli di attirare consensi, capite? Erano dei bastardi, per questo hanno fallito Poi, basti pensare a quello che è successo dopo, tutti i morti Ma si ha ucciso più persone Stalin che Hitler Ma dai, lo sanno anche i sassi che questa è la cosa vera Tra i dittatori che hanno ucciso più gente C'è, c'è, c'è Stalin Non mi rubare il cuscino Uè, va a sfanculo, lasciami il cuscino No, voglio dormire Sì, ma Non è uno scherzo, ma c'è un ragno che sta facendo la ragnatela di tutta la tua testa Dove? Lì, dietro Orca, che schifo Lì, è vero, è vero lì Dove? Lì, dove? Dove? Cosa sono in testa? Vuoi stare, mi prendono in giro No, non sono comunista Raffallo è bannato a tempo indeterminato, esatto Non è che mi hanno detto che non puoi più accedere al sito Però sono sospeso Che bastardo Cazzo, ci ho messo la testa sopra Ma sei scemo allora? Guarda, me ne frego Che mi deponga le uova in testa Che diventi, come ha detto Rubino Che mi mette in un cesto di uova Ma che è Alex Kotex? Tu non lo c'entra? No, ha detto saluta Alex Che cazzo c'è Alex Kotex? Perché esiste solo quell'Alex? Chiedevo Madonna Comunque, no Piove, non piove Deluvi, il sole, le davano a Porco Giuda Non ci casco, non ci casco Porco Giuda Porco cane E poi tra l'altro ancora abbiamo Sette ore di registrazione Poi YouTube elimina le ore Davvero? Le ultime due ore No Se arriviamo a 14 ore YouTube leva due ore Il massimo è 12 Sì E arriviamo a 16 ore La diretta non la possiamo più vedere Perché diventa troppo grande Allora, stoppala E rimetterla? No, non la stoppiamo Ci svegliamo Cosa ci svegliassi? Eh, figuratevi 5 del mattino Siamo già svegli La stacco e la riattacco Ma che cazzo dice? Ma ha più senso staccarla E staccarla prima? E così? Ma no, dormiamo in diretta Sette ore Più di sette ore non dormiamo Io no A parte che qua c'è un buco Io non penso nemmeno a già A stare così bene Ma secondo me dormiamo cinque ore Chi si sveglia? Sveglia gli altri? No Sì Però non se tipo sono le quattro Alle cinque del mattino sì Sì, ma tu con quella che sei lì Io non mi tiro mai a dormire Ma non ti prende a te Eh? Non ti prende a te Ma 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 Io non posso dormire Se vuoi la basso Così? Così va bene Così? In realtà non potrei dormire comunque Però ci provo Così, aspetta Così? No, non cambia un cazzo Così va bene? Il coso è che c'è la luce Così Vabbè il culo Vabbè il culo Però se senta piovere qua ci entra tutta l'acqua dentro I piedi Notata comunista Eh sì Eh ma non credo che dai Spero anche non si non Lo so quelli dal sole Non mi viene da vedere Perché Ma no Che cazzo Ma tu le mi hai viste a mamma di rapallo due Sì Anche se vi scrivete I commenti Tutto si sente Se vi scrivete Ma è noioso Si sente Trin Si sente Trin E poi anche il messaggio Se scrivono il messaggio Io andrei fuori E ci metterò qua Della roba Perché porca Proia C'è tutto Questo messaggio È un qualcosa Mi do un fastidio Dell'erba che ha messo capo uso Sicuramente qua Qua dietro Non c'è Esatto Io non sono bannato per sempre Sbaglio Esatto Eh Marforgurtura Eh Orco Giuda Di un attimo Allora dai Devo dire una cosa Eh ma non si vede Senza torta Senza torta Senza torta Bannato in teoria Permabandi Significa bannato per sempre Ma tu non sei bannato per sempre Cosa ne sai tu Ma no ma cosa vuol dire Guarda che stai prendendo Spettatori Appena mi sono fatto vedere io Dunque ragazzi Io Non sapete chi sono Ma io sono colui Che farà bannare David Rubino Da Twitch 12 Eh qua Ragazzi dai Sono io Ci sono io Non c'è più la pallo 2 Rappallo 2 è morto Comunque Ti possono fare donazioni Sì Come È dal link in descrizione Fate una donazione Ragazzi sentite questa Ecco che arriva Ah Tre rispettatori Appena scoraggiato Ragazzi sentite Allora arriviamo a 20 Ah Ah Da merda Vado da merda Allora Red Mi smerdo Red Ark Mi è venuta un'idea Cazzo Che puzza Lo sapevo Secondo te perché Tutta la merda Tutta la merda Annusate la mia merda Respiratela Respirala Stronzo figlio di Come strozzo Stronzo Non scorreggiare è bannabile Ma è bannabile le mene Adesso non le mie cazzo di scarpe Porco C'è le live Fabio Z al cesso Su YouTube È bannabile Ci sono le live in cui È la moglie di Luke 43 Che gli spartorisce E appunto Dai Ma questi sono Foggini Ma che cazzo Che parliamo Ho fatto svastiche In live Ieri Dai Bannabile tua sorella I miei contro te Scoreggiano Ci sono pure Dove sono le mie scarpe Non toccarmi i piedi È strano Non sono fetticisi È un po' strano Però come li hai toccati Era tipo un massaggio Non cercavo le mie scarpe Perché mi è venuta Quanti spettatori Undici Mi è venuta la cazzo di via Uè non muovermi Capallo tre Capallo 3000 Ora uccidi i tuoi amici No dai Non ci si può scherzare Rubino è un demente Non ci si può scherzare Eh sì sì Ovviamente sì Ma infatti Ha detto che lo Si è messo contro Ho fumato erba Sì Ah no 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 Sono messo le mie scarpe Sotto il Sotto questo Ma Ora non potete capire Se dormo o meno Sì Non sotto la dente Sì sì Stavo scherzando No Come cazzo Diciamo piove Poi Perdi Per sempre Eh Un'altra cosa Se piove Questo rimetterò in sacchetti Ah sì E vabbè Eh vabbè Ti avanti Buono Il mio telefono Non voglio Che si scarichi Quanto ha? 49% Desisto Desisto Me ne frego Vabbè Ho già dovuto Sì sì Ah Eh 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 Oh boia Tu fai 24 ore No 14 Poi la chiudiamo Ma metti il mare automatico Che si chiude Non esiste Sì che si Su Streamlabs Su Youtube Senti su Youtube Beh E come faccio Eh vabbè Ma la moglie di 246 Cagava in live Davvero Che nego Dunque finché non si vedono Cazzi Non è bannabile Guardate il mio fisello raga No 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 Hai dato Cioè Fabian Lo becca lui Lo becca Fabian Ma se Luca Comis Vengono i streamer in Irl Come farai Farai bannare Mi butto nella loro diretta Bannati subito Oh L'avete sentita? Cosa? Io veramente Bella idea Bella idea Quella Che chi intenda Pensate Che 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 Quanto cazzo ho di internet? Dopodomani Ma perché usi Instagram? Dovresti usare il wifi Non ho il wifi in casa Non hai il wifi Cioè hai tutto quel macchinario lì Hai la cucina fuori, l'idromassaggio non hai il wifi Ma il wifi non prende perché è in cantina e in cantina non prende Ma dai Interessante Sposta il modem scusa Sposta l'antenna Veditelo in camera Sposta l'antenna, è un idromassaggio cazzo Ciao GC La maschera di flame è Glory Hall Sai cosa vuol dire? Si, Hall vuol dire buco e Glory vuol dire Gloria Buco della Gloria Probabilmente si riferisce a quando fai un buco nel cesso e si fa la roba Ma cosa faccio? Cosa vuol dire Glory? Glory Hall vuol dire buco di Gloria in inglese Ma no no Glory Hall non capisce il buco di Gloria Secondo me è comunque il buco o del culo O un buco da qualche parte che tu ci infili Ah sai i cesso tipo quelli da Eh quelli dicevo Tra un muro e l'altro Eh si e fai un buco e ho capito lo so E quello dalla tappata di succhia è un Glory Hall Si ma Luca Comics inizia a fine ottobre e penso che sarai già sbannato Boh speriamo Luca Comics è la famosa per i tuori Davvero? Si Posso provare quindi E ma se poi me lo picchiano? Eh infatti c'era un meme C'era un video che girava Questo tizio che mette il cazzo nel Ma allora siete stronti No è Quella dì ha l'unica paura Che cosa? Le mie scarpe Ma pensa te Preoccupati di meno delle scarpe Eh no perché sono le mie Come si chiama? Il mio Il tuo tessoro Il mio cucino Il tuo tessoro Ah si sono lì Che forza Oh che bellezza Mamma mia Che bellezza Sebastiano Ti leggo i commenti della live Sei guardi Youtube? No Ma se fai un buco nella parete Della Della Dell'altra parte E c'è gabrone Ah si gabrone Probabilmente lì Quando nel tempo libero Quando uno stream Lì dal glory Anima preferita Vethnol Perché ti rispecchi Minelle? No perché mi rispecchio Inchira Inchira Dato che praticamente Io ho la teoria Che ogni volta che mi masturbo Qualcuno si ammala Intorno a me Confutata o no? Confutata per via del gatto Che da quando ho iniziato a farmi La mia prima sega Ha iniziato ad ammalarsi Una coincidenza assurda Rispondi alla domanda Che domanda hai? Cazzo non è comodo per niente Porco Giuda Proprio qua dovevo metterla Ma non mi faceva Come 마무�iare il gatto Ascoglierlo non si fa nonna in live diventerai famoso grazie al cazzo chi è sto tizio? io ho paura di cosa? io sono bello sentito i passi sono cigalli non giochendo domani mattina aspetta un attimo guardate il fuoco è scemo ma gli occhiali da sole? domani mattina strofinate qualche barretta di cioccolato sulle zinne dena mucca e ve fate il nesquik fresco chi è sto qua? rubino che si sega tre volte al giorno e in teoria rubino deve morire ha fatto malare tutti lui in primis è malato di obesità esatto vedi la mia teoria è confutata il dio pane uno scritto no sono morto come faccio a dormire qui dovrebbe avere un cuscino un cuscino si ma così ti ho detto che non dormivi serve più erba devo mettere erba erba me ne frego di cosa? coofficial trenz tv uè rega come state? come procede il falò? abbiamo finito todo boy aspetta pensi che il tuo personaggio possa fuggirti dalle mani perdendo così la chiave come si ah jo jo juleim la telecamera la stai coprendo juleim ma che cazzo meglio lasagna o juleim? jo juleim jo juleim la fregna me la scoperei lasagna no jo juleim si scusami qui in seba della challenge che ha fatto cadere due persone dall'alterrazzo quando mai? eh? che storia è? c'è una challenge russa di una canzone con il problema di prendere e buttarti la gente sentiva questa canzone si spoggeva dalla ringhiera del terrazzo e alcuni sono scivolati morti? si ma quelli sono deficienti che morte stupida abbastanza madonna guarda soffri ah! lui fai paura oh mio sto morendo posso un modo per oh mio rendilo rapallo è un bravissimo uomo seba non hai risposta alla domanda dalla moglie di Tina eh gliel'ho detto io quando è che ti cerchi una ragazza seba io sono solo per i rapporti occasionali una streamer magari io sono solo per i rapporti occasionali eccolo fuori ti metteresti mai con Mimì? mi metteresti a te si lui anche con un sasso anche con un sasso basta che abbia una vagina è anche morta va bene mmm e fin lì è proprio da troppo magari da poco è troppo come il pesce qua quel pescherecci a troppo tu mi ami vero? dipende raga ti saluto qui seduto al tavolo di casa mia mentre mi mangio un buonissimo gatto grazie vaffanculo gatto tra l'altro ho scritto gatto è una torta in francese ah è una torta ah ok va bene ok ah starvi cattolo cioccolato non hai mai sentito? no mai sentito cazzo io ho un quadro raga la domanda di lodi sono è rapallo pensi che il tuo personaggio possa fuggirti dalle mani perdendo così la tua chiave comica diventando sempre di più uno stereotipo ma quando mai? eh rispetto per le donne ma col cazzo macchine di produttrice basta assurdo non sto scherzando hanno anche un pensiero però certe sono veramente stupide come i maschi eh però altre magari sono anche un po' dell'intelletto ci vedo però che alcune il suo amico ieri ha incontrato due terrone gli ho chiesto voi votate e gli ho detto secondo quale principio loro dicevano a caso non sapevano niente e votavano a cazzo per questo la democrazia fa schifo ragazzi che votano anche non credo che siano solo per loro eh il gatto è rubino purtroppo nella democrazia votano anche hanno parola i cretini capite? come me eh per forza però non è giusto come non è giusto è una democrazia eh non è giusto dovrebbe essere la repubblica quella lì di Socrate dove sono solo i migliori a comandare e il problema è che come fai a sapere che sono i migliori? sicuramente la parla sono d'accordissimo con te anche i ragazzi non siamo tutte rubino eh lo so che non siete tutte rubino però noi siamo tutte rubino non siamo tutte rubino lo so che non siete tutte rubino però alcune sono stupide non tutte anche i maschi sono stupidi infatti la democrazia non dovrebbe esistere solo la repubblica liberale repubblica si lasciano le stesse cose ma per votare votano cioè vengono elette delle persone secondo determinate caratteristiche non è il popolo a decidere il popolo decide del resto del resto della loro vita che cazzo vuol dire? vuol dire che per esempio io posso dire che non mi piace la repubblica posso dire sui giornali la repubblica fa schifo farà meglio la democrazia posso fare quel che voglio e non vengo con una nata a morte ma è la res pubblica o la res extensio? no ma pubblica è la res cogita? no avanti rapallo steve wonderburcelli no rapallo senza occhiali sei più bello oh grazie suffragio no vente suffragio viva al sud tu cosa ne pensi di rapallo di marzo bianca? un filosofo però a volte fa dei riferimenti esagerati roba inutile tipo apologia ciccio gamer faceva dei riferimenti assurdi in quel video bello quel video si ma faceva dei riferimenti assurdi capito? estremi guerra ma che guerra che guerra che guerra ma è solamente uno è vero è solamente uno che è stato preso in giro da un da un tizio non è che guerra guerra sai quanti influencer collaborano con la televisione ma che guerra sono pure i canali alcuni influencer che guerra allora Frank Matano scusami che Frank Matano è diventato è la verità è diventata una prostituta dei potenti ma comunque vai in tv non è una guerra esagerato il fatto che la tv beh insomma viva il sud nel senso quello che le conviene vado che vado che schitti visto che schitti cosa pensi di Omiatol basta perché è Giongito? ogni rispondete voi cosa ne pensi di Omiatol 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 se tu potessi scegliere un attore che dovesse interpretare il film della tua vita che sceglieresti? allora io sceglierei non sapevo il nome non me lo ricordo posso dirvi solo il personaggio sceglierei quello che ha interpretato il joker jackie in fenne jackie in fenne jackie in fenne jackie in fenne andiamo a prenderci le patate dette così e anche le abbiamo messe qua eh? rimanesti metti un po' fuori no jackie io ho fame vado a prendermi le patate per quello che vuoi buonasera Logoblox rapallo vaffanculo rapallo dammi un consiglio di vita non segarti mi manca il joker di Omicol eh quello lì l'hanno messo in carcere ma poi io ritorno più forte oh che fresco qua fuori un'altra cosa le mani sono qui eh eh vedi le mani sono qui il vento il vento? fino in là e qua tutto bene Logoblox cosa ne pensi di idee dal mondo un bravo ragazzo un bravo lavoratore un collega stimato solo rispetto beh porco giuda un mavano queste sceme mi hanno fatto un amico di cuore che mi ha fatto innamurà come pensi di baschettare un terrone la parlo da 1 a 10 quanto ti senti orgoglioso di te stesso 6 però i miei valori però quando indosso gli occhiali 10 7 ore senza segarmi la situazione diventa critica se ne pensi di rubino un bastardo cozzalo ciccio gamer non molli mai rappallo sempre contro i poteri forti di Twitch sempre 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 contro quei basti troppo eh sempre contro quei bastardi bastardi poteri forti bastardi mi avete rovinato avevo una carriera potentissima altro che Grimbaud Grimbaud 2P cioè Grimbaud è bravo ma cioè l'avrei superato di sicuro adesso conquisto YouTube quindi adesso ragazzi mi concedo un piccolo riposo ciao freebooter di Rapallo Fabio Z è un filoso moderna si fra quando metti gli occhiali sei un figo incredibile lo dico ai maschi etero esatto quando ti senti liberale 10 no 9 no 8 non molli ecco 10 liberale 10 come pensi di agli aclerici femminista ma rispettiamo perché comunque è una brava persona però è femminista quindi posso sputare perché siamo in tenda quindi ho dovuto sbavare ecco ecco allora cosa ne pensi dei terroni non ho più saliva in tre parole come descriveresti non ho paura come si meresi giulio andreotti sss sss ecco le mie tre parole preferite sss sss eeeh ma ne pensi dei goblin brutti 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 la clerici della prova del cuoco kkkkk ma ci sta anche lo spino nel culo adesso ragazzi mi riposo un attimo non disturbatemi voglio dormire no la prof prof ma come ti permetti prof sono un uomo ci sono oggetti dobbiamo chiamare qualcuno o far finta di nulla gemiti fate finta fate finta di nulla comunque prima c'è la scoppia dello scopaggio facciamo così ragazzi facciamo una cosa adesso io controllo i video e vediamo se trovo il video della coppia che scopava vediamo un po' se c'è vediamo se c'è vediamo un po' dove l'ho messa perché non hai le iscrizioni pubbliche non hai messo la campanella da bastardo ecco doveva verla in qualche parte da puzza di merda mi sono smerdato le mutande c'ho il cambio non trovo più la fotocamera ma in teoria la c'è la coppia che scopava il video dello zippaggio scarso ma come ti permetti get to place cioè ma come si permette questo cuglione che mi insulta dove siete tu su uno campana iscrizioni pubbliche eh le hai private allora no devi metterle pubbliche dalle impostazioni si becca la paglia come si mette sotto me so fumato tre canne oddio sto svenendo tre canne me so fumato su fatto su fatto lasagna di satola clerici che si è incazzata che cosa sexy sborro tutto non trovo più la fotocamera però là c'è il video vabbè poi la cerco c'ho le pieno di roba c'ho le chiavi le chiavi di casa le volete volete venire oh cazzo ma questi sono della cantina la mia mamma non può più chiudere la cantina guardate qua questi stronzi mi hanno messo la spazzatura nello zaino la spazzatura qua parte della mano è schifo poi se dovete morire di sete bevete la mano è schifo preferisco sinceramente morire di sete piuttosto che bere solo monster no la vuoi bere? ma che insulti vuoi trovarla che se non ti piace la finisco io la provo allora proviamo la monster io vi dimostro che sa fai vedere anche un po' a me che non l'ho mai la mangoloco è buona infatti questa qui è molto più buona ma la monster normale non è buona mi piace ma questa è un po' più buona che si sente tanto mango si ne bevo ancora un po' ma tanto è un goccio ok vai ora è drogato di monster ragazzi abbiamo drogato di monster ma se questo mango vabbè è buona però è mango mango loco si chiama ma official era questo che scriveva scherzavo era lui era lui che scriveva era il ghetto play c'era lui cavoli era il ghetto ma era il ghetto che scriveva ma secondo voi io me la prendo cavoli non trovo più la fotocamera non trovo più la fotocamera ma l'avete voi la mia fotocamera quella lì quella lì tarocca eh io ne son capace ne sono capace in una tenda perdo la roba spero vedete il numero di canali che si chiama un ma vana veste questo è il suono del sapere non fotti col dio serpente per la fama per i cash per i questo è il suono del sapere non fotti col dio serpente per i soldi per i cash per la fama per i cash per i fan questo è il suono del sapere non fotti col dio serpente ducalo oddio è nudo oddio Fabian che ci fa è nudo hai trovato l'affare no non ho trovato la ma sei proprio sei proprio incapace telecamera sei incapace l'hai trovata ma cosa ho trovato è lì per forza incapace come ti permetti guagliù ti mantengo non lo so l'ho detto a cazzo guarda sotto lì cosa sotto che sto cazzo sotto la merda verde ma come cazzo cerchi guardalo lì eccola allora vediamo se c'è il video dello scopaggio madonna che dici della coppia che scopava vediamo se me l'ha registrato la storia del scopaggio Daniel mentre noi che arrivamo in campese abbiamo visto la casa nel posto stavano scopando ho visto le tette digli anche che la palla 2 ha visto le tette la palla 2 saluta Daniel Daniel io ho visto le tette di quella lì che stava scopando ciao Daniel ed Ems saluti biofactor community biofactor community chi è meglio bionico l'italia o biofactor community bionico l'italia le biofactor 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 lunico l'italia 我們 vediamo un po' se vorrezco a trovarvi il video video un po' lo farai fucca tucca la mostra in realtà è un piscio di Ciccio Gamer farai pesce a pesce ma vanno allora se è bello puoi ridire aspetta se lo dico tra 10 secondi di la frase la mostra in realtà è il pisciociccio gol ok ok allora ragazzi questo è il video di quando siamo partiti perché lo riconosco qui ancora è tutto terreno ma puoi andare avanti più veloce con l'altro eh ci sono tanti video ah qui è il bosco quindi più indietro sto cercando il video dello scopaggio forse è qui forse è questo si vede no no questo porca è quella troia è un altro mi sa no aspetta questo qui è un altro mi sa oppure no no è più indietro vediamo un po' questo no più indietro più indietro più indietro più indietro andrò più avanti perché questo è il contrario dove andare avanti allora ragazzi adesso ve lo trovo qua qua no aspetta più indietro qui 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 vediamo vai ok devo premere ma con il schermetto fa tifo dovresti prendere la schedina e sd e metterla sul telefono così almeno si vede bene ragazzi ma porco diaz non si vede no non lo riesco non riesco a scorrere sta merda ma ti fai prima guardatelo tutto allora questo allora questa è la parte della cazzo di salita grazie per l'iscrizione Marco Caggiano non si è sentito cosa hai risposto rivelarci il numero di canegra su youtube 32 se poi ragazzi te prendono meglio di non mettere video hot la parola cosa ne pensi del riscaldamento col bar una stronzata quel telefono FPI dovrebbe essere la prezione di dati che contiene allora questo questo forse questa 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 no questo qui è la casa questa questo punto vediamo ragazzi forse l'ho trovato si può andare più veloce no non si può andare più veloce dobbiamo guardare tutto ma tanto questa fotocamera fa cagare guardate quanti FPS si si no ma ma lo schermo che fa qui con la fotocamera in realtà il video la fa un po' meglio dai lo schermo questo forse non è FPS raga una vergogna si vede un cazzo però mi cavolo è buono questa c***a che te l'ha anche s*****a ciao dragone no questa cosa l'ho detta dopo si ma è qua dicevi aia perché c'erano le no l'ho detta dopo l'abbiamo andato ancora in prima ma si sente bene comunque si l'audio si questo forse questo qua sei te sul tronco ah allora è prima se ero sul tronco molto prima vediamo questo no questo qui è la casa è dopo vediamo qui vediamo forse questo bella dragone alla clerici si me la farei devo capire se trovo il put no è molto dopo 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 seba eh mi riconoscono subito no 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 non mi interessa a me piace youtube non si riconoscono ma preferisco youtube vediamo è vero ma chi sei ma figurati se quelli mi lasciano entrare no non lo sanno che sei tu e in teoria allora qua è mia nonna quindi in teoria questo dopo non la trovo ma la vedrò poi la compiuta ma in live non c'era in live non l'ho ripreso va bene ma se trovi il punto della live trovi il punto poi anche quello trovo provo a trovare il punto dove dici se vuoi se finisci i soldi dire che lo fanno i fans hai una voce arapante quanto telefono hai? uno due ma lì hai le ore vedi le ore lì si ah ecco appunto vedo l'ora le 16.45 era prima delle 16.45 allora erano erano le 15 ma no ecco no questa è casa sua il video abbiamo iniziato un po' per l'attività che ore erano? chissà che non l'ha registrata ancora vai a dormire non lo so io ho conosciuto quando ho ripetuto il volo 300.000 volte grande luce maggiore della merda ecco ecco qua che ora è? quante ore fa? allora la live l'aveva iniziata sette ore fa si quindi sette ore fa questo è quattro esatto Michele l'uso anche per le chiamate per la scuola quattro ore togli quattro ore e mezza all'ora che siamo ora sette meno quattro fa tre le tre dieci no 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 che ore sono? sono le dieci togli quattro ore e mezza 21 20 19 18 17 le 17 le 17 le 4 e mezza quindi 4 e mezza quindi questo 16 e 12 non è 16 e mezza 15 e 57 16 e mezza vediamo 16 e 45 esatto era tipo lì vediamo allora dobbiamo vedere tutto sto video per trovare il punto andiamo un po' viaggio di ritorno in ripresa video perché il non prende il segnale per la diretta quindi in diretta video ritorneremo a Rapallo attraverso il monte Lasagna come potete vedere ancora sono caduto porco su una radice cazzo di sangue dio boia su una pietra porco dio andiamo andiamo avanti vediamo un po' sentiero sto zoppicando se mi dici di andare più veloce ti uccido la madre te la scozzo dio pover anche se dio in questo momento deve sentiero in discesa ma va a fanculo io pensavo che fosse a vedere scale cazzo di sentiero in discesa come potete vedere gentili spettatori di Rapallo 2 cazzo cazzo si scivola e non è la migliore delle situazioni a essere onesti inizia anche a piovere e la paura fa 90 speriamo di non incontrare qualche bestia qualche animale selvaggio inizia anche un po' a a piovere guarda che sentiero del cazzo aiuto 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 orco dio si scivola eh ma guarda giù orca miseria orca miseria si scivola orca miseria allora eccoci qui sto bastardo che ci fa fare sto sentiero dove passiamo te dovevamo aspettare il sorgere del sole ma è già sotto uno due e genera e il picco di mezzogiorno allora facciamo attenzione qui c'è un filo mamma mia mamma mia no eccoci forza andiamo per questo sentiero ecco qui vedete il segnale degli alpini andiamo eccolo qui qua che roba si scivola avete rocce tutte bagnate tutte bagnate si scivola nelle rocce bagnate e quindi bisogna fare attenzione ecco segnali degli alpino ecco qui ancora i segnali degli alpini adesso non posso le rocce sono tutte bagnate devo anche fare una pisciata ma per due ore niente piscio togliendo i dieci minuti sono cinquanta minuti mamma mia mamma mia che roba che avventure che ecco qui c'è pure una farfalla che vola ecco ha tutte le rocce guarda ancora il segnale dell'alpino tutte le cazzo di rocce l'alberi rotti e tutte ste merde di rocce vedete stanno in mezzo al culo così io uno quando cammina ogni volta le calpesta perché ovviamente sono troppe e ho anche la gamba che come vedete prima sono caduto ecco dio scanto se cado ancora mi fermo sotto la pioggia preferisco ecco no è un video ecco i segnali mamma mia ecco vedete tutta la natura tutti i sentieri tutti che ci sono facciamo attenzione queste rocce sono tutte bagnate potessi ancora morire non diventare più meta l'impostore guarda qui la stella addirittura hanno fatto fatto la stella allegria fratelli ecco mamma mia qua vedete tutte queste rocce sono mezzo al culo porca troia mezzo al culo proprio pure piovendo quindi capite non è mica una situazione da poco non è mica una situazione da poco eh smesso di piovere più o meno eccoci qui purtroppo non ho legato neanche bene i lacci infatti si muovono tutte era meglio fare lo scalzo infatti a questo sono caduto anche perché le scarpe non sono solide e quindi è anche più difficile con il sentiero umido poi ecco guardate qua i falegnami che tagliano la legna guarda che perfezione insomma mica tanto ma vabbè non ho fatto bene qui pure la valanga la frane incredibile spero di non aver perso nulla perché se perdo qualcosa qui dubito che la posso ritrovare come abbiamo visto con gli zingari ah la gamba mi fa male con la caduta non la dovevo fare è fatto male male stella gialla ok ecco qui oh eccoci qui dai qua il sentiero è già abbastanza più piano eccoci qui si vede anche un po' dei monti ah eccolo la centrale elettrica che fa il rumore incredibile e guardate qui quanto alture quanto siamo alti comunque qui se si cade ci si fa male ma noi si prosegue comunque si prosegue oh ecco vedete queste rocce dico sono molto stronze guardate che stronza in mezzo al culo non è possibile c'ho tutto proprio la gamba che è caduta sulla roccia capite su una cazzo di roccia guardate queste rocce qui vedete tutte in mezzo dan fastidio dan fastidio guarda guarda qui adesso qui come si fa ok ci sono sopravvissuti andiamo andate Fabian che si porta la tenda come un mulo io c'ho tutta la spazzatura tutta la munnezza dentro il mio zoino e quindi me la sono stata offerta alla fine offerte tra virgolette e virgolette per pochi allora andiamo un po' ecco qui guardate qua ecco si è interrotta qui abbiamo un paesaggio ambiguo ma comunque ci siamo quasi si è interrotta la registrazione per via del sentiero per via di problemi della memoria della fotocamera ecco qui ci siamo quasi arrivati qui non so qua c'è la centrale IREN la centrale nucleare IREN e adesso scendiamo chissà perché ogni volta che inizia a registrare iniziano a colare la pioggia ma vaffanculo però sono interessato perché qui c'è della bella roba aperto questa centrale che sarebbe secondo me un attimo da visitare più a fondo qui c'è una zona proprio guardate proprio arrugginita non so cosa sia ma guarda la roba quel francello si apre forse si può anche aprire guarda qui rocce ma pensate guarda là c'è pure della legna c'è pure della legna è un po' è un po' brevemente allora qui c'è la ragnatele i ragni addosso c'è i ragni addosso ma vedete qui è tipo una proprietà proprio tipo un pollaio ormai siamo scesi eccoci guarda qui che bello guarda il posto questo oh eccoci eccoli finalmente li ho raggiunti mamma mia andiamo un po' prevedo sangue perché mi è fatto sulla cazzo di pietra sono sulla cazzo di pietra incredibile scendiamo per di qui eccolo li un canestro da basket adesso come fare attenzione e non bisogna scendere di qua e non bisogna scendere dalla strada ma che proprietà privata tua tua mamma tua mamma è proprietà privata eccolo qui tarmark tarmark diamo la consistenza buon canestro allora proprietà privata eh proprietà privata guarda guarda guardalo lì un gatto che corre c'è un gatto che corre qua siamo sulla strada qui viene l'acquozione guarda il gatto e là giù tanta pioggia guarda quante nuvole qua già c'è Garfield il cadavere il cadavere di Garfield non so mangiare poi ecco noi dovremmo essere ora ecco guarda quanta lontana casa tua guarda che bel paesaggio guarda che bel paesaggio qui i pomodori se la spassano qui sopra con i pomodori con tutto incredibile veramente bello guarda contatore acquedotto adesso arriva come avresti fatto dormire senza la tenda mi sarei arrangiato guarda qui è caduto guarda è caduto lo specchietto eh sarei andato sotto un albero e col si perché se fa l'albero non viene là no 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 certo guarda che se vai sotto un albero è asciutto dipende che albero non hai detto se vai sotto un albero è asciutto ok ora arriviamo e quindi quando piove gli alberi dovrebbero morire tutti stai dicendo se non li vanno ma sei un idiota ma la chioma dell'albero copre tutto ma cosa stai dicendo la chioma dell'albero non è un ombrellone ma sì che è un ombrellone una specie di ombrellone ma perché adesso dalle foglie se il vento le scuote capito non c'è vento se no non piove sì che c'è vento cosa vuol dire se c'è vento non piove ecco e in una tempesta quando c'è vento non piove ma che dici ti tiro lo scappagnotto ma cazzo cazzo vabbè capisce una tormenta ti hai vinto perché hai iniziato a dormire ma lì cazzato ci tiro lo scappagnò ancora un'ora ancora un'ora vabbè meglio fatemi dormire ancora un'ora eh scusa io volevo dormire ancora un'ora e mi ci mancherebbe altro ancora un'ora e guarda cosa sarebbe successo non pioveva non è passata un'ora si che è passata un'ora adesso sono le 8 sono le 7.30 erano le 6 del mattino erano le 7 38 minuti abbiamo fatto tutto questo percorso ma non è vero la vuoi tenere in ruota? no però lo tengo questo questo è quello che ci vuole per entrare nel il gay il mutuo alz esatto che poi comunque siamo sopravvissuti tutta la notte non siamo ancora arrivati e come si fa a mollare qui? la la challenge quando è che finisce? eh se non muori entro 40 anni eh vabbè ma sì no comunque a me non è senso oh madonna guarda qua comunisti pensa a te allora come è stata la tua colazione madonna che grande colazione eh per un bel po' di tempo sì per tipo un minuto ma che un minuto secondo me una notte intera sì ah ci sono anche cose scientifiche eh certo tieni Fabian cassa è meritata ma come ti permetti bastardo e poi vabbè non so quanto sia in realtà un premio un premio? eh insomma è schiacciata lì scorreggia ah non la vuoi tu no no sì non la voglio ma l'hai mangiata te ti do l'altra parte ma non la voglio tu la voglio è un ah complimenti poi mi dici raccogli la monsella a fuoco a proposito mandami quel materiale no mandami quel materiale no mi serve per il reportage staff del ghetto vabbè lo puoi rimettere eh lo puoi mettere però lo devo prendere per il video completo fare la long e la short no no questo qui proprio long proprio ore e ore questo durerà sarà un video di otto ore non troppo otto ore ma un'ora tom magari no no allora fai il video completo esatto dura tante ore tante ore puoi fare la short e cerchi di riassumere metterò i best moments nella short io non ti invidio a voler editare otto ore di video e riassumerli nel solo prendo tutto quello lì nella gopro nelle robe no forse è meglio quello delle live ma non importa alla gente non piace quando si parla di video loro vogliono vedere il contenuto però qui cioè siamo in una zona veramente paleolitica con i rami che proteggono dalla pioggia assieme alle foglie e non permettono che essa passi ecco mamma mia vabbè cazzata detta vabbè il fatto è che puoi dire quello che vuoi che tanto si interaggiamo ah ma che no ho fatto una foto qui e quanto manco di una foto tua ovviamente almeno cinque ore di sonno ce le siamo guadagnate tu sicuro tu sicuro io una forse dovrei comprarmi l'orologino per vedere quanto cazzo d'oro cinque ore di sonno guadagnate eh io non so io mi sono svegliato tra tipo alle cinque del mattino però per l'edit non è meglio aspettare il video col drone si si può sempre aggiungere dopo ma Fabia ma stai scherzando ma tu che editi da una vita video e vi fai un'affermazione del genere quando lo carichi scandalizzato no tu vi hai detto prima è ovvio che nel montaggio puoi mettere una clip prima scandaloso scandaloso lui hai detto due anni di editing due anni di editing allora stai mi sentire metti di dire cosa c'è due anni di editing oh dio due anni a parte che insurso in Vegas è un casino se va giù no no io uso wordersault il mora 10 si per chi per chi lo usi per quale ragione lo usi per editare i video come l'hai scaricato legalmente legalmente guarda che bella vista è vero andiamo a vedere me frego guarda che bella vista sì credo di sì non è non è quella rossa guarda che bel panorama mirate il panorama ora tagga Gabi vai Fabio un po' di pubblicità esatto Gabi Leib andiamo o no? perché ho detto Gabi Leib se mi sto a ridere tu sei un ebro no che razzismo che razzismo moderno complimenti più piaccio più piaccio guarda che pace che silenzio che silenzio che pace che silenzio che silenzio no si vede vai foto napoletana ultimax vai fatta non pensate guarda qui tre auto di due non parla che vuole arrivare il sette mattina ma che cazzo in effetti in effetti saranno tutti dormendo adesso nelle nostre abitazioni ma campeggio in solitaria l'hai mai fatto dovida dovic trattino basso art in solitaria devo farlo oggi ma ci se vuoi quindi com'è il campeggio in solitaria infatti come fai già in treno sto scherzando sto scherzando è stato bello è stato bello in realtà lo rifarei però in un altro posto a lontano non lontano troppo ma sempre nella Liguria tipo a Genova non so non dovete pensare con gli iscritti e gli iscritti chi vuoi che venga è andata con Rapallo 2 campeggio con Rapallo 2 Rapallo 2 e il diretto ci starebbe chi viene se volete venire se volete venire fare campeggio con noi scrivetemelo su Instagram se siete di Rapallo ma anche di Chiavari volete venire qua e pagare non pagate il treno dai vi prego pagate il treno per venire fino a Rapallo da Chiavari insomma parla quello che un anno fa pagava il treno per cosa anche te lo pagavi per andare a Santa Margherita no 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 sì che lo pagavi lo pagavi tu e io e io ragazzi qua siamo arrivati a un livello di vergogna tale che stanno facendo la gara a chi non pagava il treno tu lo pagavi sei un coglione no tu lo pagavi sei un coglione no io non lo pagavo sono figo e non lo pago il treno non è per essere figo esatto è inutile pagare il treno da Rapallo a Santa Margherita è inutile perché il servizio è gratuito no paghi 1 euro e 60 quanto è 90 da Rapallo a Santa Margherita 2 euro praticamente ma è una vergogna sono 2 minuti 2 minuti di treno ma neanche ma che cazzo si fa neanche il controllore si sforza di passare per due minuti appunto cioè vai prima da anche Lavagna anche lì non passano a Sori non passano a Genova quasi 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 non passano ma secondo questa teoria puoi fare Rapallo Milano sperando che non passi no no invece lì passa subito invece no è che lì è piccolo è bella che se prendi un regionale ma da Rapallo a Rapallo 2 quanto ci vuole eh ce ne vuole vieni vieni bisogna passare per i territori toscani lo avete detto Rapallo 2 si Rapolano Terme vuoi dire no Rapallo 2 ma 2 è proprio parte del nome oppure Rapallo per una seconda io l'ho già spiegato perché mi chiamo Rapallo 2 lo rispiego rispieghi io un tempo su youtube c'era un filosofo moderno di nome Giuseppe Simone che aveva e qui c'era la coppia che scopava più sopra la coppia dello scopaggio e quindi e quindi ho a posto di Salento messo Rapallo e visto che era già preso l'1 ho messo il 2 guarda guarda che gatto quel gatto ma come ti permetti ma parli ancora tu che paghi il treno paghi il treno e parli oddio come non ti vatti porco Giuda si scivola ma è la foto si scivola visto stava per cadere logico ma com'è ma vaffanculo se avevo paura mamma mia gargamella non passare di lì e dove passo ma dove passo ma vai a affanculo va bene allora calmi guarda qui che cosa c'è qui per robe strane tutte robe strane mamma mia ora qui tutto il fieno il fieno di Rapallo è tutto qua tutto il fieno esistente a Rapallo è qui ecco sentite il mio regalo per voi non l'avete sentito vabbè andiamo avanti e qui mi sto vedete poggiando qua perché se no scivolo che mi sono caduto mi sono fatto male alla gamba un dolore cane che cosa si pretende guarda qui che posto posto ambiguo un posto ambiguo tutte le rocce rotte parla i sentieri che portano chissà dove le coppie le coppie probabilmente vengono qui per lo scopaggio si radunano lì e scopano i santa pace i finocchi i froci le lesbiche probabilmente si fanno un esilio qui e fanno tutte le loro zozzerie che le porteranno all'inferno della lussuria dove sono finiti sono rimasto davvero così indietro sono rimasto indietro e arrivo quando arriviamo da casa mia in silenzio non parli non dici niente e quando superi casa mia ti saluto poi iniziare a fare il tuo commentario ok ok e non si cazzano loro ecco devi spiegare ma ancora e se urlo e beh in effetti è una cosa un po' stupida da fare lo dico urlare a caso è una cosa un po' stupida e beh certo però tu mi hai spento il contatore quando sei venuto di certo non è urlare parecchio quindi devo spegnerti il contatore per pareggiare trova non sono anche io dove sia quindi proprio non ho fatto mamma mia vabbè andiamo sto per cadere oddio andiamo andiamo mamma mia cado 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 oddio cado oddio cado oddio cado oddio santo sta per cadere oddio, 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 eccola lì la casa andiamo, scendiamo qui, aiuto, devo far piano perché sto per morire, sto per morire per 20 visualizzazioni sto per morire, cazzo devo fare piano la gamba, fa male la gamba, qua cosa ci sono i giochi per i bambini, scivolo, 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 scivolo e non c'è il posto per aggrapparsi se qua cado muoio, muoio vado di sotto vedete, poi scivolo nel tetto, finiscono i giardini degli estranei la mia salma morta con tutte le budella che fuoriescono assieme a tutto poi i cadaveri si sa che dopo eiaculano quindi sporco pure di sperma perché escono dai cadaveri appena morti per svuotare le sacche aiuto mamma mia allora allora guarda qui che villoni, poi c'è gente ricca c'è gente ricchissima mi sa che adesso però stiamo per entrare nella dimora del vietto quindi ti rispetto a qui via stare zitto stare zitto vai vai ruove che chiude mi devo andare prima io mi sono lento mi fa zappare la gamba ci ho zoppicato ci ho zoppicato prima tu la zoppico ancora ma se mi son fatto male la gamba prima cadendo eccoci 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 qui mamma mia mia amicità dell'anticappato c'è fuori da guardare l'anticappato qua guarda quello qui è pure rotto è pure rotto guarda è rotto guarda che bella cariola lampione rotto lampeggia 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 lampeggio ma se c'è il lampeggio è rotto ma se non li cari è un'osservazione guardate qui gigli questo è un videomessaggio per me stesso è un videomessaggio che caricherò su youtube per me stesso se poi lo vedono qualcuno lo apprezzano buon per loro guarda la lente si è madonna qui tutto deve essere documentato anche questa palma che veramente trattata malissimo con tutti i vasi rotti guarda qui il vaso rotto e anche una corda ma che silenzio devo fare non siamo mica ancora a casa tua ha detto di no guarda qui guarda che bel marmo che bel marmo c'è il vento bastardo ah ma il microfono devo isolarlo è meno male se no piove eh visto visto cosa tu dicevi piove viene il diluvio non è venuto niente no non l'ho detto io l'ha detto lui l'ho detto io vedi se aspettavamo un'ora guarda la situazione come era tranquillo e vabbè cinque ore è già tutto finito e la cosa hanno appeso un fazzoletto un sacchetto sopra un albero ma come hanno fatto quando lì sai da quanto tempo? due anni che è ancora lì nel mio mio caso di ciclo adri ci chiediamo ancora cosa ci sia dentro e perchè è là sopra? non lo sappiamo sarà volato ce l'ho appeso lì assurdo roba dall'altro mondo nooo a casa a casa o in tenda? si no tornerò quando non puoi quindi se trovi anche qualcosa di mio non prenderlo adesso bisogna stare zitti adesso ah non è questo ma l'abbiamo staccato il ferro che è a terra? no due cose bisogna andare a riprendere io non andrò a riprendere nulla tu andrai a riprenderle no 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 ok ok le andiamo a riprendere insieme puntaci guarda ora si è inizio e si è inizio per cazzare la panamera prima te prima te prima te qui guarda qui l'autostrada guarda qui parmo rotto guarda qui questo parmo rotto parmo rotto ah qui mi devo di nuovo fare guarda qui guarda qui guarda qui questa roccia qui adesso cade guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui si muove guarda faccio surf ma sei la posto giù? no? oh ah non lo so ecco vedete adesso questo pino mi sta buttando tutta la la pioggia addosso pino bastardo guarda che bello quello lì è legno utile bellissimo ah andiamo andiamo che fatica questo cos'è? cos'è questo? cos'è questo? cos'è questo? e che mi muovo? e che mi muovo? eeeh 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 eh insomma non lo dico quello dico che ho la gamba scheggiata e allora il cane chi glielo dice di stare zitto eh eh ecco qui adesso il cane abbaglia sveglierà tutti tutto avvicinato guardate che bello oh bella oh con giuda stavo cadendo guarda il bastardo si è girato stavo cadendo di nuovo che miseria guarda il bastardo guarda il bastardo guarda la strada è quella che hai fatto prima quindi ti devo dire ma oh un momento epico finalmente una degna ricompensa con voi l'unora password invitemelo a me inviatevelo per me ma ci sarà di venti è l'email oh mio dio finalmente membro dello staff del ghetto cosa la censura la magari a parte ogni volta mi chiede la certificazione mi mandava il messaggio ma va la taglio ovviamente non la taglio come non la taglio la taglio quando dovrai fare il login chiamami così ti dico il codice incredibile ce l'ho fatta grazie mille grazie di tutto grazie del pranzo e della cena e del dormire è vero dell'antenda è vero grazie anche dell'alloggio vabbè vattene via se basta un piacere conoscerti famia è stato un bel viaggio andiamo la felpa la felpa la felpa saluti scendiamo guarda qui che belle piante che ci sono guarda qui che belle piante muoviti come muoviti come muoviti come muoviti mi fa male la gamba mi fa male la gamba mi fa male la gamba anche a me fa male la gamba scusa eh no ma io ho scheggiato io sono caduto sulla roccia ho visto ero dietro ho fatto anche il video c'è anche il video e ti ho visto dietro ero dietro mi sono fatto un male cane a questo vado piano guarda che bello non è che cambia il dolore ma che bello guarda che bello orto devi scendere tale da stesso modo guarda che bello orto vabbè sì che poi scendiamo dall'altro sentiero in maniera più ecco guarda qui quanta roba da scendere aspettate sento una presenza che pu... singhi la presenza te la do io la muoviti eeeh devo scendere vedete come i granchi come i granchi perché sennò non ce la faccio come i granchi devo scendere come i granchi e sennò ma ammazzo ma ammazzo e chi mi aiuta? Fabian vedete sì che qui ancora possono arrivare i soccorsi ma... ma... ma ne dubito ne dubito che mi venga qualcuno a salvare se morissi adesso poi al ritorno sapete che sfiga andiamo attenzione vamo è difficile è difficile guarda quante scale guarda qui che bel fiore guarda che bel fiore aiuto 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 si era interrotta la registrazione guardate qui mi devo aggrappare a sto materasso arruggito per scendere sta succedendo tre robe strane tre robe strane che mi devo aggrappare qui mamma mia guarda che... aspettate un attimo c'è un casino qui guarda qui la cipolle questo è il nacciolo delle cipolle incredibile incredibile qua tutto hanno legato con delle tubi un'ottima idea anche se mia nonna prendiamo spesso iniziativa in mele rapallo 2 eccolo lì là c'è il fabian guarda il cordicello eccolo qui lo stanio che bello che adesso si riempie con la pioggia così verranno le rane a scopare a fare i figli a fare i girini a fare tutto le bisce verranno a bere i cinghiali l'ecosistema sta scala è rotta arrugginita l'ecosistema così si riempie di nuove bestie nuove creature del signore ecco qui tutto rotto stiamo tornando guarda che bella vernice bella verniciatura qua non ci si siete? giocattoli dei bambini anche di là sei curioso di vedere cosa c'è ma scendiamo di qui ma hai avviato una live? no è un video guarda tutto avvicinato si sveglia è strozzato è strozzato si è strozzato il cane si è strozzato si è strozzato si è strozzato il cane hai visto? hai visto? si è strozzato si è strozzato per trabagliare una godura immensa è povero ma l'intende è così impara da bagliare capito? si sta zitta quella cagna guarda qui quanta roba tutta la legna è la stessa roba di prima è la stessa identica guarda qui tutto rotto guarda tutti i pezzi rotti mamma mia che hanno demolito delle cose qui incredibile cioè guarda la bellezza naturalistica di questo paesaggio non lo rivedrai per molti mesi perché sarai rintanato in casa a studiare non vedrai più questa bellezza anche sto pomeriggio te sarai in casa a leggere e a studiare come me anche io però a studiare e non vedremo più sto paesaggio per almeno il prossimo venerdì o sabato o anche secondo me di più questo cos'è? un pezzo di mattone madonna quindi insomma passerà tanto tempo si che vabbè Ugo Foscolo comunque tu sai qualcosa di Ugo Foscolo? ancora guarda com'è felice guarda com'è felice guarda com'è felice quel cane guardalo 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 pure di lì vedeva venire si è spinto da abbaiare fin qui ci vuole salutare eeeh cosa c'è lì? il fumo hanno fatto un falò guarda guarda hanno fatto un falò stanno accendendo qualcosa stanno bruciando qualcosa guarda 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 hanno bruciato tutta la spazzatura tutta la munnezza guarda guarda com'è brucia guarda com'è brucia tutta la spazzatura andiamo andiamo l'hanno bruciata perchè così non la devono buttare perchè qui i bidoni della spazzatura non ci sono giustamente l'hanno buttata guarda lì andiamo andiamo non sbuca non sbuca l'hanno tenuto dentro allora dovrebbero levarlo il cartello quando non c'è il cane ma perchè? scusa e se guarda questo prova a tirare su qualcosa l'abbiamo già fatto? guarda guarda l'abbiamo già fatto ma dai qua sotto potremmo scendere un attimo andare a vedere cosa c'è guarda ora via non ti va? ti sembri una faccia di una persona che vuole continuare a fare a scendere io voglio andare a casa ma ritrovare a dormire se non riesco a fare qualcosa studiare Ugo Foscolo? no che cazzo mi dice che è Ugo Foscolo? storia devo studiare ah non è ancora finito no per fortuna come per fortuna non è ancora finito? si perchè così Ugo Foscolo l'ha fatto più avanti si fa più tempo Ugo Foscolo a parte che lo inizierei oggi comunque a vedere un video e che poi quest'anno abbiamo l'esame di maturità come pensi l'importante è essere assunti secondo me è vero poi quando sei assunto già magari c'è più clemenza con un 60 ti fanno andare speriamo se io devi fare l'esame di quinta due volte non è che ci avrei tanta voglia ecco lì guardate questo cane mamma mia quanto è brutto quanto è brutto mamma mia sembra Rubino sembra Rubino che brutto poverino in realtà è dolce quel cane sai quanto è tenero quando lo accarezzi sì non lo so perchè non ho mai avuto un piccolo cane così sono bellissimi ma quelli lì hanno dei problemi con hanno un tumore no hanno un problema al naso tutti i cani così hanno un problema al naso guarda il cavo della luce Fabian è un cavo della luce madonna ma cosa guardalo guarda il cavo della luce proprietà privata ma vaffanculo allora il comunismo non c'è succhiatemelo vedete se non ci fosse stata la proprietà privata lì quest'ora c'era il comunismo guarda qua hanno hanno forza hanno forzato la bici qua hanno distrutto il cavalletto che me ne frega me muovi ok andiamo eh che è fortunato quello che gli hanno rubato eh sì eh gli hanno rubato la bici perchè hanno distrutto il cavalletto o magari ha perso la chiave e ha dovuto prenderla così modarsi eccoci siamo quasi tornati a casa ormai e vedi per i bidoni uno deve scendere fin lì e non ha senso è troppo troppo faticoso uno deve scendere fin lì non ha senso cosa vuol dire cosa vuol dire cosa vuol dire è buttarlo scusa guarda prendiamo l'aspirapolvere portiamocela a casa ti prendo l'aspirapolvere la bicicletta ma come ti permetti perchè siamo in coglioni Fabian guarda una bici vai una bicicletta Fabian non la vedrai più sarai ritalato in casa a studiare non vedrai più una bicicletta non hai neanche una bicicletta se l'avevo quindi non possiamo andare a fare video in bici dovevo passare una macchina a occhio Fabian stai attento attento guarda guarda che mono investe tra poco lo investiva tra poco lo investiva che vuol dire Fabian facciamo colazione fuori te la offro io vorrei andare a dormire ma che dormire non dormirei niente è vero vorrai studiare storia e poi Ugo Foscolo tutta la vita le opere le omissioni è quello che voglio fare è quello che voglio fare è quello che voglio fare tutto di Ugo Foscolo tutto 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 dovevi sapere anche quante volte ha cagato tante volte ha pisciato tutto oh mi sa che mi stanno chiamando eh sì mi stanno chiamando questa è la tua mamma? sì mi stanno chiamando si è interrotta la registrazione perché giustamente erano preoccupati ci hanno chiamato qui abbiamo ancora Fabian guarda Fabian una vespa azzurra oddio un ponte oddio oddio hai visto? io non ti rispondo ma perché non mi rispondi? cosa dico di sbagliato? appunto proprio per quello dici cosa proprio giusta è certo che c'è un ponte che cazzo vuol dire? non lo vedrai più quando sarai in casa rinternata a studiare no 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 hai molti coglioni per l'esame di quinta l'esame fondamentale che garantirà il tuo futuro nella vita sì il tuo successo la tua carriera lo so lo so tutto ripete da quel cazzo di foglio ma non è vero così poi muori 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 mentalmente i suicidi come hanno fatto tutti gli studenti che non hanno passato sono messi un cacca al collo nella loro stanza hanno detto basta ho fallito e sono impiccato vuoi fare questa fine? no 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 che faccio io questa fine? devi sopravvivere per questo Fabian guarda questa macchina nera ah non la vedrai più quando sarai in casa a studiare mi coglioni al mattino porca di io proprio addirittura non è che ho tante energie io l'avevo detto di lasciarmi dormire e mamma che colpa mia mi sento sudando a me altre due ore qua dobbiamo scendere un giorno dobbiamo scendere qui con un canotto e andare fino dove c'è il lago e navigarlo a nuoto ma se non c'è acqua nemmeno tra non c'è acqua ti nemmeno il giorno qua ci dobbiamo scendere dobbiamo scendere come ci siamo scesi nelle fogne poi te non sei venuto dentro il posto io ci sono andato dentro il tubo c'è anche il video si l'ho visto lì c'è il tubo non c'era nulla c'era solo un tubo però lì sai cosa si può fare è tutto nulla cioè nel senso lì si può spacciare droga si può fare tutto perché non è controllato poi quando viene su eh no è abbandonato non c'è l'acqua di fogna l'acqua di fogna è l'acqua di fogna arriva dall'acqua delle montagne è abbandonato non dall'acqua di fogna acqua e montagna occhio c'è una macchina oh madonna occhio c'è una macchina Fabian stai attento vedete questo è quello che succede due ore chiedevo di sonno ma non è colpa mia non mi sono state concesse io volevo dormire ma non è colpa mia non mi devi storturare a me ma te avresti voluto dormire di più sì ero lì che stavo dormendo infatti lui vabbè si sono svegliati ma lì certo va bene così alla fine sì anche io sono ma anche a me va bene però dico oddio guarda che fiori cos'è questa lavanda? no mirtillo no non è mirtillo ciliegia un albero di kiwi che poi non esiste l'albero di kiwi sì che sì no è una pianta tipo che si arrampica non è vero è un albero 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 esiste un albero a cui te prendi e strappi kiwi sì ma quando mai ma sei impazzito Fabian non lo so aspetta è una cosa che si arrampica è come i limoni è come una pianta che cazzo vuol dire? hai detto non è un albero è tipo una pianta arrampicante un albero di kiwi ma quando mai? che intendevo albero anche quella lì prendiamo il bus cosa vuol fermare il bus? fermata del bus passale tra un'ora perché tra un'ora? passa alle 8.41 se vuoi ci fermiamo qui fino alle 8.41 prendiamo il bus ma no facciamo prima da arrivare che ore sono? è 23 le 8.23 stavamo lì per music art corsi di musica studio oh guarda corsi di musica studio di registrazione quindi qua possiamo fare una canzone per il canale no? qui si può fare una canzone per il canale pagare eh? quanta euro per una musica possiamo registrare lì c'è lo studio musicale possiamo registrare la nostra canzone sarà l'autotune tutto la base io non penso mai finora non hai pensato di cantare non penso di cantare se vuoi farti un rap ok la canzone sarà questa io benvenuti nel canale di Raffallo e qui ci siete uno sballo nel canale noi andiamo a fare le interviste vaffanculo a tutte le riviste sul giornale noi non andiamo su youtube i video carichiamo e se a te la cosa non tange ti butto un calcio nel glande perchè? il canale di Raffallo è tutto uno sballo il giornale non abbiamo i video carichiamo e se a te la cosa non ti tange ti tiro un calcio nel glande si ho capito si ripetono sempre le stracce del ritmo a parlare di sega a parlare di money a parlare di piante a parlare di figa non lo fa nemmeno rima la pallo 2 conosciuta in tutto il mondo vaffagulo Rondo nelle case tutti lo sanno al canale di Raffallo 2 si iscriveranno e se tu al canale non ti iscriverai probabilmente a casa ti inculerai benvenuti nel canale di Raffallo e basta no perchè i folletti di Villalina ma cos'è tanto non è che non è che c'è qualcosa comunque dovessi provare a creare un canale un canale e usare una maschera ma va ma perchè dovrei seriamente rischiare il permaban per questa cagata ma sei già permaban che cazzo ti canta? no non solo permaban sono sospeso a tempo indeterminato ah e perchè ti dicono che sei permaban? non lo so permaban secondo me vuol dire perma vuol dire per sempre eh si e ban vuol dire bloccato quindi bloccato per sempre a me è arrivata un'email dove c'è scritto sospeso a tempo indeterminato non c'è scritto sei bannato dal sito per sempre a tempo indeterminato vuol dire proprio per sempre indeterminato vuol dire che non sospeso non è bannato sospeso? non puoi usare nulla inabilità è un ban? ha lo stesso significato sospeso ma non ha lo stesso significato si soprattutto se a fianco c'è sospeso a tempo indeterminato è sospeso vuol dire la stessa cosa sospeso è sospeso se c'è solo sospeso è un conto guarda che sospeso è un conto leggiamo gli articoli la classifica 5x1000 una torta di mezzo milione 120 ma cosa perchè è una è una delle cartelle a te non ti interessa perchè lui vuole arrivare a casa perchè? come perchè? come perchè? cosa farai a casa nella tua triste stanza? dormire magari via mentre fare la roba per domani dato che abbiamo tre ore di matematica e due ore di italiano ah è vero bisogna fare i compiti io matematica l'ho fatto bisogna fare i compiti è lunga? no allora infatti ce ne sono solo un batterio di esercizio allora vabbè sono semplici l'importante è quello ma pensate ormai siamo tornati guarda c'è una svastica c'è una svastica quella è la svastica? no come è la svastica? no che cos'è? guarda st'auto non si ferma è un segno fatto a caso allora vediamo un po' schimbio associa di politica ma cosa vuol dire sto ma perchè fanno sti graffiti che non vogliono dire nulla perchè sono stupiti ma pensa che e quindi tornato a casa cosa farai Fabio? dormi ma sei un pazzo come sono un pazzo? non dormi più in cancro qui cosa c'è? sigarette guarda qui non capisco erano le due erano le tre c'hanno tutto il cancro guarda ci sono tutte persone col cancro ma c'è gente col cancro guarda quel bambino col cancro ci sono tutte persone col cancro perchè le fumano? se hanno il cancro perchè le fumano? cosa vuol dire? cosa vuol dire? cosa vuol dire? niente se nella copertina io non voglio fumare roba dove c'è sulla copertina un bambino morto ma perchè tu sei una persona normale ok? quelli che fumano no hanno dei problemi non pensano che fumare faccia male ma si te lo pensano se chiedi a un fumatore se fumare fa male lui ti dice si lo so fuma lo stesso vuol dire fregarsene ah vuole morire che ne sai tu ma e lui dirà anche che non è a lungo termine nel senso che fuma tanto che ti dà tanto di quelle affrontate si ma c'è la copertina di un bambino morto col cancro l'hai visto? si lo so anche di quella donna morta col cancro lo so con il tubo respiratorio in ospedale a morire a soffrire e nonostante ciò le fumano ma la gente è pazza ma va? assurdo comunque parlando di altro hai la mia coca quale coca? ah ho capito cosa ti riferisci aspetta ma dobbiamo buttare la spazzatura che c'è nello zaino in un bidone si dobbiamo far vedere a tutti quanta spazzatura abbiamo consumato specialmente te io? io no si te mi hai consumato un sacco di spazzatura ah si assolutamente guarda che roba guarda che bella la strada vuota senza niente anche quando siamo venuti non era vuota però era giorno adesso è mattina è sempre giorno non è giorno mattina è diversa è giorno è giorno scusami quando è il pomeriggio ecco guarda vedi vedi qui c'è un'unghia c'è un'unghia rotta buffita che cazzo che cazzo vuol dire? c'è un'unghia ammuffita ma cosa vuol dire? che se fumi ti vede un'unghia cosa c'è? cosa c'entra l'unghia ammuffita? proprietà privata questi comunisti l'hanno distrutta madonna cosa? non guarderò in giù le porteche sono sono otto ore questa parte sarà nel mezzo probabilmente ah ma tanto le otto ore non guarderò tutte il percorso guarda che se viene tagliato bene diventa quasi un film ma un film di otto ore film di otto ore comunque questo è un videomessaggio no madonna non è per forza una cosa che deve fare popolarità no questo me ne frega ma è il fatto che perché perché devi fare un videomessaggio? quale è il tempo? eh ricordare i momenti della vita quando morirò eh li abbiamo già ricordati vietato introdurre cani allora nessuno può entrare qui quando morirai avrai un video con te che dici guarda ho un cartello dove ci ha buttato un cani ma vabbè che cazzo i miei nipoti magari vedranno vedranno il suo non bastava una live di otto ore non bastava verrà l'antico nonno disnonno che a città ancora poco evolute vedrà come le moto facevano casino ma tutti immagini che in futuro secondo te ci sarà ancora youtube? secondo me no è probabile che non c'è più se in dieci anni è stato creato in dieci anni si distruggi anche in meno guarda tutto bagnato ma probabilmente i video li esporteranno da qualche parte dici no magari la famiglia può sforzarle beh penso che magari rinnovano ma comunque guarda anche quando chiudo una piattaforma tipo periscope cioè periscope che io ci facevo le live le live le posso rivedere non posso più farci le dirette ma le live le posso rivedere quindi secondo me non è una tutura quella no no chiuso perché tu non puoi più su periscope caricare e non puoi neanche esplorare per vedere le live degli altri puoi vedere solo le tue e beh ah quindi secondo me sarà tipo questa cosa sarà tipo così attraversiamo di qua l'atteria ora che io esco sempre a quest'ora ed è sempre così vuoi tirare di qua? ma no andiamo di qui e urlano sempre così come dei pazzi se no buttiamo la la spazzatura ma non l'hai buttata lì? no ma guarda che ce n'ho un sacco ce n'ho un sacco allora Fabian sei contento di essere arrivato quasi a casa? anche sempre quasi però non vorresti vedere tutta la spazzatura che abbiamo accumulato? no non ne frega niente come non te ne frega niente? perchè me ne dovevo fregare? occhio c'è una moto no è davanti a noi l'affrontiamo? non può venire in qua affrontiamo quella moto bastarda vai vieni qui vieni affronta è andata via perchè non può venire qua cazzo c'è il vento c'è il vento eh devo ogni volta isolare il vento così ma non serve a moto oddio c'è una macchina oddio stai attento Fabian no 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 oddio per poco non ti vestivo stessa che mia nonna sa faccia io sono curioso di sapere se c'è qualcosa di vivere a casa mia ma credo di no mi stanno andando a messa si come mia mamma che mi ha chiamato prima mi ha detto vado a messa e io gli ho riso in faccia va a messa chi è che va a messa nel 2021? ormai sono tutti gay e froci vabbè guarda qua mi vido nelle nostre strade è stato è stato è stato è stato un piaccio adesso voglio farvi vedere se non mi ho indestito ah no qui vedete no qui è chiuso chiuso allora volevo far vedere quanta spazzatura abbiamo accumulato poco male guarda qui guarda qui guarda qui guarda lui guarda qui guard questa spazzatura dire 않아요 sei 頂 ci sono spazzatura guarda qui sto qua fino ora per guarda patatine tutto dentro il mio zaino guarda tutte gocciolanti eh con l'acqua dentro questo qui lo uso per la scuola guarda le rebbe ecco tornato a casa quindi in sostanza è stata una bellissima esperienza di campeggio sul monte lasagna un'esperienza che penso di coltivare magari con altre esperienze e niente ciao ecco guardate qui i danni della ferita non sapevo che c'era del sangue e infatti purtroppo mi sono fatto male però vabbè pazienza è stato comunque bello però vedete porca miseria 2 agosto 2022 ho appena finito di fare questo video beh i danni del campeggio sono peggiorati strada facendo adesso la mia gamba è completamente ingessata ma non è questo ora chiameremo davide massone e gli chiederemo i video del drone all'istante perché non me li ha voluti dare e adesso lo chiamiamo gli chiediamo i video del drone vediamo se vediamo se ci risponde vediamo se ci risponde vediamo se ci risponde secondo voi adesso lo chiamiamo e gli dico i video del drone non risponde risponde senza risposta bene caro davide massone risponde 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 caro davide massone non finirai in questo video nel finale nel presente volevo dire il 2 febbraio 2022 non sarai presente nel video e perché non mi puoi dare il video del drone? caro Lorenzo foto dammi il video del drone ormai non me li potete più dare anzi se me li date adesso mi arrabbio ancora di più se me li date adesso che ho la gamma ingessata mi arrabbio ancora di più perché ho aspettato dal 25 ottobre 2021 che aspetto ancora i video del drone dal 25 ottobre 2021 porco giuda a Grazie a tutti. Grazie a tutti.